Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. De Gasperi, di Giulio Andreotti. Cinquant'anni dopo la sua morte, merita di essere ricordato, non è molto frequente nella storia italiana, anche perché vi è un susseguirsi di persone, di situazioni, di ambienti e la cosa importante è di tenere vive le grandi linee. Ritengo però che quel che riguarda il presidente Alcide De Gasperi, pur avendo avuto un periodo di vita pubblica, almeno di vita pubblica governativo romana, di dieci anni, quindi non è moltissimo, debba essere fatta una eccezione per riprendere le fila di un discorso di carattere storico nel grande travolgimento che c'è stato prima da parte del fascismo nei confronti di tutti i partiti democratici e poi la fine, dopo venti anni del fascismo, è la ripresa con alcune linee di continuità e con molte linee di novità. In questo quadro va inserito De Gasperi che aveva rispetto agli uomini politici italiani direi una caratteristica particolare, cioè essendo stato fino alla fine della prima guerra mondiale suddito dell'Austria, non ebbe quelle limitazioni che i cattolici italiani ebbero a causa di portapia, cioè a causa dell'occupazione da parte dell'esercito italiano dello Stato Pontificio. Fu un momento lungo di reazione all'inizio totale, man mano un po' attenuata, ma si può dire che fino al 1929, quando vi fu l'accordo tra Chiesa e Stato, i cattolici italiani ebbero sempre questa posizione di diminuzio, la scelta cioè di obbedire al Papa condividendone la posizione in qualche maniera di esilio civile o invece dedicarsi completamente a pieno diritto e con gli stessi doveri di tutti gli altri cittadini alla vita pubblica. De Gattoli viene nella vita pubblica italiana dopo il ritorno del Trentino all'Italia, anzi la guerra finisce il novembre del 18, ma le procedure, la burocrazia è formidabile anche nel campo internazionale, le procedure furono tali per cui non poteva partecipare alle elezioni del 1919, le prime elezioni che furono fatte con il sistema proporzionale e che il nuovo partito dei cattolici, il partito popolare italiano, vinse con più di cento deputati. De Gasperi viene nella vita parlamentare nel 1921, le elezioni del 1921, però già sia per un certo fascino che derivava da rappresentare l'Italia prima irredenta, sia per una caratteristica che altri non avevano, cioè una esperienza di vita internazionale, di Parlamento austriaco, di Parlamento ungherese, di rapporti con le nazionalità che facevano parte appunto di questa realtà austrungalica. La qualificazione di De Gasperi viene da queste sue tipicità e io penso però che più di tutto quello per cui lo stiamo adesso a ricordare derivi dal suo eccezionale temperamento morale e da una linearità che spesso non si ravvisa nel mondo politico. De Gasperi nasce povero. Suo padre è un gendarme in servizio nel piccolissimo Pieve Tesino, nella provincia di Trento, e frequenta gli studi con sacrificio personale, con moltissimo impegno, senza alcun sostegno che potesse agevolare la sua formazione. Però avverte subito una vocazione sociale. Molti che conoscono solo De Gasperi presidente del Consiglio, De Gasperi di ministro, De Gasperi attore di politica internazionale, non sono portati a pensare agli anni di formazione quando questo studente intanto avverte subito una vocazione sindacale, cioè avverte la necessità di far sì che i più poveri avessero una tutela e tra i più poveri prende a interessarsi e a prediligere i tagliatori di legna per i quali organizza anche uno sciopero. Lui quasi ragazzino organizza uno sciopero per fare in modo che il periodo di lavoro e il salario fosse meno da fame. Subito dopo va a studiare a Isbruck, che era la sede naturale di coloro che venivano da Trento, e lì vi è una sua forte vivacità nei movimenti studenteschi. La campagna più forte che gli studenti facevano era poi per avere una università a Isbruck e cercavano di farla con questa campagna, anche con quella vivacità che è propria degli studenti. Così per la prima volta negato di conoscere i prigioni, perché la retata della polizia non guarda troppo per il sottile. Va tenuto presente, questo serve anche alla storia italiana di dopo, che il Tirolo è una regione a sé stante. Oggi lo dividiamo in nord Tirolo, in Isbruck, e sul Tirolo che è il nostro Alto Adige. Ma il Tirolo come tale, sia per la sua storia, Andrea Hofer, non sto qui adesso a prenderla per le lunghe, ma aveva, forse in parte là, ma certamente aveva una forte coscienza di autonomia, desiderio di autonomia. Tanto è vero che il governo centrale dell'Austria doveva avere delle cure molto particolari di polizia, di stare attento, e la dieta, l'assemblea regionale di cui De Gasperi venne a far parte, non arrivava mai alla sua conclusione naturale, perché l'imperatore doveva scioglierla per insubordinazione. Anche questo è un inizio di vita di un personaggio che va considerato, se si vuole capire come poi procedono le direttive e come sviluppa una vocazione nel momento in cui, non più in una posizione marginale, ma in una posizione dominante è in condizione di esser lui a segnare una linea politica e non a dover ritagliare qualche brisciola di libertà dalla benevolenza dell'imperatore o delle autorità di polizia periferiche dell'impero. Mancando appunto l'università a Isbruck, è necessario trasferirsi a Vienna. Il problema è molto duro per il Presidente, perché la vita a Vienna costa di più e le possibilità di lavoro sono estremamente limitate. Trova per la benevolenza di alcuni sacerdoti e qui comincia una certa protezione che lui viene ad avere dal Vescovo di Trento, che poi lo seguirà un po' tutta la vita, anche quando questa protezione dovette consistere nell'azione, nei confronti del re d'Italia, perché fosse liberato dal carcere, ma questo lo vedremo a suo tempo. Gasperi fa una vita estremamente semplice, dà ripetizioni, fa delle traduzioni, studia con moltissimo impegno e in modo particolare si affascina a questo mondo multinazionale della Vienna di quel momento. Nell'immagine storica si vede solo la durezza di una disciplina, ma se si toglie quello che era un vincolo molto severo nel campo militare, dove non si conoscevano discussioni, bisognava avere una disciplina rigida, tant'è vero che vediamo anche nei confronti dei patrioti, lo vedremo tra poco, Cesare Battisti viene impiccato, perché è considerato uno che viola le norme militari. Regasperi è consentito in Parlamento anche di fare delle prese di posizione, un Parlamento dove arriva, dopo l'esperienza che ho già ricordato di membro della dieta di Isbruck, un Parlamento che arriva eletto dal suo Trentino, e un Parlamento in un certo senso esemplare come coesistenza di molte nazionalità, con la possibilità di poter parlare ciascuno nella propria lingua, con una metodologia di grande stringatezza, non sono discorsi che hanno ampollosità, come da noi per esempio in quel periodo nel Parlamento c'era ancora una tradizione, adesso non so se fosse per prevalenza meridionale da noi di avere molta fioritura di aggettivi, se andiamo a guardare i discorsi di allora, non solo di De Gasperi, ma un po' di tutti, gli aggettivi sono piuttosto pochi. Io mi sono dedicato, dopo la morte di De Gasperi, a far tradurre i suoi discorsi, perché è interessante questo, lui ebbe delle polemiche, le aveva già avute nel periodo fascista, quando i fascisti, alla ricerca di tutto quello che sminuiva il prestigio dei partiti a loro non favorevoli, dava dell'austriacante, metteva in dubbio la fedeltà di carattere nazionale, e già in quel momento c'era stata con una pubblicazione di Gino Giordani, che poi fu uno scrittore cattolico, e poi fu anche nostro deputato, dopo la liberazione, c'era stato un libro bianco che ribatteva queste insinuazioni, del tutto infondate, però dopo la morte, dovendo scrivere una biografia, io feci tradurre integralmente gli atti parlamentari austriaci per tutto quello che riguardava la posizione di De Gasperi, e questo ci consente anche di capire una sua caratteristica, di una enorme serietà, è l'uomo, direi, antidemagogico, proprio per costituzione, vorrei dire fisica, e questo lo aiuterà poi in un ruolo che si troverà ad avere nella ricostruzione post bellica, post seconda guerra mondiale dell'Italia. Nella storia di De Gasperi vi è un viaggio importante fatto a Roma nel settembre del 1914, la situazione internazionale andava complicandosi, e vi era questo disagio, anche, vorrei dire, filosofio concettuale, di una parte dei cattolici dell'impero, specificamente adesso parlo dei cattolici trentini, di doversi dissociare dall'Austria e dover andare verso un qualche cosa che loro ritenevano molto differente da un punto di vista di tendenza di fondo cristiano-sociale. Questo lo ritroveremo poi in De Gasperi uomo di governo proprio il grande sforzo di comprensione, di conciliazione con tutto un mondo chiamiamo laicista, non laico, laicista, cioè un mondo che poi veniva definito massonico, nel quale però si faceva molta confusione tra quelli che erano dei principi di ispirazione, anche filosofica contraria vasilarmente al cristianessimo e quelle che erano invece le code del contrasto chiese stato per la fine dello stato pontificio. Questa è una tragedia che i cattolici italiani appunto si portavano dietro e che man mano si cercavano strade per uscirne. Il movimento modernista con tutte le sue esagerazioni, con le sue deviazioni di carattere filosofico e anche teologico, però ha anche una ricchezza positiva in questa direzione. Infatti quando ricordiamo Fogazzaro, ricordiamo Murri, proprio vediamo che c'era questo chiudere pagina sulla questione temporale, cioè il rapporto politico e chiese stato e guardare da cittadini con pienezza di diritti e di doveri quella che era la propria posizione nei confronti dell'Italia. C'è però il periodo di transizione, cioè il periodo della guerra, che è chiaro gli austriaci presero tutte le loro misure precauzionali, fecero intanto delle leve in massa, crearono anche moltissimo disagio in tante delle valli italiane. e poi misero in condizioni di non nuoscere gli esponenti di carattere politico. De Gasperi fu costretto ad andare via dal Trentino e l'unica cosa che poteva fare, anche perché godeva di forte prestigio di carattere personale sul piano morale, vi fu consentito di poter visitare gli italiani nei campi di concentramento, nei campi di prigionia e qui si sviluppa con una scarsissima documentazione, perché gli altri non avevano mai questo pulto della documentazione, qui si sviluppa direi una reciproca conoscenza però con persone di altre valli, con persone di altre province e si arriva poi al momento forse più drammatico quando sembrava che l'Austria dovesse spuntarla e il momento di Caporetto, il momento in cui le sorti per l'armata italiana erano precipitate in un modo molto duro e qui emerge a mio avviso il vero De Gasperi. Con questo primo escursus sugli inizi della vita di De Gasperi iniziamo un cammino attraverso lo sviluppo della sua attività e lo continueremo se avrete la bontà di ascoltarmi domani sera. Le visite ai campi dei rifugiati permissero a De Gasperi di conoscere meglio gli altri italiani di confine erano grandi collettività di istriani di giuliani e vorrei dire che questo poi loro si risentirà quando vi fu il momento poi della saldatura che si trattava quando la guerra ormai aveva avuto un determinato epilogo primo accennato ieri a caporetto proprio in quei giorni si riunì il Parlamento che era stato a lungo chiuso funzionavano solo alcune commissioni e degli uffici di riferimento e in questa circostanza De Gasperi prende la parola e parla con una direi sicurezza di carattere nazionale italiano che era coraggiosa tanto coraggiosa che era isolata perché tra gli scopi di quella sessione del Parlamento vi era anche la dotazione di fondi suppletivi per la difesa e altri deputati italiani io non voglio fare la polemia con nessuno ma altri deputati italiani per una certa connessione ideologica in modo particolare i socialisti finì col votare a favore di questi fondi De Gasperi non votò non votò perché lo reputava incongruente nei confronti della sua posizione di italiano di irredento e lo sottolineo perché certamente votare contro il governo in una situazione di quel genere quando poi sembrava che l'Italia fosse a pezzi quindi non per dire vabbè sto vincendo e quindi io ho un'assicurazione sulla vita questo è molto importante ed è importante l'ho già accennato che De Gasperi non si è mai gloriato di questo perché diceva chi fa il suo dovere non deve portarlo come un titolo di credito e come accennavo ieri era stato un momento di polemica alla quale aveva reagito tramite uno studio di Gino Giordani così vi fu una certa ripresa anche qui dopo nel momento di De Gasperi presidente io stesso ero presente una volta ad un comizio che fece a Viterbo e dei giovani del movimento sociale tirarono fuori dei cartelloni con scritto austriacante devo dire li guardò se posso dire con disprezzo nel senso non dette nemmeno molta importanza a tutto questo diciamo ma siete giovani cosa volete sapere di quello che è successo lasciatelo dire a noi che abbiamo vissuto e poi abbiate pazienza l'italianità a cui voi sembra facciata ancora un po' di riferimento è stata quella che poi ha distrutto tutto quello che di buono la prima guerra mondiale aveva acquisito De Gasperi torna a questa sua attività mista direi assistenziale perché è anche presidente di questi comitati di vigilanza e di assistenza e cerca di poter ottenere la ripresa del giornale che era stato sospeso il Trentino era stato sospeso il suo giornale perché stato di guerra è chiaro che legittimava l'Austria anche a delle misure di carattere coercitivo e qui c'è la saldatura allora dal periodo nel quale poi l'Italia ha questo suo rigurgito di fierezza il governo di Orlando e qui poi vedremo i rapporti personali tra le due persone nonostante furono momenti di dissenso però per De Gasperi l'Orlando era sempre il mito era quello attorno al quale avevano sperato che Caporetto fosse cancellato e che ci fosse un epilogo della guerra un epilogo vittorioso questo aiuta a vedere il De Gasperi nelle sue origini senza di che però io credo che si capirebbe male anche poi la sua profonda e molto costruttiva stagione governativa Francesco Giuseppe era morto il suo giovane erede ribadiva le posizioni nazionali ma forse con una posizione di minore scipiglio e oltretutto era anche un po' ammalato di fatto quando poco dopo si invertono le posizioni crolla l'impero austro-ungarico il re di Ungheria imperatore d'Austria se ne deve andare a Madera e muore lì in condizioni molto precarie di salute giovanissimo accendo per curiosità vi è ora anche una causa di beatificazione per l'imperatore Carlo d'Austria e questo vedremo ma spetta alle autorità religiose De Gasperi prende contatto insieme ad altri colleghi in Svizzera con gli italiani nell'immediato per cominciare a intessere una forma di relazione non solo da un punto di vista politico qui non aveva delle visitazioni ma per quello che doveva essere lo status sia dei prigionieri da rimpatriare problema molto grosso e sia anche comincia già la difesa di alcune peculiarità che poi ritroveremo negli statuti a regime speciale delle aree di confine probabilmente vi era una preoccupazione di dire guardate noi da tanto tempo siamo abituati con un determinato sistema e un determinato sistema che voi lo dipingevate solo in negativo però aveva anche dei dati positivi l'uso della lingua il rispetto reciproco con la magistratura una certa libertà scolastica è vero che il periodo di guerra aveva comportato delle restrizioni ma il modello era un modello di convivenza importante e vi era non solo indegato ma lui era avvertito in modo particolare questa necessità di far capire attenzione che se voi cancellate queste caratteristiche rischiate di provocare non solo un entipiedimento rispetto al senso nazionale ma forse anche qualche nostalgia allora su questo c'è tutto un tessuto che cercano di fare un viaggio a Roma rapporti con le personalità del momento l'incontro con Orlando e sul piano politico l'avvicinamento che già si conoscevano sul piano personale al Partito Popolare Italiano il Partito Popolare Italiano era stato creato da Sturzo il gennaio 1919 era una grande novità proprio per quello che ho già più di un passo accennato questo impedimento dei cattolici di far vita pubblica questo era stato superato Benedetto XV aveva incoraggiato Luigi Sturzo e d'altra parte Sturzo si era anche cautelato di avere un sistema elettorale che consentisse a delle forze organizzate di poter avere una rappresentanza sia cospicua sia produttiva superando quello che era il frazionismo del vecchio sistema dell'uninominale e dichiarò che solo quando Nitti che era subentrato nel governo lo assicurò del cambiamento di legge elettorale dette vita al partito popolare italiano le elezioni del 19 furono direi un trionfo dei due partiti popolari il socialista e il cristiano e creò però anche l'inizio di una fase molto difficile di assestamento perché la guerra aveva distrutto tante cose aveva suscitato molte aspettative gli ex combattenti speravano di avere una serie di benefici che era legittimo attendersi dopo i sacrifici che avevano compiuto ma vi era un insieme di incertezze globali e in questa fase inizia la vita politica sul piano nazionale del presidente De Gasperi terminata ufficialmente la guerra un numero enorme di problemi da risolvere si accavallavano uno dei quali era lo status dei soldati che erano stati fatti prigionieri e combattevano nelle armate austriache italiani ma arruolati certamente non erano dei volontari ce ne sono stati anche ma era la leva obbligatoria non potevano essere probabilmente era difficile far diversamente non potevano essere immediatamente cancellate tutte queste posizioni andavano viste una per una che significò però mandare a gruppi di soldati ex austrungarici di lingue italiane di mandati il più lontani possibile di mandati nell'Italia meridionale in attesa poi di vedere di esaminare le singole posizioni di vedere se devono essere trattati da nemici se avevano delle caratteristiche di volontari questo creò un fortissimo disagio io capisco che era difficile forse far diversamente perché era difficile far digerire ai soldati italiani del resto d'Italia che i soldati che avevano combattuto contro di loro fossero considerati senza alcuna selezione come nella medesima posizione non si poteva dire che si era scherzato e oggi cercò anche dalle colonne del nuovo Trentino che aveva potuto riprendere il suo corso di pubblicazioni e cercò anche il modo così di grande forza di convinzione si rifece nel primo articolo a quello che era stato il suo ultimo discorso nel Parlamento austriaco e disse a quale imprecazione non ci darebbe diritto l'inico servaggio che ha macerato i nostri corpi ed ha torturato le nostre anime fino a ieri quale parola di vendetta potrebbe apparire evocativa ed eccessiva quando ripensiamo a questo bel paese che avevamo costruito e che i nostri padri insieme a noi con uno sforzo di secoli avevano reso così bello ed ora è stato distrutto quando vediamo migliaia di figli di nostra gente sacrificati ad una tirannide sanguinaria nei campi ancora della Galizia e dei Carpatti cioè questa eccezionalità non era mai retorico questa è una cosa che poi lo vedremo a lungo lo svilupparsi della sua azione però ci erano momenti in cui bisognava alzare un po' il tiro del discorso e non essere banali non essere di ordinaria amministrazione lui ripeto per ragioni giuridiche ancora non erano perfezionate le cittadinanze non poterono né lui né altri venire al Parlamento italiano però nell'attività del Partito Popolare iniziò immediatamente e ebbe una posizione di una certa preminenza sia per l'esperienza che aveva sia per la stima che ne aveva sturso e sia perché si avvertiva come l'innesto di questa sana tradizione austro-ungarica di cui non si doveva guardare solo la durezza militare ma si doveva guardare la serietà di carattere amministrativo la capacità di tenere insieme gente delle più diverse estrazioni potesse giovare proprio nel momento in cui l'Italia si componeva finalmente in tutta la sua interezza il biennio 1919 19-1921 è un biennio molto importante nella vita italiana perché perché per la guerra a suo tempo la grande maggioranza o comunque la maggioranza del Parlamento italiano non era stata favorevole e era stata una specie di forzatura per consentire poi l'entrata in guerra e tutto il periodo in cui le cose erano andate male non fece che confermare questo stato d'animo ho citato già ieri Orlando Orlando ebbe questa grande funzione di riscatto suscitò con questo suo grande calore meridionale suscitò una ripresa il superamento di un senso di sconforto e aiutato anche dalle autorità militari particolare Armando Diaz sì era avuta la vittoria però direi il mondo politico non aveva accettato completamente e con rassegnazione il fatto di dover passare la mano ai grandi partiti di massa e questo spiega il perché nel 21 si riforma un governo Giolitti Giolitti è il decano della classe di governo italiana Giolitti piemontese di Dronero Giolitti uomo sufficientemente aperto anche dal punto di vista sociale però con alcuni limiti nei confronti di una situazione che stava degenerando teniamo conto che nel 21 sulla scia di quella che era stata la rivoluzione in Russia il partito comunista si stacca dal partito socialista in Italia e la via rivoluzionaria comincia a scendere nelle piazze contrastata da una forza sia di opinione e sia da una forza che all'inizio aveva una consistenza piuttosto esile nelle elezioni del 19 Mussolini che aveva fondato il 23 marzo del 19 a Milano il partito fascista si presentò e si presentò anche con compagni di lista autorevoli tipo Arturo Toscanini fu bocciato gli elettori lo lasciarono a casa nel 19 però in questo periodo di cui stiamo in questo attimo occupando nel 19 21 direi la violenza e questa esplosione da un lato di risentimento e dall'altro di incomprensione per il nuovo creò un disagio una instabilità notevole vi fu la occupazione delle fabbriche e praticamente anche Giolitti fu fortemente indebolito il Giolitti di un tempo non aveva più un ruolo da svolgere si fece poi sostituire da un suo logotenente fatta per due governi entro pochi mesi ma la situazione andava ormai precipitando stiamo camminando a tempi in parte accelerati altrimenti si vorrebbero anni in questo cammino storico di ricostruzione e domani sera se avete la bontà vedremo lo sviluppo dopo questa fase abbastanza critica buttasi finalmente la ratifica dei trattati di pace fu consentito agli italiani dei territori redenti di presentarsi alle elezioni le elezioni nuove avvennero nel 1921 in una situazione di piazza molto agitata di spiriti molto contrastanti e anche con avvenimenti internazionali nel senso cioè che l'internazionale socialista per esempio aveva espulso Turati che era un grande personaggio perché era moderato quindi era il momento nel quale l'influsso proprio della rivoluzione russa stava portando un momento di grandissima agitazione De Gasperi si presentò a Trento ed ebbe un numero di suffragi notevolissimo 50.427 le elezioni però nel loro complesso non dettero una grande stabilità Mussolini che come ho ricordato non aveva avuto alcun successo nelle elezioni delle 19 presentò la sua lista ed ebbe 35 deputati molti o pochi molti se si pensa allo zero di due anni prima pochi se si pensa all'insieme della composizione del Parlamento i socialisti ebbero una flessione i comunisti come tali che era la prima volta ripeto perché si erano appena distaccati dal partito socialista ebbero 16 deputati i popolari accrebbero la loro consistenza passarono da 100 a 107 deputati la composizione della Camera come tale non avrebbe dovuto di per sé suscitare particolari inquietudini perché contro il sistema si può dire erano sia i comunisti sia i fascisti ma la loro consistenza numerica era quella che ho detto quindi era piuttosto irrilevante però guai a farsi soltanto ai numeri e forse fu l'illusione questa perché vi era una grande esigenza di ordine questo è il male terribile dal quale spesso nascono poi le dittature e fanno piangere poi chi le ha volute era un'esigenza di ordine perché vi erano scontri a fuoco tra sinistra e fascisti vi erano delle divisioni nei sindacati molto accentuate con strani fenomeni nel momento del governo Nitti quando in un certo senso punisce i sindacalisti bianchi che non avevano aderito allo sciopero delle ferrovie vi era veramente una confusione e chi aveva una mentalità direi solo parlamentare non era preoccupato perché diceva ma i numeri sono questi e in queste condizioni nasce la marcia su Roma cioè nasce la militarizzazione del partito fascista nasce una certa adesione che abbiamo borghese e anche una certa adesione da parte della corona perché senza una adesione della corona certamente i fascisti non avrebbero potuto ottenere alcun risultato si arriva al 1922 poi si torna un momento perché nella vita di De Gazzari si inserisce in una maniera quasi bizzarra questa parentesi si arriva al 1922 quando i fascisti decidono di rompere gli indugi e di marciare su Roma questo io naturalmente procedo per sintesi non posso indugiarmi in ognuno dei risvolti ma vi era l'illusione mi disse il segretario di Sturzo che era stato con lui in quei giorni della marcia su Roma che Sturzo aveva detto si va bene ma con questo piccolissimo numero di deputati al primo voto questi saranno dissolti quindi l'abitudine a credere soltanto nei numeri del Parlamento deviava e portò anche ad una temporanea seppure molto breve adesione del gruppo dei popolari proprio al governo che il re aveva affidato a Benito Mussolini Mussolini poteva fare affidamento su un senso di rassegnazione cioè da un lato vi era chi diceva va bene questa ondata passerà e quindi si ritorna ad un normale esercizio di dialettica parlamentare e dall'altro chi era preoccupatissimo di tutto quello che era accaduto nelle città nelle campagne e salutava l'ordine come un qualche cosa di positivo però la convivenza dei popolari con i fascisti fu una convivenza che durò lo spazio di poche settimane perché vi era sul fondo una completa differenza nel senso cioè che i popolari avevano detto noi dobbiamo riportare i fascisti nell'alveo costituzionale e Mussolini nel suo discorso invece non aveva lasciato nemmeno grandi illusioni e aveva detto quella famosa frase avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia il bivacco dei miei manipoli cosa che era molto indicativa per il suo senso di scarso rispetto per il Parlamento qui anzi si inserisce un piccolo fatto interessante perché un socialista modigliani importanti lo interruppe gridando viva il Parlamento e Venicola che precedeva disse non interrompa il Presidente del Consiglio cosa che poi fece cancellare dal resoconto stenografico questo lo dico con una nota per alleggerire un poco la pesantezza sostanziale di questo momento di storia italiana De Gasperi si inserisce in questa posizione in maniera strana perché qui devo fare una parente il De Gasperi è uomo il De Gasperi non è solo il politico è uno che finita la guerra pensa anche a poter mettere su famiglia e conosce una signorina sorella di un suo amico Pietro Romani e vi è il fidanzamento è stato pubblicato poi molti anni dopo un piccolo opuscolo che è molto bello del carteggio tra De Gasperi e la signora Francesca un carteggio che guardando le date è curioso perché proprio nei momenti più aspri quando questo governo debolissimo di facta sta per ammainare le vere quando in Parlamento bollono questi terribili singulti di sostanziale rivoluzione e in quel momento si sposa ed è costretto a interrompere rapidamente il viaggio di nozze per tornare in Parlamento e ci sono delle frasi nelle quali sente proprio il disagio per un sistema che è così diverso dal sistema in cui lui era nato e sarebbe stupido dire che avesse nostalgie austriache ma aveva nostalgie parlamentare cioè il rispetto del metodo il rispetto della parola il fatto di non accodarsi come stavano facendo anche molti degli uomini politici importanti del periodo precedente stavano accodandosi al movimento fascista e vi sono in queste lettere anche delle espressioni di un De Gasperi almeno per me del tutto inedito quando raccontando a sua mole ho dovuto interrompere il viaggio di nozze quello che stava accadendo a Mottecitorio dice vi sono anche alcuni politici i quali in genere mi rappresentano di giorno quello che di notte sono le zanzare questo certamente non era per vilipendio io ho voluto citare se qualcuno ha voglia poi se lo vada a leggere questo libretto cara Francesca perché fa vedere come l'uomo politico anche l'uomo politico più importante non sfugge a uno scambio di sentimenti veri quando si tratta dei rapporti con la sua famiglia con la sua moglie in questo caso anche con la sua sorella serve a dare un'immagine completa e vera di De Gasperi uomo molto austero ma di grande calore umano nel 1922 era morto Benedetto decimo quinto un papa che è rimasto celebre per la definizione che aveva dato della guerra mondiale la inutile strage frase che non era piaciuta a molti figurarsi c'era tutto il danunzianesimo che vedeva nella guerra l'espressione più alta della umanità subentrò in Vaticano Pio XI che veniva da Milano e si ripromise come suo scopo principale di raggiungere l'intesa con lo Stato italiano va detto che Vittorio Emanuele Orlando quando era a Parigi per il trattato di pace un soggiorno molto contrastato si trovò piuttosto male vi era poi una confusione mondiale straordinaria pensate che Wilson il presidente americano lanciò l'idea della società delle nazioni proprio per dare al mondo una specie di foro di colloquio stabile però poi in casa sua non ebbe successo perché il congresso americano impedì agli americani di partecipare alla società delle nazioni cosa che è stato poi diverso dopo la seconda guerra mondiale con la creazione dell'ONU Orlando in quegli anni aveva maturato molto il desiderio di chiudere la questione romana cioè la rottura con la Santa Sede e proprio a Parigi in quell'ottobre del diciassette aveva ricevuto inviato da Benedetto decimo quinto Monsio Cerretti che era un sostituto della segreteria di Stato pur poi Nunzio a Parigi e Cardinale e avevano fatto una bozza di concordato molto bella aveva telefonato a Roma a Nitti che era ministro dell'interno aveva avuto la sua adesione ne avevano parlato anche al re che in via di principio non era molto favorevole però non aveva fatto delle obiezioni ma era un momento talmente fragile che Orlando poche settimane dopo andò in crisi e da quell'ottobre diciassette all'ottobre del ventidue quando Mussolini fece la marcia su Roma ed ebbe il governo vi furono sette crisi ministeriali quindi era stato accantonato questo problema del raccordo tra Chiesa e Stato Pio XII si era ripromesso di riprenderlo e Mussolini capì anche che questo era forse giusto anche dal punto di vista suo ma che era molto utile per potersi rafforzare e ripressero il testo e il testo che poi del 1929 i trattati della Terano è talmente mutuato da quello di Orlando che a un certo momento parla dell'inibizione al clero di iscriversi ai partiti politici cosa che in quei momenti i partiti non c'erano più c'era uno quindi questo lo cito perché dimostra che il testo era quello comunque su questo punto di chiudere la pagina nel dissenso tra Chiesa e Stato vi fu tutto l'andamento dei primi anni del partito fascista al potere con la milizia con la forza con le leggi di carattere eccezionali nel frattempo si era creata la premessa della dittatura è un quesito aperto se Mussolini fin dall'inizio avesse l'idea della dittatura o se le circostanze lo avessero poi indotto a stringere i freni fino a una maniera definitiva che fece con la cosiddetta legge acerbo la legge acerbo era la modifica la legge elettorale secondo la quale chi aveva il 25% dei voti prendeva i tre quarti dei seggi era veramente una violazione di un metodo di elezione corretto però dobbiamo anche dire che dei grandi personaggi come Orlando come Giolitti aderirono a questo e fecero parte del listone del listone acerbo i popolari no i popolari fecero una lista per loro conto però naturalmente con le situazioni che vi erano con il desiderio di non ritornare al disordine i famosi treni che viaggiavano in orario e così via le elezioni furono vinte facilmente con questo sistema dai fascisti e vi fu un momento però di grande difficoltà nel giugno del 24 perché quando si fece la presentazione della nuova legislatura in Parlamento uno dei deputati socialisti Giacomo Matteotti fece una filippica contro il governo denunciando tutta una serie di falsi e di soprusi che erano stati fatti pochi giorni dopo Matteotti scomparve fu poi ritrovato il cadavere qui se Mussolini abbia colpe personale oppure se avesse detto dategli una lezione o se non avessi impedito questo è un discorso che gli storici non hanno chiuso in maniera definitiva tantomeno posso farlo io certo che però questo rappresentò una involuzione fortissima i deputati che erano stati eletti non fascisti più di cento una parte rimassero in aula a fare opposizione in aula più di cento si ritirarono così sull'Aventino per denunciare la normalità della situazione e una commissione di tre De Gasperi o di queste andò da ria a scongiurarlo di prendere delle iniziative De Gasperi forse l'unica persona verso la quale io ho sentito dire parole se mi è consentito di disprezzo fu proprio Vittorio Emanuele III perché in questa occasione gli lasciò parlare per venti minuti senza dire una parola poi si alzò e disse vi ringrazio riferirò al capo del governo quindi era la più grande delusione dopodiché il Parlamento decise l'espulsione di tutti gli aventiniani e cominciò anche la persecuzione personale di coloro che erano gli oppositori del fascismo tra questi oppositori si trovava De Gasperi che fu arrestato con l'imputazione di tentato espatrio clandestino e fu arrestato a Orvieto non aveva il passaporto non c'era una prova che volesse veramente espatriare c'era stata una soffiata da parte di disgraziato che era venuto a conoscenza di questo viaggio che De Gasperi faceva per allontanarsi da Roma e inizia l'avventura giudiziaria del presidente domani vedremo come si sviluppò questa parentesi così triste nella vita di De Gasperi e come però non perdete mai la fiducia nel fatto che gli italiani un giorno avrebbero riconquistato la propria libertà estromessi dal Parlamento i deputati popolari e gli altri che avevano fatto parte dell'Aventino si trovarono in una posizione estremamente difficile perché erano vigilati speciali e nello stesso tempo avevano anche l'amarezza di vedere dissolversi un po' il loro entroterra di carattere politico vi erano violenze vi erano forme di intimidazione vi erano esclusioni dai concorsi quindi le prospettive di vita erano delle prospettive estremamente chiuse per un momento De Gasperi tornò nel Trentino ma già allora cominciò una persecuzione attiva era accaduto un attentato a Mussolini a Bologna da parte di un anarchico Lucetti e i fascisti andarono a prendere De Gasperi lo condussero in provincia di Vicenza e lo sottopossero a non solo interrogatori ma anche a veri e propri vilipendi fu un po' salvato dai Marzotto che avevano ancora una certa influenza nonostante questo periodo in cui la milizia e i fascisti erano dominanti e poter venire via De Gasperi venne a Roma e a Roma raccontava che mentre alcuni anche se lo incontravano fingevano di non riconoscerlo però ci furono alcuni in modo particolare uno che poi fu deputato Ivo Coccia che lo prese in casa sua e anzi mi grazie con una punta di ironia sia pure emesta raccontava come avevano seminato la polizia perché quando stava parlando con Coccia nella sua casa al quartiere Prati venne questa polizia che lo cercava Coccia capì subito si missa a parlare con De Gasperi in francese lo presentò come un suo cliente dello studio francese gli domandarono se avesse visto De Gasperi lui disse no sono messi ma credo che sia in Trentino però questo fu sufficiente per poter capire che anche a Roma non vi era vita facile e De Gasperi pensò di andare a Trieste voleva veramente poi andare oltre Trieste questo non è molto chiaro e anche su questo il presidente era piuttosto riservato sta di fatto che fu arrestato andò in treno fu arrestato a Orvieto e fu arrestato con una imputazione fu arrestato lui il cognato e la moglie e con una prima imputazione ancora non formalizzata di tentato espatrio clandestino gli fu consentito di riandare un momento perché stava morendo suo padre a Trento ma fu formalizzata poi e gli fu notificata dal capo della polizia Bocchini la imputazione appunto di tentato espatrio clandestino e iniziò il processo a difendere come avvocato l'onorevole De Gasperi venne da Milano Luigi Meda una personalità del partito popolare molto notevole alla quale era stato anche affidato l'incarico di formare il governo qualche mese prima della tragedia del 22 Meda non se l'era sentita e anzi dal Quirinale era andato direttamente alla stazione Termi si era ripartito per Milano senza nemmeno andare a riferire a Sturzo e la situazione d'altra parte era tale che non c'è da gettare pietre su nessuno in che cosa si fondava l'imputazione di espatrio perché aveva una carta della Venezia Giulia ma tutto questo certamente non era assolutamente una prova giudiziaria ma questo non impedì De Gasperi ebbe una condanna a 4 anni di reclusione a 20.000 lire di multa faccio un piccolo salto quando era Presidente del Consiglio un giorno ci fu l'inaugurazione dell'anno giudiziario e allora c'è tutto un rito nel quale il Presidente del Consiglio viene ricevuto da un Consiglio di Cassazione lo li accompagna alla macchina quando lo li accompagna gli disse ah Presidente vede poi noi non ci siamo piegati dovettero creare un tribunale speciale per condannare gli antifascisti e De Gasperi mi disse ma sa veramente io sono stato condannato da un tribunale ordinario per tentare spazio clandestino e non c'era nessuna prova poi quando sono in macchina mi disse ma forse ho fatto male a dirglielo perché era l'unica volta che ho sentito lamentarsi di questo non se ne ha mai lamentato però io lo feci proprio scappare questo perché lì era stato e poi fosse vero che probabilmente non potendosi fidare dell'amministrazione ordinare della giustizia crearono il tribunale speciale questo è verissimo però di fatto quello era un tribunale ordinario che la corte di appello confermò questo verdetto e negativi poi poter per un certo periodo godere di permanere in clinica dato che vi era stata una forte complicazione di carattere sanità nel frattempo si davano da fare molti per cercare di aiutarlo in modo particolare il vescovo di Trento era stato un suo grandissimo amico era proprio una personalità rimasta nota a Trento anche per il grande coraggio che aveva avuto durante tutto il periodo della guerra e profittò anche questo vescovo dell'andata del re per inaugurare un monumento a Trento e gli disse ma voi in fondo tenete in prigione uno che non ha fatto niente questo è un sopruso e questo consentì una attenuazione della sua posizione chiamiamo penale però era un isolato in patria il vuoto era attorno a lui questa era la realtà molto triste perché o per paura o perché ormai la situazione era cambiata si guardava più al futuro al presente che non al passato il caso gli fece per un periodo non breve una vita estremamente grama si poteva permettere in una pensioncina dove viveva e viveva facendo delle traduzioni dal tedesco si poteva permettere sì e no una volta alla settimana un bicchiere di vino quando cambiarono le cose le cose cambiarono nel 29 perché essendosi fatto finalmente il punto di arrivo della questione romana essendosi firmati i trattati del laterano sempre attraverso il vesco si chiese per De Gasperi un posto nel Vaticano un piccolo posto di bibliotecario fra l'altro proprio di quello che faceva le schedine non un posto di rilievo o di dirigente e qui poi dirò fu l'occasione per cui potevi parlare fu individuato da De Gasperi come uno che si poteva occupare poi di vita politica però questo fatto di averlo assunto in Vaticano dava fastidio anche a Mussolini e ci fu un passo del nunzio che invitato dalle autorità di governo andò a riferire al Papa che Mussolini voleva che fosse mandato via dalla biblioteca vaticana e la risposta di Pio XI fu molto bella ma il governo si deve sentire molto debole se ha preoccupazione di un poveretto che sta lì soltanto a riempire le schedine dei libri nella biblioteca vaticana e non dette alcun esito a questa estromissione di altri però era molto emarginato faceva solo questo suo lavoro ci fece fare un lavoro un po' più concettuale cominciando a organizzare una morsa della stampa cattolica ma per esempio non fu mai ricevuto in udienza privata da Pio XI mentre uno in un certo senso analogo che viveva in Vaticano che era il segretario del centrum tedesco la repubblica di Weimar aveva avuto anche lì un governo democratico le due ali la nazionale socialista e la comunista si erano accordate per farlo fuori e avevano buttato giù il governo di Weimar ognuna delle due con l'intesa poi di far fuori l'altro fu più furbo Hitler che ha aiutato anche dagli ebrei per la verità queste poi le cose strane della storia perché dagli ebrei perché i comunisti avevano ancora a suscitare l'emozione della rivoluzione russa quindi è chiaro che tutto il mondo del capitale guardava dall'altra parte che aiutarono Hitler che fece fuori tutti e creò poi il regime che avrebbe avuto poi un'influenza estremamente negativa anche sotto alcuni aspetti compreso quello drammatico della legislazione razziale De Gasperi fu nella biblioteca vaticana che cominciò a fare alcune amicizie nuove in generazioni forse la più costruttiva e anche la più illuminante per capire un po' il corso degli eventi fu quella di Guido Gonella mentre qualche volta sia pure con cautela riprendeva il contatto con quello che era stato uno degli ultimi segretari del partito popolare che era Giuseppe Spataro quando cominciò la guerra in modo particolare quando si vide che le sorti della guerra erano tali che il regime fascista sarebbe stato messo sotto scacco riprese con un certo vigore la ricostruzione dei partiti democratici e qui si inserisce e nasce il De Gasperi della seconda maniera devo io stesso a De Gasperi in biblioteca un corso delle corse della mia vita che è del tutto imprevedibile andavo a cercare la storia della marina pontificia di padre Guglielmotti perché avevo deciso di fare la tesi in diritto della navigazione quando questo brusco funzionario che mi conosceva perché ero presidente della Fusi io non sapevo chi fosse e mi disse ma non ha niente di meglio da studiare e gli disse scusi ma lei perché non si fai fatti i suoi veramente pochi giorni dopo mi fece chiamare a casa di Spataro e mi disse guarda lascia perdere la marina pontificia fai la tesi su qualche cosa che hai già pronto che si fa più facilmente viene a lavorare con noi per la democrazia cristiana e mi messo a contatto con Guido Conella che io conoscevo però dalla Fusi e con Guido Conella ho fatto il primo esame all'università di filosofia del diritto comincia allora questa attività della quale De Gasperi è il centro anche in altre parti d'Italia si muoveva ci furono le iniziative anche autonome che poi praticamente confluirono salvo una quella dei cristiano sociali di Bruni stranamente Bruni che in biblioteca vaticana era un impiegato ma molto autorevole rispetto al piccolo impiegato De Gasperi però poi quando ci furono le elezioni della costituente Bruni ebbe un voto cioè il suo solo seggio e De Gasperi diventò l'elemento determinante della politica del dopoguerra nel periodo della biblioteca vaticana certamente con tutto il riservo che era necessario per non esporre poi la santa sede a delle reazioni però cominciarono una serie di contatti e vi fu anche la festa di San Giuseppe 19 marzo del 43 una strana riunione in casa di Spataro nella quale io stesso conobbi tutta una serie di ex deputati mi sono meravigliato poi come potesse accadere che non dessero dei fastidi poi capimmo che il capo della polizia non so se facesse un vero doppio gioco o no però si precostituiva qualche titolo di credito per il futuro e lasciava correre del resto durante tutto il periodo poi dell'occupazione mentre vi era una durezza spietata in chi faceva attività militare e per chi faceva solo attività politica vi era una certa tolleranza protetta fra l'altro da un personaggio l'ambasciatore presso la santa sede Weizsäcker che fu padre di quello che poi fu presidente della Germania democratica nel dopoguerra della Germania federale e che ci aiutò anche cito un fatto in senso divertente perché stampammo un giorno il popolo clandestino nella tipografia dove stampavamo Azione Fuscina e di giorno facevamo la stampa del piombo e la messa in pagina come se fosse Azione Fuscina quando però uscì poi la grafica era identica e Weizsäcker andò da Monsignor Montini disse dica a questi signori di non lasciare le impronte digitali questo ci colpì poi noi non sapevamo che Weizsäcker fu poi condannato e processato a Andorimberga perché era stato segretario generale del ministero lo saremmo andati a testimonia però per fortuna non fu ucciso e in quel momento tutto il problema era di non essere ucciso poi le cose si sarebbero riassustate domani domani continueremo e entriamo in quello che chiamiamo il periodo di gloria se così si può dire di un periodo politico periodo di gloria che però poi alla fine terminerà anche con un tramonto piuttosto triste in questi dieci anni della vita pubblica di De Gasperi o meglio della vita governativa 44-54 Nei primi mesi del 1943 quando ormai si confermava che le vicende della guerra volgevano al peggio furono molti contatti tra personalità politiche del prefascismo insieme ad altri giovani di correnti che man mano si erano clandestinamente formate i contatti per studiare insieme quello che sarebbe stato l'avvenire qualcuno aveva rapporti anche con la corona il vecchio presidente del consiglio Ivano Ebonomi un socialista riformista andò a parlare anche con il re trovandolo molto prudente ma il re però non stava fermo nel senso cioè che era convinto che la crisi del fascismo se non fosse stata gestita da lui o dai suoi uomini comportava una crisi anche della monarchia e aveva vicino un personaggio di grandissima capacità costruttiva sotto questo aspetto il duca d'acquarone il quale dette incoraggiamenti in varie direzioni io seguivo questo problema nel senso che De Gasperi a casa Ispataro o altrove analizzava le situazioni vi erano poi scambi tra questi uomini di diverse estrazioni politiche nacque qui poi poco dopo il comitato di liberazione nazionale preseduto appunto dallo stesso Ivano Ebonomi Guido Gonella aveva relazioni con la principessa di Piemonte è stato pubblicato anche di recente l'insieme dei diari che Gonella ha tenuto su questi incontri ma come ho detto il Pirinale lavorava su diverse direzioni primo aveva ripreso i contatti con Vittorio Emanuele Orlando al quale fra l'altro era stato commissionato anche il messaggio che avrebbero dovuto dire il giorno che finiva il fascismo mi erano contatti con Dino Grandi Dino Grandi uno dei personaggi istitutivi del fascismo che però aveva avuto un suo sviluppo di carriera per dire così molto personale ambasciatore a Londra era stato di primissimo ordine tanto è vero che era il periodo della guerra di Spagna gli inglesi si erano serviti di lui per un contatto con Franco per fare una specie di accordo nel senso cioè che gli inglesi smettevano di aiutare la Repubblica che loro per ragioni di legittimità all'inizio avevano visto con favore e a sua volta Franco si impegnava che ha mantenuto a non toccare mai il problema di Gibilterra il grande era visto dal Quirinale come uno di quelli che poteva far cadere dall'interno così poi fu nel Gran Consiglio il fascismo e allora avere l'incarico di fare un primo governo post fascista tutto questo andò avanti fino a luglio del 43 quando il bombardamento di Roma il 19 di luglio probabilmente fece precipitare la situazione nel frattempo dove era stata l'occupazione della Sicilia con grande scorno di quello che era il prestigio nazionale e l'azione allora dei partiti antifascisti ha il suo sviluppo anche se ripeto il re fece in modo nel momento della fine del partito fascista il 25 luglio di escludere tutti i politici dal governo e mise a capo del governo Badoglio che era stato il Duga di Addis Abeba cioè dare l'immagine al mondo che vi fosse del post fascismo mettendo però in sella il Duga di Addis Abeba era qualcosa di estremamente contraddittorio e i partiti parlo qui di De Gattoli ma non solo De Gattoli furono molto critici per questa soluzione che indebolì fortemente tutto il quadro e fece anche sì che la stessa pubblicazione dell'armistizio fosse fatta nelle condizioni peggiori dividendo l'Italia in due obbligando il re ed il governo a scappare nell'Italia meridionale l'occupazione tedesca di Roma fu immediata perché nel messaggio che come avevo detto era stato stilato da Vittorio Manuel Orlando ma però fu letto da Badoglio quando si dice la guerra continua Orlando pensava poche ore di questo artificio e che nel frattempo una divisione avvio trasportata americana veniva in Italia e le cose sarebbero raddrizzate si è poi visto che ci fu un equivoco perché fu proprio il ministero della difesa nostro che disse agli americani di non venire la confusione di quel periodo è stata assoluta il ministro della difesa Sorisce un generale nel frattempo divenuto consigliere di stato ha detto a me successivamente che lui ha saputo dell'armistizio l'otto settembre la sera quando il governo stava già scappando ed era il ministro della difesa perché Badoglio non si fidava quasi di nessuno e di fatto le cose poi andarono come andarono l'occupazione fece sì che naturalmente le personalità che avevano nel periodo dal 25 luglio all'otto settembre preso una posizione pubblica i capi dei partiti che avevano formato il governo ombra del comitato di liberazione nazionale dovettero prendere le cautele nelle prime settimane andavano a riunirsi in via Cernaia a casa di Monzio Barbieri però poi si vide che era necessario che stessero insieme e il Vaticano aprì le porte del laterano in una forma se vogliamo anche divertente perché ognuno di questi capi che poi erano De Gasperi erano Nenni erano Ruini ognuno prendeva la stanza di un seminarista e prendeva il suo nome si diceva poi al personale ma nessuno credo che abbia mai abboccato che erano vocazioni tardive il laterano fu per alcuni mesi l'epicentro proprio della vita politica nel frattempo nel sud dove il re e il governo si erano rifugiati si dette luogo ad un rimpasto governativo derivante da un fatto sopravvenuto cioè il ritorno di Togliatti dall'esilio russo Togliatti viene e fa cambiare opinione al governo il governo era per non avere alcun rapporto vero con il re non volere collaborare invece Togliatti iniziando quella via chiamiamo democratica in contrasto con la via rivoluzionaria del comunismo fece prendere l'impegno che si accantonava il problema istituzionale alla fine della guerra si dovevano concentrare le forze nella guerra contro i tedeschi e le forze voleva dire sia le forze armate dello Stato che poche settimane dopo l'otto settembre già in dicembre combattevano nella piana di Cassino per esempio il corpo di liberazione italiana il generale Utili c'è questo cimitero che lo ricorda in maniera drammatica in più vi era tutto il movimento dei partigiani nelle diverse città e nelle montagne dell'Italia questo porta alla fase che vede lo sbarco di Anzio con grande attesa che fosse ormai immediata la loro entrata in Roma degli alleati perché non fu questa è una curiosità che pochi sono in grado di sciogliere io sono in grado di sciogliere perché ne parlai un giorno con il generale Taylor che era il capo di Stato maggiore negli Stati Uniti e che a suo tempo era quello che avrebbe dovuto far venire la divisione avio trasportato e lui mi disse e poi sono andato a confrontare ed è vero che era stato il ministero della guerra a dire di non venire perché c'erano i tedeschi ma non è che venivano come turisti ma in più mi disse che loro erano interessati a mantenere i tedeschi sul fronte italiano perché dovevano preparare lo sbarcho in Normandia e non volevano la concentrazione di tutte le forze tedesche nel nord Europa così si arriva ai mesi che precedono la liberazione di Roma che avviene il 4 di giugno del 1944 si aprono le porte del Laterano e il governo Ombra legittimamente pensa di diventare il governo legittimo gli alleati fanno venire dal sud Badoglio e il governo c'è l'incontro squallido in un angoletto del Grand Hotel che era tutto dedito a ospitare gli ufficiali alleati quindi questo gruppo di italiani che facevano politica veniva guardato con disinteresse perfino dai camerieri io ero lì quindi era qualche cosa che veramente ti dava un'enorme tristezza si liquida il governo di Badoglio e si forma il governo del CLN automaticamente Ivano diventa presidente però gli alleati si riservano rimandano tutto in questo governo nuovo lo mandano giù a Salerno e soltanto dopo un paio di settimane gli consentono di rivenire a Roma con dei poteri relativamente limitati perché il governo militare alleato l'ammiraglio Stone ne era a capo era quello che praticamente teneva il bastone del comando e insomma tenete anche conto che c'era tutto il resto d'Italia che era ancora sotto occupazione tedesca quindi eravamo in una fase nella quale non c'era normalità direi degli istituti e della vita corrente tutto questo fa sì che comincia una dialettica interna tra partiti si forma come ho detto si era formato questo governo del CLN con i sei personaggi più rappresentativi dei sei partiti come ministri senza portafoglio e in più vi era Benedetto Croce e Sforza come elementi chiamiamo decorativi non nel senso materiale ma di importanza di carattere politico questo governo dura alcuni mesi comincia il sistema delle crisi e dei rimpasti che il governo che si forma nel giugno del 44 dura fino al dicembre del 44 ancora prima della liberazione del nord con dei contrasti e si riforma il secondo governo Bonomi fino all'aprile quando l'insurrezione globale del nord libera l'Italia dall'occupazione e sorge allora il problema dell'inizio del dopo la liberazione di Milano è il 25 aprile con tutto quello che tutti conosciamo e sorge immediato il problema della saldatura nord e sud il comitato di liberazione nazionale il comitato di liberazione altitaria iniziano le trattative e si protraggono per alcune settimane perché cominciarono a emergere dei contrasti di fondo fu un'offerta di Togliatti a De Gasperi per far presiedere il governo a De Gasperi anche prescindendo dai socialisti Togliatti era un fine politico veramente questo non andò in porto ci fu una dura contrapposizione con il comitato di Roma che si spostava a Milano il comitato di Milano che si spostava a Roma finalmente trovarono l'accordo e De Gasperi lo favorì con una persona neutra Perruccio Parri del partito d'azione persona assolutamente integra persona per bene che ahimè però non aveva il minimo di esperienza politica compose il suo governo De Gasperi fu un ministro degli esteri del governo di Parri del 1945 giugno 1945 però Parri aveva due difficoltà il primo ripeto non conosceva niente dell'amministrazione e aveva poi una diffidenza assoluta vedeva fascisti da tutte le parti e fece anche delle dichiarazioni dicendo che vi erano movimenti insurrezionali in Italia che per la verità non era vero poi De Gasperi ne fu molto amareggiato aveva dato tutta la collaborazione anzi quasi con affetto a questo signore così per bene che veniva dal nord e il governo andò in pezzi in questa maniera e furono altri tira e molla altri momenti di braccio di ferro e quando venne a formarsi nel dicembre del 1945 il primo governo di De Gasperi qual era il problema di fondo? beh c'era il problema della ricostruzione intanto l'Italia era in pezzi ed era in pezzi un'Italia che qualche volta forse è utile ricordarlo prima ancora della guerra nei suoi consumi essenziali erano quelli che oggi sono dei paesi che noi chiamiamo sottosviluppati o in via di sviluppo quindi non solo c'era da rimarginare le ferite della guerra ma di costruire un'Italia vivibile nello stesso tempo c'era da mettere le basi per avere una costituzione della repubblica cioè lo stato doveva essere diverso da quello che era fino a quel momento e lasciando che il popolo scegliesse se doveva mantenersi la monarchia una monarchia costituzionale evidentemente con un parlamento dotato di congrui poteri o se invece doveva essere liquidato ci fu un forte contrasto e De Gasperi personalmente si batte contro l'opinione di Sturzo e di molti perché si dividessero le due cose cioè si facesse un giorno di votazione nel quale da un lato si sceglieva monarchia o repubblica e dall'altro si sceglieva l'assemblea costituente perché se si fosse lasciato aperto e si dovesse lasciare decidere solo alla costituente a parte che sarebbe stato un protrarsi molto rischioso di situazioni incerte poi si toglieva quella che era la caratteristica che la costituzione doveva avere di essere la più unitaria possibile se si era invece a discutere quotidianamente monarchia o repubblica il lavoro della costituzione sarebbe passato in secondo piano e nascono qui le premesse per il giugno del 1946 e che fu in un certo senso il capolavoro del governo De Gasper lunedì prossimo continueremo se Dio vuole questo esame e vedremo voltata questa pagina storica tra monarchia e repubblica come si mette mano alla costituzione e come l'Italia altro punto di enorme importanza cerca di entrare di nuovo in una realtà internazionale da cui era emarginata due insegnamenti su cui De Gasper ha impostato la formazione di tutti noi sono stati questi primo dare più importanza alla politica estera che non alla politica interna e cioè condizionare la politica interna la politica estera e non viceversa e secondo dare un'importanza enorme al metodo democratico e alla precisione delle strutture della vita democratica il problema del 1946 era quello come abbiamo visto nella settimana scorsa di risolvere la spinosissima questione istituzionale il re non aveva voluto abdicare come gli era stato chiesto solennemente da De Nicola da Benedetto Croce da Giuseppe Paratore perché anzi aveva usato espressioni non molto riguardose nei confronti del piglio aveva abdicato solo all'ultimo quando ormai era avviato il meccanismo della consultazione per il referendum il re era andato in Egitto però fu importante proprio quello che io ho ricordato qualche puntata fa quando ho parlato del rapporto di De Gasperi con Vittorio Emanuele III il fatto che il rapporto fosse stato così aspro fece sì che invece il rapporto con il figlio fu tutto diverso reciprocamente molto diverso da quello che sembra spesso anche dai libri che sono stati scritti nel senso che il figlio Umberto ebbe verso De Gasperi una posizione di grande rispetto e De Gasperi quasi di tenerezza verso questo che si trovava in fondo a gestire un qualche cosa di cui non era personalmente responsabile le elezioni per la Costituzione dettero una discreta posizione alla democrazia cristiana ma una maggioranza se si sommavano perché si presentarono separati a comunisti e socialisti però per quello che riguardò la scelta istituzionale vi fu la prevalenza della scelta repubblicana non sto qui adesso a ripetere le anomalie di quei giorni perché quando il 10 giugno solennemente nella sala della lupa la corte di Cassazione dette conto delle risultanze poi finì con una frase ambigua dicendo in altra seduta questa corte darà atto dei ricorsi nel frattempo pervenuti che significava questo che tutto era stato invece ordinato per uscire quella sera dal problema e sapere se eravamo in repubblico o se eravamo ancora sotto monarchia poi è venuto fuori da Massimo Caprale che era segretario di Togliatti che Togliatti guarda sigilli quella mattina mandò una lettera al presidente della Cassazione dicendo di non concludere questo è un fatto estremamente grave anche estremamente confuso però la questione fu risolta in pochi giorni il re partì da Roma e il governo assunse i poteri necessari per pochi giorni fino alla nomina di un capo dello Stato provvisorio il presidente del consiglio De Gasperi divenne capo dello Stato e la continuità istituzionale fu assicurata il regolamento costituzionale che era stato predisposto e firmato dal re Umberto prevedeva che l'assemblea costituente dovesse dedicarsi prevalentemente alla formazione della carta costituzionale e che i poteri legislativi venivano assunti dal governo salvo alcune materie di carattere particolare specialmente internazionali allora il governo che De Gasperi presiedeva e che dopo le elezioni ed una breve crisi ricompose con decorrenza da luglio del 46 si dedicò primo a impostare una legislazione che desse al nuovo ordinamento l'ordinamento repubblicano una coerenza nel frattempo lasciare che l'assemblea costituente formasse la carta costituzionale utilizzando il massimo possibile di convergenze c'erano due contraddizioni perché da un lato ogni partito cercava di prendere il proprio spazio e dall'altro c'era chi ancora non aveva digerito bene il passaggio istituzionale comunque fu trovata concordia nello scegliere come capo provvisorio dello Stato nel giugno appena insediata l'assemblea costituente Enrico De Nicola che era stato l'ultimo presidente della camera di cui siamo occupati in una delle trasmissioni precedenti prima dell' instaurazione del regime mussoliniano De Nicola fu votato con ampiezza era un buon giurista seguì anche i lavori dell'assemblea costituente aveva solo un carattere molto bizzarro il difetto di minacciare ogni settimana le proprie dimissioni ma tutto questo fa parte un po' se si vuole più del folklore che non della storia politica ma la cosa importante fu che l'assemblea costituente nella quale vi erano le tre grandi correnti la corrente cattolica la corrente comunista e socialista e la corrente liberale e moderata l'assemblea costituente riuscì a lavorare mettendo insieme il meglio delle tre correnti questo è un fatto che non si ripeterà mai più poi nella vita politica italiana cioè giorno per giorno si cercavano dei denominatori comuni e non si può dire che esista un articolo che sia il trionfo di una delle tre scuole e la sconfitta di una o delle altre due no signore tutti gli articoli sono sintesi di un modo veramente responsabile e univoco di procedere viene però nel frattempo da risolvere due problemi la situazione internazionale dell'Italia e il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa era necessario che questo fosse risolto con una certa armonia se non proprio l'armonia totale dell'assemblea costituente ma con una certa armonia e che qui si ha la necessità credo da parte di tutti obiettiva di riconoscere il grande ruolo svolto da De Gasperi i vincitori della guerra erano molto duri nei confronti delle nazioni che la guerra avevano perduto e in particolare nei confronti della Germania e nostri il trattato di pace veniva redatto da un comitato di 18 stati che non accettava trattative con i perdenti e a fatica De Gasperi riuscì a ottenere di poter andare a esporre al comitato dei 18 la posizione dell'Italia nello stesso tempo vi era la necessità di non rompere la coalizione interna che durava ancora la coalizione del CLN proprio perché non vi fossero pretesti da parte di alcuni di trattarci male in quanto parlavamo con voci differenti certo la situazione era ingarbugliata perché i comunisti facevano doppio gioco Togliatti era presente a Parigi quando ci fu il discorso di De Gasperi all'assemblea dei 18 ma non era presente all'assemblea era andato lì e l'unica ambasciata che frequentava era l'ambasciata sovietica per la verità il popolo italiano sentiva il peso di questa condizione di isolamento e di questa condizione di dover pagare i conti e lo Stato ha sempre una sua continuità di dover pagare i conti che non erano del fascismo erano dello Stato italiano quindi la posizione del governo era una posizione quanto mai difficile perché doveva cercare di ottenere il massimo possibile e le possibilità però che aveva di fatto erano pressoché nulle dove De Gasperi fu estremamente bravo fu per il problema dell'Alto Adige perché vi era una corrente in modo particolare degli inglesi ma molto partecipata che vedeva nell'Austria la prima vittima di Hitler perché Hitler aveva occupato l'Austria questo forse storicamente è un po' discutibile perché una parte degli austriaci non è che fu molto avvilita nell'occupazione da parte di Hitler in nome di un pangermanessimo ma comunque se si fosse andata ai voti noi avremmo visto ridurre il nostro confine del Brennero da un punto di vista pratico poteva non essere un danno però da un punto di vista psicologico De Gasperi sapeva e erano ancora vivi in Italia centinaia e centinaia di migliaia di famiglie che avevano avuto con la prima guerra mondiale morti feriti invalidi quindi toccare il confine del Brennero significava tra l'altro lasciare un motivo di rivendicazione questa era la spinta De Gasperi riuscì accordandosi con il ministro degli esteri austriaco Gruber a fare un accordo e questo accordo fu poi visto dai vincitori come un qualche cosa che li esonerava dal dover prendere posizione in questa materia questo fu ripeto un momento decisivo l'accordo dava alla minoranza di lingua tedesca e a quella di lingua ladina delle possibilità di riconoscimento della loro cultura anche di possibilità di attività legislative e fu un esempio se uno rifletta tutto quello che è accaduto in Jugoslavia dopo la fine del regime di Tito e la lacerazione che vi è stata capisce che cosa sarebbe accaduto se rimaneva aperta la questione dell'Alto Adige o se avessimo avuto delle penalizzazioni noi in quel momento comunque il trattato di pace doveva essere poi approvato dall'assemblea costituente quando parlo di trattato di pace uso un termine improprio dal punto di vista nostro perché noi non trattammo noi dovemmo accettare il trattato di pace e vi era una forte opposizione anche per orgoglio compresi alcuni personaggi importanti tipo Vittorio Emanuele Orlando che non rendendosi conto della realtà e in parte anche prigioniero di una figura storica di cui egli era portatore fece all'assemblea costituente che doveva dare un voto al governo per autorizzarlo a controfirmare questo atto di accettazione e non fu il solo Orlando avvilì De Gasperi parlò di cupidigia di servilità ma anche altri furono contro però era necessario questo boccone amaro e il voto alla fine si ebbe De Gasperi aveva mantenuto nonostante la situazione internazionale stesse lacerando il quadro e quindi rendendo pressoché impossibile la nostra collaborazione con i comunisti fece il possibile per mantenere questa collaborazione sia per il momento di questo voto all'assemblea costituente sia per il momento del voto sui rapporti tra Stato e Chiesa perché se si apriva o se si riapriva un dissenso in questa materia era anche qui una lacerazione in un momento in cui avevamo invece bisogno di un minimo di concordia fu un giorno quasi drammatico il 25 marzo del 1947 perché sulla carta noi eravamo in minoranza nel richiamare i trattati del laterano nella carta costituzionale però nella stessa giornata con l'embargo fino alle 6 di sera Togliatti avvertì De Gasperi che i comunisti sarebbero votati a favore cosa che era assolutamente non prevedibile e l'embargo valeva anche per i suoi perché disse anche i neri lo sapranno stasera allora c'era una disciplina che in altri momenti non si è conosciuta ma quando gli atti in un discorso molto responsabile non bisognava aprire l'acerazione nel popolo su un tema delicatissimo nel momento in cui c'era da concentrare invece gli sforzi nella ricostruzione i socialisti si alzarono gridando al tradimento perché furono presi all'improvviso ma liquidate queste due di vario valore queste due posizioni trattato di pace e il rapporto tra stato e chiesa la compatibilità all'interno del governo si rese veramente difficile perché la pressione di carattere comunista internazionale era tale che la libertà di manovra dei comunisti italiani era piuttosto ridotta De Gasperi fece un viaggio in America gli americani ci dettero molto aiuto ma non è che il viaggio in America convince De Gasperi dalle impossibilità di continuare a lavorare con i comunisti questo era obiettivo e semmai lui spiegò questo e sul fronte interno dopo pochi mesi il viaggio fu nel febbraio del 47 nel maggio fu la crisi e De Gasperi formò un governo molto diverso da quelli del comitato di liberazione e il governo sulle piazze ebbe qualche contrasto ma il governo ebbe il voto del Parlamento e cominciò un indirizzo nuovo di politica ma la cosa importante voglio ricordarla qui che all'assemblea costituente quell'armonia che prima io ho avuto occasione di dire rimase intatta cioè come se non fosse accaduta la rottura con i comunisti sul piano governativo questo è un esempio di sensibilità e di lungimiranza politica che qualche volta dovrebbe essere forse riconsiderato anche perché è alla base di un metodo democratico di gestire la cosa pubblica noi continueremo domani questo esame vedendo questa svolta quali risultati produsse e a quali tappe successive portò l'azione politica guidata dal Cile dei Gasperi il governo del maggio 47 ebbe alcune novità essenziali a parte la non partecipazione dei partiti di sinistra la presenza di uomini come Luigi Einaudi Luigi Einaudi professore di grande spicco all'università di Torino autore di articoli importanti nelle Corriere della Sera era rientrato dopo l'esilio del periodo dell'occupazione tedesca dalla Svizzera ed era divenuto governatore della Banca d'Italia una personalità così eccezionale poteva anche abbinare due incarichi cosa che non sarebbe mai più accaduto dopo essere cioè ministro del bilancio e governatore della Banca d'Italia il prestigio anche internazionale di Einaudi giocò molto perché la situazione monetaria italiana era una situazione tremenda nel senso cioè che il valore della nostra Lida era più o meno polverizzato in più vi era stata la emissione di lire da parte del governo militare alleato quindi questa doppia circolazione era un aspetto la prospettiva del governo fu posta su tre indirizzi il primo preparare la prima legislatura cioè si era ormai a pochi mesi dal termine del lavoro della costituente e si doveva varare la legge elettorale e arrivare alle elezioni per il primo Parlamento Camera dei Deputati e Senato della Repubblica secondo occorreva direi abbinare dei programmi magari estemporanei di ricostruzione immediata delle distruzioni operate durante la guerra con delle linee di sviluppo che facessero crescere il tono della nostra economia e questo in una linea anche di grande comprensione sociale ma incombeva tra l'altro in modo molto preminente una collocazione di livello internazionale l'Italia pagava ancora duramente il prezzo per l'isolamento con il quale il periodo fascista l'aveva collocata forse converrà dire subito che per entrare nelle Nazioni Unite noi abbiamo dovuto soffrire e patire molto noi siamo entrati nell'ONU soltanto nel 1955 quindi sette anni dopo il periodo del termine dell'Assemblea Costituente la prospettiva delle elezioni era da affrontarsi prima di tutto come ho detto con una legge elettorale salvo qualche piccola voce dissenziente la concordia nell'adottare il sistema del proporzionale fu spontanea e molto diffusa c'era poi un piccolo problema unatantum cioè nell'Assemblea Costituente sedevano personaggi di grandissimo spicco appartenenti al passato e alcuni che avevano come carta di credito politico i lunghi anni sofferti in prigione per ragioni di persecuzione allora si stabilì una norma transitoria che per la prima legislatura nel senato della repubblica sarebbero entrati come senatori di diritto tutti questi costituenti diciamo eccellenti e vedremo poi quale fu l'effetto pratico la costituzione fu varata in tempo utile entrò in vigore il primo gennaio del 1948 e tutto da quel momento fu dedicato alle elezioni che si svolgevano naturalmente da parte della sinistra in uno spirito di ricerca di rivincita dalla loro estromissione dal governo e da parte della democrazia cristiana dei partiti di centro invece per consolidare questa linea e impostarla su programmi molto precisi molto accessibili anche dalla gente l'Italia non votava salvo le elezioni per la costituente ma l'Italia non votava dal 1921 elezioni vere quelle del 24 erano state come ho già detto piuttosto sofisticate con quell'enorme premio di maggioranza la situazione internazionale stava prendendo un risvolto di una preoccupazione enorme un'iniziativa di Mosca in un certo senso ci aiutò Mosca chiamò a raccolta i partiti comunisti dell'Europa occidentale in una riunione che doveva rimanere riservatissima e dalla quale uscì un vero e proprio strumento di coordinamento politico e di azione tra questi partiti che non riprendeva in tutto il vecchio Cominternet cioè l'organizzazione che Togliatti aveva poi diretto durante il suo esilio si chiamò Cominforme ma era un'organizzazione che associava tutte le iniziative e le forze dei vari partiti comunisti per combattere l'occidente per combattere la linea democratica sulla quale noi lavoravamo la spaccatura tra il mondo occidentale e il mondo dell'est diventava una spaccatura ancora più lacerante per l'Italia parteciparono due comunisti Luigi Longo e Eugenio Reale tutto sarebbe dovuto rimanere nel segreto assoluto ma De Gasperi ebbe in mano questo testo lo ebbe posso dirlo dal direttore di un giornale di quel momento Realino Carbone che dirigeva il momento sera quale dei due posto che furono uno dei due a darlo io non lo so però la sicurezza che il testo era quello come fare a renderlo pubblico non volevamo metterli in difficoltà fra l'altro allora De Gasperi mi mandò a Parigi da Schumann che era primo ministro pregando di far pubblicare in Francia questo documento e immediatamente noi lo riproducemmo dando l'evidenza necessaria i comunisti fece un comunicato dicendo che era falso pochi anni dopo Eugenio Reale abbandonò il partito comunista scrisse un libro di memorie e nel libro c'è il testo che è esattamente il testo che noi pubblicamo nella campagna elettorale questo fece certamente impressione questa mobilitazione internazionale dei comunisti ma ancora più impressione fece il colpo di Stato che Mosca organizzò a Praga defenestrando e usò questa parola macabramente perché buttarono dalla finestra veramente il responsabile del governo e si vedeva allora che parlare di pericolo comunista non era un fantasma o un espediente di carattere elettorale la campagna elettorale fu molto vivace e vi fu anche una mobilitazione direi ausiliaria nel senso cioè che essendo in gioco anche la libertà religiosa perché la persecuzione nei paesi dell'est era in atto molto più grave di quella che non si era mai sognato di fare nemmeno Hitler che non aveva mai osato mettere in prigione un vescovo o un cardinale allora ci fu uno schieramento direi parallelo da parte delle organizzazioni cattoliche che dettero vita ai cosiddetti comitati civici che avevano come scopo diretto quello di eccitare la gente a votare non disertare le urne e come scopo indiretto quello di far sì che votassero per la democrazia cristiana o comunque per uno dei partiti che con noi erano collegati nel governo la campagna elettorale fu molto vivace De Gasperi vi partecipò con un entusiasmo vorrei dire giovanile manifestazioni di piazza erano enormi in senso e nell'altro la tensione era molto forte fu la situazione che in un certo senso ci agevolò e cioè che mentre come abbiamo visto per l'assemblea costituente alle elezioni comunisti e socialisti si erano presentati separati con due liste autonome fecero invece una lista unica il fronte il fronte popolare prendendo l'immagine di Garibaldi cercando in questo modo di eccitare uno spirito direi risorgimentale e di mettere in ombra per quanto possibile le caratteristiche comuniste proprio perché il peso di Mosca non era considerato un elemento che aiutava nella raccolta di voti il risultato fu straordinario sia come partecipazione e sia come risultati la democrazia cristiana ebbe la maggioranza assoluta che però per la ragione che ho detto prima e l'esistenza nella prima legislatura di un numero che era circa un centinaio di senatori di diritto al senato noi non avevamo maggioranza numerica tant'è vero che io che dal maggio del 47 ero sotto segretà della presidenza fui incaricato da De Gasperi di curare in modo particolare i rapporti con i senatori e metà della mia giornata la trascorrevo a Palazzo Madama in un modo molto gratificante perché avere a che fare con Orlando aveva a che fare con Nitti aveva a che fare con Paratore con Croce era qualche cosa da un lato mi intimidia ma dall'altro mi esaltava nella vivacità di un rapporto politico le linee del governo erano prevalentemente concentrate verso due obiettivi una riforma che desse il senso vero di una trasformazione sociale e la collocazione di politica estera rafforzata e chiara le riforme furono individuate in modo particolare in due settori il latifondo cioè dividere le grandi proprietà agrarie e dare la terra ai contadini con adeguati sussidi per poterla poi mettere in valore e la cassa per il mezzogiorno cioè dare per la prima volta uno strumento legislativo e con adeguati finanziamenti per far sì che il mezzogiorno d'Italia riducesse la propria disparità di livello rispetto a quello che era il nord che aveva potuto cominciare 50 anni prima il processo di industrializzazione quando morì De Gasperi una frase molto bella la disse un comunista importante Giorgio Amendola disse non riavremo più un presidente del consiglio capace in pochi mesi di mettere in piedi un progetto di riforma e di farselo approvare dal Parlamento dove di metterlo in atto queste furono naturalmente poi controindicazioni anche perché chi perdeva la terra non è che diventava un entusiasta e anche la politica verso il sud nel nord non c'era la rega allora però una certa diffidenza nei confronti dell'Italia meridionale e vedere specialmente dare dei privilegi per la crescita dell'Italia meridionale era abbastanza diffusa quindi furono due controindicazioni che però non fecero affatto modificare a De Gasperi quello che era il suo preciso indirizzo l'aveva detto prima delle elezioni e una delle sue massime era quella bisogna nelle elezioni promettere sempre un po' meno di quello che si è sicuri di poter mantenere in un mondo nel quale vi era questa sfida di Mosca è chiaro che occorreva al massimo possibile una concentrazione di forze per difendersi uno strumento fu il patto atlantico il patto atlantico che era imperniato sulla associazione di forze militari tra Stati Uniti d'America e Canada da un lato e i paesi dell'Europa occidentale dall'altro con una finalità precisa di essere sempre un po' più forti degli altri per scoraggiarli ad attaccarci cioè di dissuasione si chiamava deterrenza e devo dire che all'inizio questo fu considerato pretestuoso che non fosse vero che era invece un modo per volere andare contro le aspirazioni del popolo ma l'avvenire avrebbe dato poi ragione dopo molti anni il patto atlantico ha avuto il suo successo non ha mai dovuto sparare un colpo di cannone e l'Unione Sovietica si è dissolta certamente De Gasperi questo non lo vide però era assolutamente convinto ci furono delle difficoltà psicologiche perché il mondo cattolico all'idea di un patto militare era piuttosto refrattario furono superate in un modo brillante su suggerimento a De Gasperi da parte di Mozio Montini che era molto amico di De Gasperi a sua volta era figlio di un deputato popolare che era stato una delle vittime dell'epurazione che il fascismo aveva fatto di tutti i parlamentari non obbedienti fu suggerito di far venire l'ambasciatore italiano a Washington Alberto Tarchiani che era persona politicamente appartenente al vecchio partito d'azione un uomo laicista profondo e farlo parlare col Papa spiegare al Papa che cosa era veramente il patto a tanti e questo ebbe una capacità straordinaria di far capire al mondo cattolico quanto fosse necessario e che il patto era un patto difensivo e serviva alla pace non era un patto che portava verso avventure l'opposizione al patto atlantico da parte della sinistra fu atroce non c'è stata mai in Parlamento una lotta così dura durò tre giorni e tre notti ma De Gasperi volle che fosse fatto un dibattito non solo per ratificare ma un dibattito prima per autorizzare a firmare in modo che fosse veramente l'espressione di una maggioranza del popolo italiano quando successivamente si fa un po' di confusione che si dice ah gli italiani poi sono stati per molti decenni sotto una doppia disciplina o obbedivano a Mosca o obbedivano alla forza degli Stati Uniti ma manco per sogno da un lato il patto atlantico era un patto che lo stato italiano aveva firmato che il popolo italiano aveva confermato e quindi era una obbligazione di carattere internazionale la solidarietà invece tra partiti comunisti era un fatto interno di partito quindi non si può assolutamente equiparare questo modo che purtroppo lo si trova anche in qualche libro di storia ma è falsificante domani sera riprenderemo questa scorribanda e spero che almeno nelle linee essenziali si dia la sensazione precisa di quello che fu un momento di svolta veramente per la nostra nazione due persone nel governo dettero a De Gasperi per quello che riguarda la politica estera una collaborazione di grandissimo rilievo il ministro degli esteri Carlo Sforza Carlo Sforza veniva la diplomazia era stato in esilio nel periodo fascista ed era tornato con grande prestigio e il ministro della difesa Randolfo Paciardi Paciardi aveva le carte di regola in questo senso che aveva durante la guerra di Spagna militato insieme alla sinistra militato contro Franco quindi il fatto che due persone così rilevanti affiancassero De Gasperi in questa linea nuova e questa linea occidentale e questa linea di difesa si dava anche nel rapporto con gli altri paesi una carta piuttosto notevole ma vi era una grande armonia nel governo in modo particolare accanto a persone che avevano una competenza specifica nel campo economico vi erano persone che avevano culturalmente un grandissimo rilievo quindi l'impatto esterno del governo era un impatto notevole Vanoni Pella Lamalfa persone che conoscevano bene i problemi economici quindi questi due binari della politica economico-sociale e della politica estera avevano la possibilità di essere gestiti sotto la guida politica di De Gasperi ma in modo molto penetrante e molto efficace e man mano si ricostruiva una certa amicizia con una linea che deve essere sottolineata l'anno precedente vi era stata una iniziativa forse la prima iniziativa di Unione Europea il patto di Bruxelles che era stato fatto ma De Gasperi giustamente non fece aderire perché era fatto in una posizione di grande diffidenza anzi di grande ostilità nei confronti della Germania ora De Gasperi dice guardate la storia non si deve ripetere la Germania ha avuto la sua tragedia perché sul senso di essere stata trattata male dalla fine della prima guerra mondiale era poi nato tutto il rivendicazionismo di Hitler e diceva attenzione io non so di che colore sarà la camicia dei tedeschi tra dieci anni ma se noi non integreremo fortemente la Germania nel campo politico e nel campo economico certamente non sarà una camicia democratica e qui viene allora la precisa richiesta che anche noi facemmo che bisognava lavorare con la Germania e che anche la Germania doveva al più presto possibile risolto i suoi problemi diplomatici del trattato di pace entrare a far parte del patto atlantico nelle campagne sulle piazze la vita non era facile l'opposizione era molto attiva contestava e direi le condizioni obiettive anche erano tali da rendere facile questa attività che poi giuridicamente si chiamava eversiva mi spiego prendo la zona di Giuseppe di Vittorio il grande comunista leader del sindacato rosso e la zona Cerignola e tante altre zone della Puglia e altrove avevano una tale eccedenza di braccianti che per dare loro tre giorni al mese di lavoro occorreva un decreto del prefetto l'imponibile di mano d'opera si chiamò questo va detto perché certamente l'opposizione ha un vigore di carattere politico ma quando direi la base su cui si lavora è una base nella quale veramente vi era una posizione di enorme disagio la situazione era molto complicata certamente il messaggio che veniva dato con le riforme era un messaggio di serietà un messaggio di mantenimento di fedeltà a quelli che erano i programmi costruttivi della democrazia cristiana e degli altri partiti che lavoravano con noi però di tanto in tanto succedevano incidenti e occorreva per difendere l'ordine pubblico una mano molto ferma qui si pone uno dei collaboratori più forti di De Gastro di Mario Scelva Scelva era stato da giovane un segretario di Luigi Sturso non aveva mai piegato e aveva fatto una vita a grama nel periodo fascista perché era sempre rimasta in una posizione di grandissima fermezza democratica e Scelva creò una polizia che era una polizia efficiente naturalmente era uno dei punti di lotta più più forti ma la scelere che era però una necessità perché se la situazione naufragava tutto si sarebbe messo in avaria e il risultato delle elezioni sarebbe stato nullificato Scelva veramente riuscì a dare siccome nessuno poteva eccepire sulla sua personale fedeltà democratica e sulla sua linearità costante di antifascista pur essendo odiato pur essendo oggetto di campagne terribili però non perdette mai da parte dei responsabili il rispetto necessario nel frattempo man mano rifiorivano le autonomie locali si era ridato vita ai comuni alle province non si dette subito ci arrivo dopo a una novità che la costituzione aveva introdotto cioè le regioni mentre le regioni a statuto speciale ci dedicherò poi una puntata perché un argomento che merita ebbero una nascita tempestiva per il resto ci fu un ritardo fu utile fu non utile la polemica è aperta ma forse del tutto non producente De Gassi spiegava e disse anzi in un discorso che creò qualche polemica che anche le costituzioni si devono applicare con grano salis e questo naturalmente detto dal presidente del consiglio soffriva una contestazione il 14 luglio fu una giornata drammatica di per sé il lavoro era stato un lavoro di poca importanza io stavo parlando alla camera dei deputati su un problema il rifornimento della carta dei giornali e vi devo dire che fece benissimo Togliatti si era stufato e era uscito per andarsi a prendere un gelato vicino alla camera da Giolitti agli uffici del Vicario e ci fu l'attentato poi si vede che era uno squilibrato qualunque ma in quel momento si dette fuoco alle polveri perché sembrava che potesse eccitarsi la rivincita nei confronti di quella che era stata la risultanza della campagna elettorale di qualche mese prima tutto fu però liquidato in pochi giorni e devo dire che per essere corretti storicamente appena si rianimò Togliatti era stato portato al policlinico c'era stato il bollettino sanitario di Valdoni Frugoni e il suo medico personale Spallone appena fu in condizione di poter parlare mandò il dottor Spallone a dare un messaggio che doveva essere portato subito a De Gaspo dicendo che non sarebbe successo niente perché il timore che si potesse cercare di riprendere dalla piazza la situazione era un timore che per alcune ore era stato circolante erano stati qua e là su Montamiata Genoa e altrove dei fatti chiamiamo di disordini però fu anche quello una specie di collaudo nel senso cioè un collaudo di dire no la gente ha votato e la gente deve lasciare che quello che è stato programmato debba e possa essere attuato De Gasperi lavorò in quel periodo con un grandissimo impegno anche di politica estera specifica e cioè io ho già accennato alla sua preoccupazione di inserire la Germania nel quadro di un lavoro comune europeo questo fu concretizzato in due linee una prima nella comunità del carbone e dell'acciaio carbone e dell'acciaio erano gli argomenti per cui Francia e Germania erano direi storicamente contrapposte e la guerra probabilmente la prima o la seconda non come unico fatto ma come fatto molto incisivo nasceva proprio da questa realtà di dominio sul carbone e sull'acciaio allora la creazione di una messa a fattore comune di un organismo che avesse anche una rappresentatività politica fu da De Gasperi insieme a colleghi francesi a colleghi tedeschi ideata la CEICA la comunità europea del carbone e dell'acciaio con un'assemblea rappresentativa che fu anche il primo nucleo di vita europea c'era poi il problema militare che doveva succedere ho detto prima di questa idea di alleanza interatlantica delle forze ma come si doveva strutturare all'interno dell'Europa la realtà difensiva militare da idee miste di De Gasperi in particolare in questo caso di francesi nacque l'idea di un esercito europeo di una comunità europea di difesa tutti gli eserciti erano ancora con le strutture che la guerra alla fine aveva consunto e l'idea di poter avere una comunità di forze militari era suggestiva era nuova alcuni erano scettici però lo sforzo fu e si riuscì a firmare questa comunità europea di difesa nel 51 cominciò però da un lato una fortissima opposizione da parte comunista e socialista del resto in tutti i paesi ci fu da parte delle sinistre legate a Mosca perché si pensava che questo volesse dire rafforzare in via stabile l'occidente ed era così ma in modo particolare vi era una diffidenza nei confronti dei tedeschi perché si temeva che i tedeschi allora potessero reinseriti in questa comunità di difesa potessero poi prendere un po' la leadership per la loro consistenza e per la loro serietà la situazione cambiò politicamente in Franza perché la Franza aveva momenti di grandi difficoltà con le loro zone esterne l'Indocina in modo particolare successivamente è stata tutta la questione Algeria ma in quel momento c'era la questione dell'Indocina la Francia viveva sotto da un lato un po' l'amarezza di perdere delle posizioni e dall'altro la necessità invece di dover fronteggiare le situazioni nuove e quella che era stata l'azione di propulsione per la comunità europea di difesa Schumann cambiò perché andò al governo Mendes France con un governo che non sentiva questo problema e vi era una forte opposizione qui anche in Italia si registrò un qualche cosa che amareggiò molto dei gasperi cioè mentre non c'erano state delle difficoltà di principio per la firma però vi era molta esitazione nel portare a ratifica la comunità europea di difesa gli altri paesi la stavano ratificando si sapeva che la Francia era molto esitante ma nel frattempo in Italia era accaduto un fatto molto grave che aveva proprio come oggetto la posizione di De Gasperi cioè le elezioni del 1953 questo è un passaggio direi patetico nei confronti proprio della storia anche personale di De Gasperi perché il suo ultimo governo naufragò in Parlamento e la situazione ebbe immediati risvolti anche nella collocazione internazionale se le riforme della legislatura prima della Repubblica dettero la conferma di un indirizzo democratico vero della maggioranza però i colpiti non è che stavano con le mani in mano e c'era una reazione piuttosto forte in più le speranze che si erano accese erano forse superiore a quello che poteva essere realizzato dal governo e man mano si vide che proprio quello che era stato il massimo di concentrazione di favori che nell'aprile 48 aveva portato al risultato quasi trionfare non poteva essere ripetuto e si vide che nelle elezioni amministrative si perdeva quota e questo creò molto nervosismo in modo particolare nei partiti minori del governo che spinsero molto per una riforma elettorale fu una campagna molto dura si stabilì un premio di maggioranza per carità non si poteva richiamare il premio di quello che era stata la legge a cerbo che con un quarto si prendevano i tre quarti del Parlamento qui però vi era una posizione che ebbe immediatamente un fortissimo contrasto da parte dei comunisti e devo dire per un aspetto forse anche elogico nel senso cioè che se la coalizione di governo prendeva il 50% veniva ad avere invece il 65% come seggi perché questa opposizione perché con il 65% si possono fare in Parlamento delle modifiche alla Costituzione non soggette ad appello di referendum cosicché la discussione parlamentare già alla Camera ma in modo speciale al Senato fu di una tensione enorme e la conclusione fu in un vero e proprio tumulto e probabilmente si vuole molta buona volontà da parte del Presidente del Senato che era stato nominato poi proprio da due giorni Meuccio Ruini un vecchio combattente del Carso di cui Diaz aveva detto molti parlamentari erano a favore della guerra però quelli che l'hanno fatta veramente sono pochi e c'è uno poi che io non so se sia folle tutte le volte che c'era da uscire dalla trincea era il primo si chiamava Meuccio Ruini fu lui che presiedette questa seduta le elezioni avvennero in un clima molto teso ci furono molti voti nulli e non si arrivò al 50% per poco non si arrivò al 50% questo però creò un momento di grandissimo disagio i partiti minori in modo specifico Saragat ritenne che De Gasperi avesse fatto degli accordi segreti con Nenni che non era vero ma nemmeno all'uno per mille però si mise sotto la tenda non volle partecipare alle discussioni per fare il governo e De Gasperi avrebbe voluto ritirarsi fu Einaudi presidente della repubblica che lo pregò dicendo beh alla fine tanto dovranno poi votare invece non votarono De Gasperi il suo ultimo governo lo vide sconfitto in Parlamento fece un appello ai monarchici perché potessero dare un po' di sollievo ma i monarchici non accettarono perché ritenevano che De Gasperi volesse in un certo senso superare l'estate e poi ritornare alla coalizione con i partiti tradizionali De Gasperi alla fine di luglio del 1953 fu sconfitto in Parlamento e fu molto amara per lui questa vicenda e poi va collegata vedremo domani va collegata anche a quello che fu il mancato voto italiano proprio per la comunità europea di difesa la sfiducia a De Gasperi era stata votata alla fine di luglio del 1953 e l'incarico di formare il governo fu dato dal Presidente della Repubblica al Ministro del Tesoro direi in una veste quasi tecnica cioè di preparare il bilancio e di superare un momento di impossibilità di accordo tra i partiti De Gasperi non solo non fu contrario ma anzi per esempio pregò a me di rimanere come sottosegretario io avrei voluto ero con lui dal 47 avrei voluto uscire anche per una certa coerenza personale pregò di rimanere e la fece bene l'azione di governo solo in un episodio sbagliò profondamente e De Gasperi ne restò molto contrariato cioè prese sul serio una voce che la Jugoslavia mobilitasse contro di noi e fece schierare le nostre truppe sul fronte del nord-est dando un clima quasi prebellico questo dava molto entusiasmo alla gente diceva finalmente abbiamo un uomo forte un uomo vigoroso la stessa ambasciatrice degli Stati Uniti sembrava impazzita per questa presidenza muscolare che c'era stata di Pella per il resto era un gran uomo persona anche molto valida sul piano della politica finanziaria ma non fece procedere la ratifica della comunità europea di difesa di Gasperi era amareggiatissimo perché è vero che in Francia si sapeva che c'era però diceva se noi votiamo probabilmente diamo una mano a quelli che sono favorevoli in Francia Pella durò alcuni mesi poi i partiti della coalizione precedente pensarono di potersi ricostituire dopo un altro naufragio governativo e il governo dopo Pella era stato formato da Fanfani ma un governo che naufragò in Parlamento non ebbe la fiducia lui riteneva di avere qualche affidamento direi addirittura multilaterale sia dai monarchici che dai socialisti in verità non era così però tornò allora la coalizione dei quattro partiti e il governo fu composto sotto la presidenza di Mario Scelba Mario Scelba presentò in Parlamento la legge per ratificare la scelta però non ci furono le insistenze dovute e De Gasperi che era in quel momento anche piuttosto malato De Gasperi aveva svolto in quel periodo dal luglio del 53 fino all'estate del 54 un grande lavoro sia all'interno del partito sia nel livello europeo sembrava ringiovanito nonostante avesse un tasso di aziotemia molto forte nella stessa campagna elettorale doveva delle volte fermarsi dopo i comizi per riprendere un po' fiato non fu mai ratificato da parte dell'Italia De Gasperi morì il 19 di agosto del 54 e dieci giorni dopo il Parlamento francese affossò la CED ora se noi l'avessimo ratificata nemmo potuto evitare questo molti dicono di no però certamente fu uno dei motivi per cui De Gasperi passò gli ultimi giorni molto amareggiato poco tempo prima di morire esattamente alla fine di giugno De Gasperi aveva partecipato al congresso della democrazia cristiana a Napoli un congresso nel quale vi era una vivacità interna che lo stesso De Gasperi vedeva con grande preoccupazione De Gasperi era contro le correnti anche se un partito come il nostro che aveva chiamiamo dei borghesi insieme aveva delle grandi organizzazioni collaterali di contadini di operai di artigiani in qualche maniera doveva esprimere queste varie anime però il portarle come divisioni interne e aveva ragione De Gasperi era un errore successivamente forse anche se a tempi non brevi successivamente poi si vide come vi era un potere di corrosione all'interno della democrazia cristiana proprio derivato da questo modo di personalizzare le correnti e di dimenticare che per un partito gli avversari sono fuori e non sono all'interno del partito stesso la fine di De Gasperi ha anche luogo a dispute su quello che era stato il ruolo impersonato da De Gasperi nei confronti della chiesa in particolare gli americani non hanno mai capito molto bene mentre capiscono bene che cos'era la democrazia cristiana tedesca quella italiana faceva una confusione perché il Papa la democrazia cristiana c'era sempre stato un certo molto difficile di comprensione io credo che sia necessario spiegare questo anche perché giustamente si è rivelato anche dal libro di Maria Romana una certa freddezza di Pio XII nei confronti di De Gasperi io vorrei però essere molto preciso perché intanto vi è un documento invece che vale più di tutte le considerazioni cioè quando nel 1949 nel febbraio celebrandosi i venti anni della conciliazione del laterano De Gasperi andò in udienza e innovando sul protocollo perché per i capi di stato il Papa faceva dei discorsi per i capi di governo no il Papa fece un discorso io poi così riusciva ad avere il testo del discorso stesso che è manoscritto dal Papa anche con alcune sue correzioni e un elogio della personalità morale e politica di De Gasperi straordinaria per il resto certo erano due concezioni forse del mondo e della politica che non coincidevano non è possibile descrivere la fissionomia politica di De Gasperi senza vedere quello che lui ha seminato e che poi è stato coltivato ed è stato portato a compimento in modo particolare questo riguarda l'Unione Europea che era stato uno dei grandi sogni e che aveva avuto quel primo tentativo a parte la comunità del carbone dell'acciaio nella comunità europea di difesa che però dato il naufragio era poi rimasto così come una specie di sogno piuttosto vago ma quando fu ripreso il lavoro per cercare di concretizzarlo in un campo possibile cioè nel campo economico direi l'ombra positiva di De Gasperi era presente in tutte le riunioni anche persone non democratiche cristiane il ministro Agliette Gaetano Martino si rifasceva frequentemente a quello che era stato l'insegnamento di De Gasperi cioè di mettere per un momento da parte quelle che erano intese europee di carattere militare fermo restando quello che è l'impegno comune nel pataslante ma di dar vita ad una comunità economica questo si realizzò nel marzo del 57 quindi certamente De Gasperi non era più vivo però nessuno non abbinò in quel giorno nel Campidoglio quando si firmarono i trattati di Roma la comunità europea economica e la comunità dell'euratom non lo collegò a quello che era un insegnamento di De Gasperi non è un fatto sentimentale ma è un fatto politico e credo anzi che proprio la forza di un uomo politico sia quella di immettere nel sistema delle idee di fondo alcune delle quali può nel corso della sua vita e della sua azione di governo portare a realizzazione e le altre lasciarle poi fruttare nelle condizioni esterne possibili quando sia stato invece possibile farle arrivare a compimento nell'immediato cioè la continuità sostanziale di una linea politica ed è la linea politica di De Gasperi domani riprenderò un momento il tema dei rapporti tra mondo cattolico e mondo democristiano e specificamente nella visione di De Gasperi perché è un tema che è spesso descritto con toni da una parte e dall'altra che non mi sembrano giusti non obiettivi comunque quando De Gasperi accanto a alcuni reduci del vecchio partito popolare iniziò clandestinamente la ripresa di un partito di cattolici non dei cattolici un partito di cattolici però aperto anche ad altri io stesso ho avuto nelle elezioni che ho fatto successivamente anche dei fedelissimi elettori ebrei e dei lettori non cattolici però certamente il nucleo centrale era collegato direi concettualmente alla dottrina sociale cristiana e non a caso il primo manifesto le idee ricostruttive della democrazia cristiana era venuto dal gruppo di lavoro che riprendendo un vecchio testo dei cattolici belgi aveva preparato un codice sociale che poi fu chiamato il codice di Camaldoli perché appunto in questa abbazia toscana si riunì il gruppo di lavoro il caso volle che la data fosse del luglio del 1943 quindi due giorni dopo che si era iniziato questo lavoro venne il bombardamento di Roma io stesso per esempio che non perché scientificamente valessi qualche cosa ma ero stato immesso in questo gruppo di lavoro perché presidente degli universitari cattolici dove ti riprende la strada venire a Roma vedere che era successo a mia madre e la settimana si svolse e concluse guarda stranamente si può dire con il 25 luglio il giorno in cui Grandi fece approvare dal Gran Consiglio del Facimo l'ordine del giorno con il quale Mussolini fu poi messo in pensione con quel modo così un po' approssimativo perché il decreto del re dice viste le dimissioni per la verità mi sono mai date Mussolini però sono piccoli accorgimenti comunque per rimanere nel nostro tema vi è un indirizzo che è un indirizzo che contrasta sia con quello della fiducia illimitata nel libero mercato che le cose si adattino automaticamente lasciando che la libertà si attui nella maniera più piena anche nel mondo economico sia invece quelle di un dirigismo che poi portava all'esalterazione nei partiti che si ispiravano alle dottrine dell'este e che all'este poi non avevano certamente prodotto benessere né sviluppo di carattere economico questa coesione direi tra un indirizzo sociale cristiano e un indirizzo politico di cattolici che si rimettevano insieme che facevano appello anche a molti giovani perché si associassero e rappresentò quella che è una linea che è caratteristica c'era chi questa linea la favoriva e chi invece pensava che fosse più giusto che anche dei cattolici praticanti e militanti potessero appartenere se non a tutti i partiti ma almeno a due partiti contrapposti uno di carattere più conservatore e uno di carattere più innovativo la linea di De Gazzoli fu invece la linea che prevalse ed era stata una linea invece possibile raccolta in un fattore comune c'era però un punto delicato cioè la collaborazione con forze che invece erano culturalmente e anche direi dottrinalmente non solo laiche ma alcune laiciste cioè militanti contro il nostro modo di vedere però la situazione politica era tale che occorreva trovare su precisi programmi comuni di governo l'intesa con queste forze fu il grande sforzo che De Gasperi compì e qualche volta ebbe da parte del Vaticano anche della incomprensione sulla quale però non bisogna esagerare dopo la mobilitazione che nell'aprile del 48 aveva prodotto il risultato così brillante che poi aveva consentito di iniziare una politica sia interna che estera di grande costruttività e man mano che però si raffreddava la situazione e che anche la destra riprendeva una certa consistenza destra estrema il movimento sociale una consistenza limitata ma la destra monarchica una consistenza invece di un certo rilievo specie nell'Italia meridionale e la preoccupazione di De Gasto il quale era di far capire che questa raccolta in nome della monarchia non era assolutamente produttiva dal punto di vista politico perché nessuno si poteva illudere nella restaurazione e questo era abbastanza pacifico però se si toglievano consistenti appoggi alla democrazia cristiana e si creava consistenza a sua volta al partito monarchico rilevante di fatto poteva venire a beneficiare la sinistra per una legge dei numeri e De Gasto di questo era stato molto preoccupato e posso dirlo del resto ancora una volta l'ho scritto mi mandò una volta a trovare il re che era a Parigi ospite di Amici per spiegare dicendo guardate che qui si rischia di far vincere la sinistra in Italia se continua questo logorio a danno della democrazia cristiana per quello che sapemo il re aveva dato anche qualche suggerimento ma non è che fu molto seguito perché proprio nel momento decisivo quello che abbiamo già ripercorso nelle precedenti puntate la crisi di De Gasperi delle 53 proprio se i monarchici avessero potuto accettare quello che era l'invito che De Gasperi aveva fatto sarebbe evitata la crisi la caduta del suo governo e lui l'estate precedente in un discorso che molti hanno dimenticato forse per un discorso fatto il 31 di agosto la gente sta al mare ai monti ma a Predazzo celebrava 50 anni della sua vita politica e fece un discorso nel quale fece una distinzione netta tra monarchici e missini dicendo con i gambalati li chiamava così io non posso avere assolutamente alcun rapporto sarà un errore mio ma dopo tutto quello che abbiamo passato in Italia quello è un capitolo chiuso mentre invece con gli altri può essere fatto un discorso perché si tratta di un problema di restaurazione ma si tratta però di valori comuni di un tipo di società nel quale si può non essere in disaccordo questo è qualche cosa che gli creò un po' di opposizione la parte anche interna di democrazia cristiana e anche su questo forse conviene fare un momento di riflessione ricostruendo come stiamo facendo la fisionomia di De Gasperi perché torna ancora frequente questo contrapporre i giovani più arditi a De Gasperi che sarebbe stato più accomodante che sarebbe stato proprio per questa sua mano tesa in quel momento al partito monarchico sarebbe stato invece più transigente all'interno della democrazia cristiana vi era stato ad un certo momento un gruppo di prevalenza milanese università cattolica o comunque del nord imperniato su Dossetti e su Fanfani che avevano preso una posizione molto polemica nei confronti della democrazia cristiana così come era c'era una disputa fra l'altro tra partito organizzato e partito di opinione di altro era più del partito di opinione e ci fu una volta una frase che forse abbiamo capito poi molti anni dopo quando ci sono state molte polemiche gli disse signori miei però i partiti organizzati costano il partito organizzato però secondo la spinta di questo gruppo che contestava era loro avviso necessario in quanto il partito comunista era organizzato era collegatissimo alla confederazione generale italiana del lavoro e ora anche nella visione di Gasperiana c'era invece il senso di collateralismo con la confederazione dei sindacati liberi con i coltivatori diretti ma però sempre con una forma non così rigida e non così strutturata certamente avere in ogni borgata in ogni comune avere una presenza organizzativa e poteva fronteggiare meglio quella che era la vivacità degli avversari ci fu un po' di scontro Gasperi però cercò di mediare e fece anzi al congresso di Venezia della democrazia cristiana aveva invitato questi giovani venita la stanga usò questa espressione tra questi giovani vi era adesso non parlo tanto di età anagrafica ma parlo di visione e vi era Lapira Lapira è un personaggio una santissima persona però era un personaggio sotto questo profilo scomodo Lapira diceva se una cosa è giusta va fatta e i mezzi poi si devono trovare per forza e si trovò qualche volta in contrasto con l'azione di governo e ricordo anche un consiglio nazionale molto vivace nel quale Regastri appunto diceva signori quando si hanno idee è una cosa stupenda però per poterle realizzare occorrono dei mezzi e i mezzi non sono mai illimitati e ci fu questo tipo di disputa ognuno ha un suo temperamento poi nella nostra famiglia così variegata anzi forse questa vivacità dava anche una certa lucentezza un certo splendore però siccome ancora adesso sorge poi Dossetti lasciò ma lasciò perché divenne sacerdote ora siccome noi ci hanno insegnato che il signore chiama i sacerdoti la vera vocazione di Dossetti secondo me era quella con alcune intuizioni notevoliste per esempio sul problema del Medio Oriente anche culturalmente non si aveva delle idee straordinarie la Pira sui suoi convegni che metteva insieme palestinesi ed israeliti era una direi un'anticipazione di quello che sarebbe stata una linea di carattere generale però erano così delle posizioni direi un po' estreme e il centrismo di De Gasperi invece era una realtà non tattica ma concettuale quali erano i rapporti di De Gasperi con gli altri partiti e con le persone anche quelle che collaboravano con lui al governo erano di grande rispetto e in modo particolare c'era una linearità che era così marcata che forse è rara nel mondo politico e non era facile ad essere compresa per esempio quello che abbiamo visto fu il motivo immediato della crisi del suo ultimo governo cioè la rivolta di Saragat che riteneva che De Gasperi avesse una simpatia una specie di feeling nei confronti di Nenni cominciava a dire erano stati insieme a Laterano quindi si parla e che non è assolutamente a parte che erano due caratteri completamente opposti poi non è vero perché è vero che De Gasperi aveva ricevuto Nenni quando Nenni tornava l'anno precedente da Mosca dove aveva ricevuto il premio Stalin però gli riferì una cosa sintomatica cioè che lui aveva detto a Stalin io mi batto per un'Italia neutrale e Stalin gli aveva detto ma guarda che l'Italia per la sua storia e per la sua collocazione geografica non può essere neutrale l'essenziale è non essere oltransisti nelle alleanze allora questa frase che poi divenne il cavallo di battaglia di Nenni l'oltransismo atlantico però era la dimostrazione che questa intesa questa possibilità non c'era successivamente si svilupperanno ma attraverso gli anni le condizioni per poter avere una collaborazione tra democrazia cristiana ed altri partiti con i socialisti ma questo quando quando il partito socialista che ricordiamolo aveva avuto nel 1947 la scissione dei socialdemocratici proprio per ragione di politica estra quando il partito socialista si convinse invece che il patto atlantico e la comunità europea erano dei punti positivi per la vita italiana e per la collocazione del nostro paese e non a caso sono pubblicazioni adesso ci sono gli archivi che si consultano c'è anche una pubblicazione fatta da uno dei professori della LUIS tra gli Stati Uniti d'America e il centro-sinistra in cui si vede tutta questa evoluzione dei socialisti che certamente al momento di De Gasper non c'era in maniera assoluta e del resto anche nei confronti dei comunisti fu possibile poi in anni molto successivi 1976 il momento di grandissimo disagio sia finanziario per lo Stato italiano sia per la presenza delle Brigade Rose fu possibile far uscire i comunisti che dal 1947 erano all'opposizione dei governi con un'intesa parziale l'astenzione la non sfiduzia si chiamò ma perché? perché presero l'impegno a votare un documento cosa che fecero secondo il quale comunità europea e patto atlantico sono punti di riferimento fondamentali della politica estera italiana allora anche in questo io vedo una continuità nella azione di De Gasper tant'è vero che direi quello che era stato il motivo di un contrasto aspro di piazza un contrasto concettuale un contrasto fatto anche in un certo tipo di mondo intellettuale di sinistra poi si vide invece che la linea giusta era quella di ritenere che questi punti fermi sono dei punti fermi però a maggior ragione visto retrospettivamente viene giudicato in modo negativo quello che fu il siluro fatto a De Gasper nel momento nel quale avrebbe potuto ancora rappresentare purtroppo la sua salute era poi logorata ma avrebbe potuto ancora rappresentare il punto di riferimento della politica italiana e della politica estera italiana in modo particolare lunedì prossimo riprenderemo questo discorso avviandosi verso una conclusione cercando di riepilogare un po' le grandi linee di quello che può essere in un certo senso un messaggio che De Gasperi dà non solo cronistoricamente ma forse per poter valutare delle situazioni politiche senza alcuna finalità di carattere immediato ma come direi l'inserimento di una linea culturale politica nel quadro dello sviluppo di una situazione sia interna e sia esterna della nostra nazione non era facile anche per una persona superiore e distaccata come De Gasperi abituarsi ad una vita diversa dopo essere stato dal 1947 alla presidenza del consiglio la sconfitta che in parte era scontata che però fino all'ultimo si era cercato di scongiurare sia con iniziative che aveva preso riservatamente il presidente Inaudi verso i liberali e verso i socialdemocratici sia con il discorso che ho già ricordato di De Gasperi nei confronti dei monarchici per una sorta di tregua estiva comunque tutto questo ormai era alle spalle certo De Gasperi non aveva intenzione né corrispondeva al suo temperamento di mettersi in poltrona eventualmente a scrivere le memorie e pensò di dedicare la sua vita a quel che rimaneva della sua vita non era vecchio ma sapeva di non stare molto bene in salute l'ho già detto i comizi delle elezioni di quel 1953 le aveva fatti spesso con uno sforzo fisico straordinario e doveva subito dopo fermarsi un momento e distendersi con un sudore freddo e un impallidimento molto preoccupante lui pensò di dare la sua opera in due direzioni uno portare al campo internazionale l'esperienza e la sensibilità che lo distingueva e in cui si era tanto impegnato e nello stesso tempo dare alla democrazia cristiana al suo partito un contributo per evitare che scivolasse in un frazionismo molto pericoloso era il suo coschmar questo di vedere sorgere le correnti all'interno della stessa democrazia cristiana fu immediatamente offerta a lui la presidenza dell'assemblea parlamentare della comunità europea del carbone e dell'acciaio cioè quella struttura che era stata messa in piedi per dare una concreta collaborazione ai due grandi paesi che probabilmente si erano due volte scontrati in guerre micidiali proprio per un contrasto di fondo di interessi economici imperniati non in modo marginale proprio sul carbone e sull'acciaio De Gasperi prese volentieri questa presidenza anche se poté ricarvisi poco ma era un po' una specie di coronamento della sua vocazione di carattere internazionale e nello stesso tempo aveva la possibilità di ritrovarsi con uomini di generazioni come la sua alcuni ma delle nuove generazioni anche di giovanissimi ai quali voleva confermare se già lo avevano o instillare un grande amore per la politica internazionale e una coscienza europea concreta che era un po' il suo cavallo di battaglia riuscì con qualche sua soddisfazione in questo campo internazionale meno facile fu il suo apporto al far uscire la democrazia cristiana da una fase molto disagiata e polemica abbiamo già visto come la democrazia cristiana nata prevalentemente sulla radice di quello che era stato il partito popolare e sugli uomini che erano rimasti lealmente immuni da contaminazioni della dittatura con l'apporto che questi uomini in modo particolare dei Gasperi avevano tenuto molto ad acquisire di giovani giovani universitari ma anche giovani nei sindacati giovani nelle associazioni rappresentative vi era stato un momento difficile quando il gruppo chiamiamo dei fanfaniani di Dossetti in qualche maniera possiamo anche dire dell'università cattolica di Milano si era posto in una attitudine polemica verso vecchi non è tanto poi questione di anagrafe e vi era stato lo sforzo di De Gasperi per acquisire questo gruppo in un quadro generale di collaborazione la sua frase venite alla stanga a lavorare vi era poi stata la crisi personale di Dossetti una crisi religiosa in fondo perché ripeto se è vero che è Gesù che sceglie i suoi sacerdoti e la vocazione vera di Dossetti era quella del sacerdozio il resto erano importantissimi i ruoli che aveva potuto svolgere ma non la sua destinazione per così dire definitiva da un punto di vista terreno orbene De Gasperi ritenne come grande sacrificio non certo per avere nel suo curriculum una medaglietta democristiana in più di potersi offrire in quel momento di disagio perché il fatto di aver avuto una sconfitta parlamentare con il governo che era di De Gasperi ma era di democrazia cristiana con la sua presidenza e provocava disagio provocava anche avvenimento e nello stesso tempo vi era la necessità di dare al governo che si era formato un governo tecnico che Pella ministro del tesoro presiedeva con il compito di predisporre il bilancio per l'anno successivo e vedere poi che cosa politicamente fosse possibile di ricostruire o di costruire grande amarezza ebbe De Gasperi perché la sua rielezione segretario politico della democrazia cristiana a scutino segreto come USA non fu unanime ma ci furono 22 schede bianche qui c'è stato sempre un palleggiamento di paternità tra queste schede bianche io credo che non sono omogenee ci sono alcuni dei vecchi che non perdonavano a De Gasperi proprio di essere stato esagerato nell'apertura nei confronti dei giovani di croniche sociali nei confronti di Fanfani e di suoi amici e c'erano poi dei giovani che invece pensavano che con De Gasperi di nuovo a piazza del Gesù si restaurasse un po' in un certo senso il primato dei vecchi del partito comunque con grande umiltà De Gasperi non rinunciò nonostante questa votazione contrastata a assolvere quello che era il suo compito di segretario del partito nei confronti del governo fu inventata una frase di governo amico che naturalmente può essere visto come il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto come fosse la filosofia del bicchiere in De Gasperi in quel momento io penso di saperlo De Gasperi ritenne che nella fase nella quale si era rotta la coalizione un uomo come Pella fosse l'ideale anche per il suo stretto collegamento con il presidente della Repubblica in Audi secondo l'opinione di De Gasperi non era tanto importante che trionfasse un indirizzo di nuovi o un indirizzo di vecchi nella democrazia cristiana essenziale era a suo avviso che si riuscisse a dare risposte concrete a quelle che erano le aspettative della nazione e in modo particolare a dimostrare che le posizioni estreme da una parte e dall'altra non erano posizioni costruttive quando si dice democrazia cristiana nel concetto di Gasperiano certamente vi è uno sfondo o una cornice se volete cristiana ma vi è la posizione moderata la posizione di centro la posizione che non può mai dare soddisfazioni enfatiche o delusioni debilitanti ad una parte o dall'altra è sempre un delicato gioco di costruzioni di programmi di adeguamento di procedure di costatazione di possibilità ed educare il partito che ormai non poteva più vivere poi di rendita né sulle benemerenze di quelli che avevano resistito durante il periodo fascista né su merito delle elezioni del 1948 e il tempo certamente avrebbe poi dato ai beneficiari delle linee di riforma basti pensare ai destinatari delle terre distribuite tra i contadini dopo la fine del latifondo tutto questo avrebbe avuto un certo tempo tecnico necessario per poter fruttare politicamente l'essenziale era convincere che la posizione di centro non era una posizione di rinuncio una posizione in un certo senso burocratica amministrativa doveva essere attrettanto propulsiva quanto erano quelle di coloro che lottavano o per avviare ad una dittatura del proletariato poi lo dicessero no in questi termini o per una nostalgia invincibile che un piccolo gruppo continuava ad avere nei confronti del passato questo era il ruolo che sentiva e sotto questo aspetto pensava che il governo dovesse poter svolgere il suo lavoro ho già detto come non fu contento dell'iniziativa chiamiamo militare di Pella e di italiani che avevano preso mobilitando sul fronte del nord-est prendendo per buona una informazione secondo cui Tito si apprestava a marciare contro di noi tutto questo era direi in un certo senso marginale quello che contava era di ridare una spinta nuova e se questo poteva significare ripresa della coalizione bene o altrimenti bisognava fare in modo che il popolo sentisse come fosse necessario crearsi comunque una base solida di maggioranza e di presenza in Parlamento per alcuni mesi le cose camminarono in questa direzione però c'era chi con molto attivismo lavorava per ricostruire il governo di coalizione e mi riferisco a Mario Scelba Mario Scelba era stato uno dei fondatori insieme a De Gasperi della democrazia cristiana aveva tutte le sue carte in regola godeva di una grande protezione e amicizia da parte di Don Sturzo di cui era stato giovanissimo segretario era stato un buon ministro delle poste un ottimo ministro dell'interno con molta fermezza e avendo poi tutte le sue carte in regola come antifascista questo gli giovava nel senso che chi non accettava e anzi vedeva dal proprio punto di vista male la fermezza con cui l'ordine pubblico era tutelato da Scelba però non poteva mai attaccarlo sul piano personale Scelba cercò di riallacciare i rapporti con socialdemocratici con repubblicani e con liberali lo fece in proprio o perché voleva poi offrire questo a De Gasperi e io credo che la condizione anche negli altri partiti non era favorevole a De Gasperi lo avevano affossato e quindi sentivano anche un certo disagio secondo me nel vedere che De Gasperi potesse riprendere la guida del governo semmai però tutto questo poi non ci fu un modo di constatare se aveva una possibilità semmai alla scadenza di Einaudi De Gasperi avrebbe potuto essere presidente della repubblica io sinceramente non credo che l'arrebbero fatto però questo poteva essere una prospettiva nel frattempo vi era molta vivacità in Nale del partito in modo particolare Fanfani tant'è vero che quando il governo Pella cadde perché un discorso a Novara di Scelba favorevole alla ripresa dei rapporti tra i partiti democratici praticamente obbligò ad una crisi però non ne fu immediato beneficiario Scelba e ho già parlato qualche puntata fa Fanfani ritenne di poter formare un governo che ebbe però invece la stessa sorte dell'ultimo governo dei Gasperi perché Fanfani lo compose e a mio avviso lo compose illudendosi di poter avere l'appoggio diretto o con astensione sia dei socialisti sia dei monarchici io fui ministro dell'interno in questo governo Fanfani e avevo la sicurezza che invece questo non si sarebbe realizzato e lo ripeto la sera prima dissi a Fanfani che ero contento di aver accettato perché se fossi rimasto fuori poteva sembrare che facessi perché non volevo partecipare ad una seconda sconfitta dopo quella dell'ultimo governo di Gasperi vedi che Fanfani invece ancora la sera prima era piuttosto ottimista successivamente poi ha detto di no però un pietto ottimismo che non era inventato qualche affidamento sicuramente lui l'aveva avuto ma qualche volta gli affidamenti degli uomini politici non sono delle cambiali senza dire che anche le cambiali qualche volta poi vanno in protesto per questa sera è tutto domani vedremo come si formò questo governo Scelba e qual era la posizione di De Gasperi nei confronti della ripresa della coalizione l'esito delle consultazioni che in pratica Scelba faceva per comporre un governo riprendendo la formula del quadri partito andò a buon fine dopo il siluro che il Parlamento dette al tentativo di Fanfani Scelba aveva messo su una squadra direi molto importante sia di democristiani sia di altri partiti aveva un personaggio dell'Italia del Sud autorevole dei liberali Raffaele De Caro aveva Gaetano Martino professore universitario di Spicco alla pubblica istruzione aveva un piemontese liberale di grande valore Villa Bruna al ministero dell'industria aveva un social democratico vigorelli reduce dalla repubblica dell'ossola del periodo della liberazione e aveva anche da parte della democrazia cristiana una partecipazione sia di vecchi uomini Umberto Tupini Pietro Campilli sia anche di persone un po' nuove anche se non nuovissime come Fernando Tambroni che andò alla Marina Velcantili questo governo ebbe un successo iniziale cioè la soddisfazione di vedere ricostruita una formula e a De Gattoli se poteva in un certo senso forse arrecargli anche qualche punta di amarezza il fatto che si vedeva che con la stessa maggioranza che nel luglio del 53 l'aveva fatto fallire era invece possibile ricostruire un governo di coalizione però De Gattoli non fu affatto scontento e verso scelva godeva poi anche non solo di amicizia ma anche di ammirazione per il lavoro che scelva aveva fatto si domanderà perché allora nel governo del 53 scelva non c'era scelva era rimasto fuori così De Gattoli aveva offerto di andare alla difesa ma lui non aveva voluto e probabilmente pensava anche di essere una carta di riserva legittima e non contro De Gasperi ebbe un'infelicissima scivolata il governo anche se come tale resistette nei confronti di una iniziativa che era stata presa che fu il primo episodio di un utilizzo direi dello strumento giudiziario per una finalità di carattere politica cioè la denuncia di un figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni come responsabile dell'uccisione di una donna che era stata trovata cadavere nel litorale di Torbaianica e questo creò attorno a Piccioni che dovette rimettersi ma anche attorno al governo un clima di sfruttamento da parte dell'opposizione devo dire proprio vergognoso anche perché poi non tardò molto quando la magistratura poteva compiere i suoi accertamenti si vide che Piero Piccioni non c'entrava minimamente ritiratosi Piccioni dal governo Scelba offrì e il presidente nominò ministro degli esteri Gaetano Martino che era stato come avevo già detto nel governo come ministro della pubblica istruzione vale forse la pena di fermarsi un momento su questo Casomontesi perché Casomontesi nasce da una giovane che invaghita di un personaggio così di questi tra gli affari e i bordi della politica come questo marchese Ugo Montagna era stata sua amica per alcuni mesi poi si erano lasciati e lei fece un memoriale le fu data una copia a me e una copia a Fanfani i memoriali cominciavano con queste parole Ugo Montagna se li intendeva con Claretta Petacci Mussolini non faceva niente perché aveva paura di Ugo al padre dall'olio gesuita che venne a portarla a me io disse padre queste sono le cose che a Roma diciamo servono la notte di Natale per fare l'ora di andare alla messa ma le pare che si prenda sul serio una storia Fanfani l'ha preso sul serio dico subito che sono convinto sono lo direi che non ci fu una macchinazione politica Fanfani forse più rigoroso di me più rispettoso siccome poi nel memoriale si diceva male il capo della polizia c'era tra carabinieri e pubblica sicurezza un solco che bisognava stare attenti a non rimanerci prigionieri sta di fatto che poi ci fu l'indagine due cose rapidissime venne a casa mia ero in vacanza a Castel Gandolfo il giudice Sepe che aveva fatto quest'indagine venne e mi disse guardi voglio fare le leggi e quello che oggi ho depositato e ci tengo perché non voglio passare per antidemocristiano anzi dice sia l'altro anno cioè il 53 sia nel 48 io ho votato per lei lei non lo sa ma ho votato per lei qui a Roma allora io dissi ma scusi ma c'è la prova che Piccioni conoscesse questa ragazza e lui disse ma lei conosce Piccioni compositore di jazz amante di Alida Valli e gli dice ma che vuol dire se vendeva il corona in piazza della Minerva allora era una persona non sospettata sta di fatto che il tribunale non solo vide che non c'entrava ma dovette constatare che c'era stato anche un falso nella indagine fatta dai carabinieri cioè c'era perché era stato coinvolto anche il questore di Roma Polito c'era un verbale in cui si diceva che da una finestra si era visto Polito che entrava nella casa di una ragazza di vita amica del Montesi che si chiamava Bisaccia e poi dal sopraluogo si vide che tra questa finestra e il cancello del posto dove abitare all'abitaggio c'è un intero edificio quindi non si può vedere assolutamente niente devo dire che valeva la pena di fermarsi un momento perché ritorna ciclicamente questa storia del caso Montesi comunque il governo poté andare avanti lo stesso e l'intoppo vero se lo trovò nella scadenza settennale era la prima volta che c'era la scadenza perché è vero che già le 48 era la prima elezione vera e propria del settennato ma c'era un titolare che era De Nicola che era stato prima capoprovisore e poi per alcuni mesi presidente della Repubblica ma per un settennio era la prima volta che ci trovavamo a votare e le idee non erano per niente conformi all'interno della democrazia cristiana De Gasperi nel frattempo era morto De Gasperi era morto nell'agosto del 54 qui io mi riferisco al maggio del 55 quando noi avevamo questa sessione straordinaria dell'assemblea che doveva eleggere il successore di Luigi Einaudi Celma aveva dato le onoranze per la morte di De Gasperi un contributo non solo formale ai funerali di Stato ma un contributo sentimentale e aveva raccolto del resto quello che era uno stato d'animo della popolazione ci fu una commozione di carattere straordinario e De Gasperi era morto nella sua piccola casa di Sella di Val Sugana lungo tutta la strada ferroviaria fino a Roma ma in ogni stazione anche dove non era possibile che il treno potesse fermarsi vi era una folla enorme di persone e qui a Roma per alcuni giorni nella chiesa del Gesù dove accanto alla sede della democrazia cristiana aveva lavorato fin dal primo giorno dopo la liberazione di Roma vi fu veramente un plusso di romani di tutte le categorie di uomini vecchi di uomini giovani si sentì che era veramente un lutto nazionale oltre che qui in Roma un lutto cittadino l'eredità di De Gasperi era del resto nel discorso che anche in quella occasione fu ristampato e diffuso anche in occasione dei funerali nell'agosto del 54 il governo dopo pochi mesi si trovò dinanzi al problema dell'omina del capo dello Stato Luigi Inaudi avrebbe voluto essere rieletto questo lo posso dire con certezza perché la sera del venerdì santo invitò mia moglie e me a cena nel suo appartamento al Quirinale nell'ala direi più semplice dove lui alloggiava e una cena in cui era solo lui e sua moglie e Inaudi lo disse chiaramente che poi disse non è che mi nascondo che essendo così vecchio può darsi che poi non ce la faccia ma non è detto che se io sono rieletto devo essere per sette anni ed era una soluzione giusta una soluzione che fra l'altro ci poteva dare pace all'interno della democrazia cristiana perché senza De Gasperi una guida incontestata della democrazia cristiana non c'era abbiamo visto che anche De Gasperi aveva avuto 22 schede bianche quando aveva ripreso la direzione della segreteria politica e qui nonostante ci fosse una certa sintonia sul problema specifico tra Scelba presidente del consiglio e Fanfani segretario della democrazia cristiana che portavano come candidato Cesare Merzacro era un dirigente industriale persona molto notevole che era stato nei governi del CLN ministro del commercio estero ed era presidente del senato era eletto in un collegio della Lombardia come indipendente ma uno di quei collegi in cui si aveva il 70% dei voti quindi uno bene o male l'etichetta della democrazia cristiana appiccicata se la portava perché non era un estraneo noi però dico noi una parte notevole di democrazia cristiana non eravamo favorevoli a questa scelta e portavamo la riproposizione di Einaudi lo facevamo anche nell'assemblea dei gruppi riuniti ma non si accettò questo da parte né del governo né della segreteria politica di fanfani è chiaro che in quel momento la candidatura di Einaudi finiva con l'essere liquidata però andati ai voti il candidato Merzaga non ebbe quell'apporto che sarebbe stato necessario e ancora qui lo ripeto per l'ennesima volta la mancanza di una guida come De Gasperi si sentiva nonostante devo ricordare che nel 48 il candidato di Einaudi era stato sforza e proprio Fanfani e i suoi amici avevano silurato questa candidatura e poi era venuta fuori la candidatura di Einaudi questa è una specie di maledizione se si vuole dire così che non tutte le volte ma spesso cade sulla demograzia cristiana quando si deve rinnovare il presidente della repubblica le correnti o comunque la parte della democrazia cristiana che si erano opposte alla candidatura di Merzacora avevano dovuto constatare l'impossibilità di fare rieleggere Luigi Einaudi proposero la nomina del presidente della camera Giovanni Gronchi Giovanni Gronchi che era una personalità di spicco della democrazia cristiana considerato sempre un po' in alternativa a De Gasperi Gronchi stesso diceva che aveva una poltrona dorata che era quella di presidente della camera era stato prima per un piccolo tempo al governo come ministro dell'industria ma alla camera aveva riscosso un notevole successo anche con la opposizione Gronchi è un uomo molto libero nel senso per esempio che essendo convinto che l'Algeria marciasse verso l'indipendenza riceveva i rappresentanti del fronte algerino ogni volta provocando la reazione dell'ambasciata francese ma non per una politica che era dispettosa nei confronti della politica estera della nazione ma per alcune caratteristiche del suo modo di far politica che del resto erano sempre state e che avevano creato questa personalità così forte era inevitabile che il governo che si era impegnato fortemente nei confronti di Mezzagora risentisse di questa sconfitta e il governo fu allora formato dal presidente Segni Segni era un po' il simbolo della democrazia cristiana riformatrice il simbolo della riforma agraria un personaggio di grande prestigio professore universitario aveva rappresentato la democrazia cristiana nel congresso di Bari cioè il primo congresso antifascista quando ancora l'Italia era divisa in due e Roma era sotto occupazione tedesca quindi aveva anche una caratura politica molto notevole e io in quel governo fui invitato dal presidente Segni a far parte e feci il ministro delle finanze con molta vicinanza a Ezio Manoni persona di enorme spicco che avevamo nella democrazia cristiana con il quale era a contatto per ragioni diverse aveva sia pure in una piccolissima funzione fatto parte del redazione del codice di Camaldoli cioè l'aggiornamento del codice di Malin che era testo base della sociologia cristiana il governo Segni ebbe una vita in parte tranquilla in parte agitata perché si risentiva molto di questa diversità di comparti all'interno della democrazia cristiana però il governo Segni poter con l'impegno molto forte del ministro Gaetano Martino in modo particolare poter dar vita a quella che fu la grande rivincita che anche moralmente fu fatta in nome di Dei Asperi rispetto alla sconfitta che si era avuta con la comunità europea di difesa cioè nel marzo del 1957 il governo Segni dal Campidoglio di Roma poter lanciare con la firma del trattato della comunità europea e dei trattati della comunità per l'energia atomica poter veramente aprire la strada a quella che fu la grande politica europea che sta tuttora avendo gli sviluppi che tutti conosciamo e proprio collegato a questo indirizzo di carattere internazionale domani riprenderemo per un momento l'attenzione su quello che era stato De Gasperi nella comunità per il carbone dell'acciaio quando l'11 maggio del 54 De Gasperi si era insediato come presidente dell'assemblea della comunità del carbone e dell'acciaio un viaggio che aveva fatto con molta fatica personale la sua salute era già molto rogolata e vedemmo del resto poche settimane dopo all'ultimo congresso della democrazia cristiana a Napoli che lavorava sulle forze però fu un viaggio che doveva fare che credo che sarebbe morto di dolore se fosse stato bloccato perché era in un certo senso la conclusione di un suo indirizzo di politica internazionale in questo suo discorso inaugurale proprio dà la spiegazione che il carbone e l'acciaio sono direi l'aspetto materiale di questo indirizzo di ravvicinamento tra i due paesi tradizionalmente ostili ma che doveva essere visto molto di più il cammino successivo e parlò di una solida base di un interiore sviluppo quindi quando il governo cominciò a lavorare per la comunità europea cioè visto che non era andato bene il disegno di mettere insieme le forze sul campo militare e che invece quello di coordinare l'azione sul carbone dell'acciaio camminava si fece in un certo senso il grande salto di dire creiamo la comunità economica e vi fu il lavoro preparatorio che direi ad ogni seduta il nome di De Gastro veniva fuori quindi nel rievocare De Gastro non è che si fa una forzatura a protrarne la presenza anche oltre la sua vita fisica in un incontro a Messina furono lanciate le basi definitive e come ho detto il 25 marzo a Campidoglio fu firmato questo grandissimo documento della comunità europea economica e della comunità nucleare subito dopo però ricominciarono un po' le crisi perché si era una difficoltà di coesistenza tra la sinistra e i liberali la sorte dei liberali è curiosa perché ci sono momenti nei quali tutti si levano il cappello riconoscendo che sono i portatori del meglio che c'è nella tradizione risorgimentale poi però dei momenti in cui invece si vuole confondere conservazione reazionalismo con i liberali e allora i liberali uscirono dal governo e c'è però piace ricordarlo se qualche giovane che vuole studiare la comunità non dimentichi questo il discorso che Gaetano Martino che aveva dovuto lasciare il ministro degli Eti ma che fece in Parlamento durante la ratifica del trattato di Roma è un discorso particolarmente bello nel frattempo la democrazia cristiana fermo restando il ricordo fortissimo di De Gassi però risentiva di questo lutto nel senso cioè che essendo venuto a mancare una figura di così alta rappresentatività non vi era una successione pacifica e tant'è vero che si doveva anche ricorrere cosa che si fece per un periodo piuttosto piccolo meno di un anno nel 57 a un personaggio del vecchio democrazia cristiana Adone Zoli il quale fra l'altro ebbe però un vantaggio nella vita delle volte le cose sono strane essendo nato a predappio poter risolvere il problema della salma di Mussolini farlo inumare regolarmente nella sua città senza che nessuno potesse di niente Zoli era un antifascista noto quindi sommando le due cose antifasciste predappio gli fu consentito quello che probabilmente a nessuno di noi sarebbe stato consentito senza provocare chissà quali reazioni ad ogni ricorrenza anniversaria della morte di De Gasperi sia a Roma nella basilica di San Lorenzo al Verano quella basilica che era un po' il simbolo perché aveva avuto forti danneggiamenti dal bombardamento di Roma nel 19 luglio del 43 ma era anche il simbolo perché vi è sepolto Pio IX che era il Papa che per protesta nei confronti dell'occupazione di Roma da parte delle truppe italiane aveva inibito ai cattolici di fare vita pubblica allora San Lorenzo è in un certo senso un po' il simbolo di questo superamento dopo che vi è stato sepolto De Gasperi nei giorni sia qui sia a Sella di Valzugana e a Trento veniva rievocato e non solo con la preghiera che sono le forme poi più giuste ma perché forse allontanandosi da quella che può essere una certa emotività che si ha quando un uomo è vivo si cominciano a vedere un po' le linee della sua azione con maggiore forza e in modo particolare come ho detto la creazione di questa comunità europea veniva ad avere questo sigillo di una coerenza con quella che era stata la dottrina politica a cui De Gasperi si era ispirato nel frattempo la situazione interna di democrazia cristiana vedeva anche in parte avvicinamenti in parte posizioni di prese di stanza però Fanfani che persona di notevole valore ebbe la possibilità di formare dopo il governo Azzoli di formare lui il governo e questa volta senza incidenti di blocco iniziale come era accaduto nel 1954 per quello che vale io nel governo Fanfani rimasi e passai dal ministero del finanza al ministero del tesoro lo stesso corridoio del palazzo quindi senza operazione di sgombero il governo Fanfani ebbe sicuramente la possibilità di riprendere una certa attenzione sulla democrazia cristiana è un po' tradizionale Fanfani ma anche di grandi programmi il piano delle case le valorizzazioni delle zone di riforma fondiaria per crearne una produttività sempre più accentuata la politica degli enti di riforma con l'ausilio di un uomo importante nella democrazia cristiana che fu Giuseppe Medici ebbe in questo periodo un notevole impulso poi qui tralascio in modo un po' ondulato con cui noi abbiamo la formazione e la dissoluzione dei governi ci fu un ritorno al governo Segni e io questa novità ministeriale su designazione dello stesso segni e per volontà del presidente Gonchi cominciai un'esperienza che per me era nuova l'esperienza di ministro della difesa che poi sarebbe stata l'esperienza ministeriale più lunga che ho fatto nel corso della mia vita io avevo il timbro degasperiano sono lontano le mille miglia dal valore di degastroli però io sono formato a quella scuola e degastroli mi ha valorizzato lui mi ha immesso lui in questo circuito dove poi sarei rimasto forse più a lungo di quello che fisiologicamente si dovrebbe rimanere il ricordo di degastroli però era sempre vivo e mi colpiva che ad ogni incontro di carattere internazionale sia collegiale sia invece di visite qui o di visite altrove io stesso con il mondo dell'alleanza atlantica in particolare con il mondo americano non vi era contatto che non vedesse per un momento il rifarsi a De Gasperi e il sentire come aveva seminato autorevolezza e prestigio nei confronti dell'Italia noi pensiamo che si era fatta molta fatica ho parlato nelle puntate passate per recuperare una posizione internazionale tant'è vero che solo nel 1955 eravamo potuti entrare nell'organizzazione delle Nazioni Unite ormai la nostra posizione era una posizione derivante anche dal patto atlantico e dalla comunità europea era una posizione di recuperato prestigio in un contesto nuovo di vita internazionale un problema che si era posto già con De Gasperi ma che in quel momento diventò abbastanza acuto e del resto ce lo saremmo poi potuto vedere sul tappeto delle decisioni a lungo e quello delle partecipazioni statali cioè lo Stato può essere anche operatore economico a parte alcuni servizi le ferrovie e le poste ma la tradizione aveva portato però in Italia avere la presenza dello Stato come Stato imprenditore non era stata una scelta durante il periodo fascista dopo la crisi del 29 avevano dovuto creare un'istituzione che era l'Iri istituto della ricostruzione industriale che doveva gestire le partecipazioni di molte grandi società che erano finite per i loro debiti in proprietà delle banche allora era stata questa necessità e Mussolini aveva scelto fra l'altro un socialista sia pure in quel momento non in servizio attivo perché i partiti erano proibiti ma era un socialista beneduce che dette vita a questa istituzione che fu durante il periodo della ricostruzione post bellica anche molto utile perché fu una struttura che dette in alcuni settori basti pensare al piano siderurgico dette un impulso altrimenti non realizzabile è un discorso che vale la pena di fermarci un attimo perché ci sono delle tesi massimaliste che sono sbagliate cioè non è vero che il privato è bello e il pubblico è brutto o viceversa oggi l'IRI è stata messa in liquidazione la società internazionale oggi vede non bene queste partecipazioni governative però dobbiamo anche stare molto attento sia per ragioni di carattere storico sia per vedere poi la tutela dei nostri interessi a non cadere in trappole fondamentaliste di questo campo noi abbiamo avuto in quel momento anche uomini che venivano da l'IRI Mario Ferrari Agradi che era stato tra i collaboratori di De Gasperi proprio su questo tema di politica economico finanziaria uno degli elementi più importanti non è un mistero l'ultimo discorso che De Gasperi fece non fortunato perché come sappiamo non ebbe il voto ma era un discorso molto elaborato e quella parte fu preparata da Mario Ferrari Agradi ho voluto ricordarlo perché ripeto qualche volta si ha un po' una deformazione di carattere storico di questo istituto che invece fu un istituto importante come del resto per analogia e qui è strettamente ricollegata a De Gasperi come io ho già ricordato quando per la grandissima stima che De Gasperi aveva di Ezio Manoni De Gasperi dette il necessario credito e la necessaria fiducia a Enrico Mattei con la politica energetica italiana che anche quella fu una svolta molto importante ostacolatissima sotto molti aspetti perché andava a turbare un certo status quo del mondo petrolifero internazionale che però a mio avviso non può che essere considerata in un modo molto positivo e fa parte proprio di quelle eredità di grandi linee di grande respiro che De Gasperi aveva cercato di immettere nel circuito delle programmazioni di carattere politico sia in generale sia anche all'interno della classe dirigente della democrazia cristiana le situazioni politiche spesso però poi si avvitano su delle difficoltà i contrasti di persone si sommano ai contrasti di idee e l'influsso di forze esterne e in modo particolare quella che fu una novità cioè di dare un'importanza determinante alle coalizioni finora erano sempre state importanti le coalizioni però si dava più importanza ai programmi qui invece si invertì un po' la tradizione dei Gasperiani e l'importanza era data più a chi realizzava i programmi che i programmi stessi e questo provocò un momento di disagio che si ripercosse anche in attimi se si vuole ma di grandissimo rischio per la stabilità nazionale sullo sfondo della vita politica italiana nel 1959 60 vi era il rapporto tra il presidente della repubblica Giovanni Grunchi e le forze politiche in modo particolare con la democrazia cristiana Grunchi era un libero battitore come abbiamo visto era stato eletto presidente della repubblica portato non dalla direzione della democrazia cristiana ma i dissidenti per dire così e i non democristiani Grunchi pensò ad un certo momento di poter avere un'influenza maggiore Grunchi era stato per alcuni momenti trattato un po' male dai governi per esempio il ministro degli estri Gaetano Martino diffidava di Grunchi e gli aveva messo vicino un ambasciatore come consulente diplomatico ma anche come uomo che doveva frenarne eventuali eccessi che poi non c'era nessun bisogno non è vero l'idea di vedere un Grunchi filo est europeo non è mai esistito comunque allora Grunchi pensò di poter avere il governo del presidente per dire così senza enunciarlo come avrebbero poi fatto successivamente altri e portò avanti la figura di Tambroni Tambroni avvocato marchigiano era stato da giovane nel partito popolare aveva avuto un certo rilievo nelle due mansioni di ministro che aveva assolto marina mercantile e ministro dell'interno e si formò questo governo qui c'è una curiosità di carattere storico perché era di nuovo un governo che partiva senza avere sulla carta al momento dell'incarico già la sicurezza della maggioranza che lo avrebbe sostenuto perché partì ugualmente per scommessa no direi in qualche maniera si ripete quello che era accaduto a Fanfani nel 1954 cioè la sicurezza in questo caso con l'avallo forte del presidente Gronchi di poter avere una non belligeranza da parte dei socialisti e questo è documentabile anche pochi lo sanno dal fatto che la bozza di discorso inaugurale che Tambroni aveva predisposto fu sottoposta a Nenni e ci sono anche delle correzioni fatte da Nenni però poi Nenni andato al gruppo parlamentare a sostenere questo appoggio a Tambroni ebbe un rifiuto e da un uomo politico molto duttile e recettivo di quelle che erano le possibilità passò ad essere un grande avversario di Tambroni la destra cercò di sostituirsi in un momento nel quale questo era non solo immaturo ma anche controproducente vi fu una reazione anche di piazza notevole con momenti difficili il movimento sociale voleva fare il suo congresso a Genova prima fu consentito poi tolta questa autorizzazione furono giornate veramente brutte e vorrei dire che davano un po' di ombra alla stessa presidenza di Gronti probabilmente insomma anche Gronti era stato indotto a lanciare Tambroni da questa sicurezza di consentirvi la sopravvivenza sono giornate che non vorrei adesso drammatizzarne ma però furono giornate di grandissima tensione nelle quali si rischiò di vedere un po' sgretolare la situazione italiana cioè la piazza poteva veramente riprendere una funzione cosa che da molti anni non era accaduto come rischio e qui allora ci fu poi una certa abilità di Fanfani l'accettazione da parte di Gronchi e il recupero ancora una volta della coalizione che si ritene indispensabile per poter superare questa parentesi del governo Tambroni e nel luglio del 1960 Fanfani tornò ad essere presidente del consiglio e la situazione per un po' di tempo un anno e poco più non è molto ma fu normalizzata quanto c'è sempre di De Gasperi o non c'è di De Gasperi nello svolgersi che stiamo vedendo man mano della vita ministeriale e politica italiana continueremo domani sera ad esaminare Tambroni aveva formato il suo ministero non certo per fare atti antidemocratici anzi secondo il disegno di Gronchi che era il suo patron avrebbe dovuto portare avanti una politica ancora più democrata e ancora più popolare però nella vita pubblica contano non solo le sostanze ma anche le immagini quindi quando Fanfani mettendosi di nuovo d'accordo con i partiti delle vecchie coalizioni democratiche fu pronto per fare un governo tutti tirarono un sospiro e anzi per un po' di tempo Tambroni fu visto un po' come una bestia nera il che non è giusto ripeto perché un desiderio involutivo un desiderio reazionario non c'era stato semmai era stato proprio il contrario però nella vita pubblica spesso contano anche le impressioni Fanfani ricostruì il ministero e per un po' di tempo riuscì ad andare avanti anche per il suo metodo il suo dinamismo Tambroni fu certamente molto amareggiato fu messo da parte ma non creò difficoltà formali al governo di Fanfani però il potere all'interno della democrazia cristiana ripeto De Gasperi è stato un fatto unico concentrare in una persona una forte capacità di direzione nella democrazia cristiana non era accettato avremmo fatto bene avremmo fatto male forse è stato anche un elemento di debolezza ma Fanfani fu messo in crisi proprio dai suoi amici in un certo senso e emerse man mano il personaggio Aldo Moro Fanfani aveva guidato la cosiddetta svolta di centrosinistra con la possibilità di avere finalmente dai socialisti la non belligeranza e si chiamò centrosinistra pulito io polemizzai perché non era giusto dire questo perché allora che voleva dire che se i socialisti invece della stenzione davano il voto entrava non era più pulito mi sembra un errore comunque però fu una svolta che fu superata ci fu però ecco tra Fanfani e Moro una specie di corsa adesso a chi apriva di più ai socialisti nel congresso della democrazia cristiana io utilizzai un'immagine che veniva dalla pubblicità e che qualche volta serve a dare un'impressione più netta che non un lungo discorso dissi credevo che il centrosinistra fosse quello di Fanfani ma non aveva ancora visto quello di Moro perché era la reclama di un detersivo che allora andava molto di moda e fu un momento direi di svolta interna della democrazia cristiana con una forma di questo già in una delle puntate precedenti io ne ho parlato con una forma di incoraggiamento che c'era stata verso questo centrosinistra anche da parte degli Stati Uniti d'America ebbero una funzione importante vedendo dal punto di vista loro un consolidamento della situazione io non ero favorevole nel senso cioè che io ritenivo che se ci fosse stata disgraziatamente una guerra avere nell'alleanza di governo i socialisti ma avere contro la Nato i comunisti ci metteva in una posizione di un'estrema debolezza comunque per fortuna la guerra non c'è stata e vi è stato poi tutto un cammino che non è possibile per i nostri limiti di ricerca in questa puntata approfondire ulteriormente tutto quello che è stata la linea Moro che purtroppo poi fu troncata dall'assassinio di Aldo Moro dopo la virulenza delle Brigate Rosse e dopo il tentativo da parte di Berlinguer di portare i comunisti su una piattaforma di una certa indipendenza dall'Unione Sovietica fino ad ora abbiamo visto nei dieci anni dopo la morte di De Gasperi quale è stata l'ulteriore fase di un pensiero che De Gasperi aveva abbozzato o quali sono state eventualmente le linee diverse che i successori nella guida del governo e nella guida del partito avevano introdotto vorrei adesso direi fare un momento marsi indietro per rispondere a alcuni quesiti chi era De Gasperi primo quesito riguarda la religiosità di De Gasperi De Gasperi era certamente uomo di grandissima fede di costumi integerrimi di correttezza straordinaria e fu un episodio nel quale manifestò il suo modo di vivere il cristianesimo cioè il giorno in cui in piazza San Pietro il papa Pio XII faceva la proclamazione del dogma della Maria Assunta gli altri disse quasi a bassa voce così speriamo che questo non sia di ostacolo nel cammino di riunione con i protestanti poi forse preoccupato di avermi creato un problema che io non lo interpretassi correttamente mi dice guarda però che se il mio libro di meditazione è l'imitazione di Cristo guarda che io da ragazzo non andavo mai a letto anche se ero stanchissimo senza aver prima recitato il rosario questo voglio dire che ha un po' di possibilità di far capire non ostentava la sua religiosità la messa andava per conto suo la domenica spessa andava con la sua famiglia anche a San Pietro perché abitavano lì vicino ma anche in alcune cose che erano collettive manifestazioni religiose gli uomini cattolici avevano organizzato un primo venerdì del mese per i parlamentari di Castori non era presente mentre invece volle che il giorno prima dell'assemblea costituente vi fosse una grande cerimonia religiosa il veni creato lo motivò con la frase che poi era stata di Benedetto Croce che aveva illustrato il perché non possiamo non dirci cristiani che era la sua dirò tra parentesi Benedetto Croce con il quale poi più volte polemizzò perché nella storia d'Europa invece Croce ha nei confronti della chiesa una posizione estremamente polemica di Castori aveva grande amicizia con Montini ma lì forse più che il sacerdote senza assolutamente dire che non valesse questo ma era con il figlio del suo amico Montini deputato popolare e l'uomo che essendo poi in segretaria di Stato un personaggio poteva anche contare nei confronti di quello che era il movimento che i cattolici cercavano di rimettere in piedi come post popolare come democrazia cristiana dei sacerdoti con cui De Gasperi ebbe invece dimestichezza sul piano puramente sacerdotale vorrei ricordarne due padre Caresana parroco della chiesa padre del Bono della stessa congregazione del padre Caresana però in tutta la sua vita l'elemento base quello che fu il suo mentore da ragazzo e che poi gli fu estremamente vicino quando ebbe i suoi guai di carattere politico fu il vescovo di Trento Monsignor Endrici insieme ad alcuni sacerdoti di Trento che sono importanti nel senso che le lettere che De Gasperi scambiò con loro negli anni successivi sono punti di riferimento essenziali per comprendere anche il De Gasperi religioso e il De Gasperi politico religioso per De Gasperi la famiglia fu un punto essenziale di riferimento possiamo conoscere neanche degli aspetti nuovi io l'ho citato una volta in queste serate il volume pubblicato delle lettere a Francesca lo scambio di lettere con la fidanzata in cui c'è un De Gasperi del tutto inedito la sua famiglia di origine è una famiglia estremamente semplice e la sua famiglia acquisita è una famiglia che ha le radici nel momento più difficile della vita politica italiana quando il personaggio De Gasperi entra nella grande vita politica italiana dopo la conquista del Trentino e dopo le elezioni del 21 De Gasperi è distratto dall'epilogo del suo fidanzamento nell'estate famosa del 1922 quando la situazione stava precipitando il secondo governo fatto che Giolitti ha messo in piedi sperando che nel frattempo si potesse raffreddare un po' tutta la situazione e che quindi si ritornasse ad un vecchio sistema di formazione dei governi De Gasperi è costretto direi a interrompere il viaggio di nozze a tornare a Roma e ad essere intricato completamente in quella che fu la svolta nella quale l'illusione che Mussolini avendo solo 30 deputati non potesse rappresentare un pericolo sì era un momento straordinario il re dava a lui l'incarico si poteva far vivere qualche settimana cercare come è detto nel dichiarazione di voto che i popolari fecero cercare di ricondurlo nell'alveo democratico tradizionale questa era stata una grande illusione che era durata pochissimo fra l'altro e che dopo pochi mesi il congresso di Torino dei popolari aveva messo nel nullo facendo ritirare i suoi uomini dal governo De Gasio non era stato nel governo ma era capo del gruppo parlamentare quindi una corresponsabilità certamente ce l'aveva e cominciò da allora quella che fu la tragedia veramente perché già nell'inizio era compromessa la vita politica ma quando vollero poi fare una legge elettorale capestro perché avendo un quarto dei voti si veniva a avere tre quarti dei seggi la famosa legge Ascerbo i popolari fecero resistenza fecero resistenza ma non sufficiente cioè si divissero fortemente bisogna tenere conto che la situazione esterna era molto grave le violenze erano quotidiane e trovarono l'accordo nella Stenerti la Stenerti voleva far passare la legge quindi è vero che poi nelle elezioni immediate 24 i popolari si presentarono da soli mentre molti dei grandi uomini del passato compreso Orlando Giolitti fece un liste insieme ai fascisti però certamente ormai la situazione era precipitata e se forse non vi fosse stato l'assassino di Matteotti può darsi che le cose potessero avere un ritmo diverso o almeno più lento in volutivo ma l'assassino di Matteotti nel giugno del 25 provocò poi una stretta di freni i popolari insieme ad altri si ritirarono dal Parlamento andarono sulla Ventino e chiesero in vano al re questo l'ho già ricordato di prendere delle iniziative ma ormai la dittatura era in pieno svolgimento e con il 3 gennaio del 25 Mussolini enunciò le leggi eccezionali e cominciò quella che fu purtroppo l'esperienza nella quale anche la forma di democrazia in Italia era stata messa in un canto in pochi anni le gasperebbe quattro bambine e la storia familiare si intreccia con quella che è la storia politica del Presidente fino alla conclusione della sua esperienza pubblica vorrei dire che mi ha colpito una volta una frase quasi di schermo nei confronti di De Gasperi detta dal comandante Lauro perché il comandante Lauro disse ma si dice sempre De Gasperi bravo ma uno che arriva a 70 anni ancora non ha messo insieme un patrimonio vuol dire che non è bravo questo è un modo di valutare le cose certamente un po' strane di De Gasperi non ha messo insieme assolutamente mai un patrimonio la sua casa dove abitava era una casa estremamente modesta in via Bonifacio VIII certo migliore di quelle che erano state le soluzioni provvisorie di via Montesanto prima ancora di una stanza unica in una pensione con il lettino e poi due lettini per le bambine però io credo che anche se lui non ne parlava spesso De Gasperi non è mai stato vittimista ne parlava qualche volta aveva solo un accenno così un po' patetico a quanti si erano squagliati nel momento dell'instaurazione della dittatura e molta gente per quieto vivere faceva finta di non riconoscerlo e De Gasperi ha sofferto veramente molto questo ne ho già parlato e anzi fino a che non vi fu attraverso il concordato del laterano un certo modo svivendi con il Vaticano fu impossibile anche al Vaticano di dargli un piccolissimo lavoro come poi gli dette in biblioteca se noi guardiamo se noi guardiamo le lettere che De Gasperi ha scritto qualche volta su queste c'è proprio il senso di amarezza questo rifugire di persone che pure potevano anche non temere un granché e il fatto poi di dover affrontare la vita con un disagio assoluto la vita sostenuta solo dal poter fare poche traduzioni in particolare lui lavorò alla traduzione di alcuni volumi della storia dei papi del pastor e con la preoccupazione di dover fronteggiare una situazione qui in una Roma divenuta ostile questo fa molto pensare veramente perché io ritengo che alcuni avrebbero potuto aiutarlo anche senza compromettersi in maniera però non gliela ha mai voluto ragazzi non ha mai anzi alcuni di questi io so che se li incontrava in chiesa magari all'uscita facevano finta di avere molta fretta oppure non stavano nemmeno all'ultimo mangelo per non incontrare i gasperi non farsi vedere tant'era la paura poi che serpeggiava non ne ha mai voluto i gasperi prendersi delle rivincite oppure direi punirli o non gratificarli anche perché alcuni di questi lascio che sarebbe sbagliato che facessi dei nomi sarebbe sbagliato secondo l'insegnamento che dava dei gasperi però questo è importante cioè un quadro di vita che ha conosciuto la semplicità del ragazzo del piccolo sindacalista dello studente che va ai moti per l'università di Isbruck che si arrabbata nella vita difficile di una Vienna molto costosa fra l'altro e che poi ha avuto momenti di grandissimo fulgore momenti di riconoscimento internazionale di grande rilievo quindi ha conosciuto l'alfa e l'omega di tutto un itinerario molto complesso io penso che tutto questo serva a poter dare un'immagine di quello che è stato dei gasperi e quindi quando si dice che è veramente una persona irripetibile non è un modo così direi derivante solo da affetto o tantomeno un modo retorico di esprimersi domani continueremo in questo escursus nel mondo di De Gasperi io spero veramente che si riesca alla fine di darvi un'immagine in modo particolare per i giovani un'immagine precisa perché deve essere non solo un personaggio storico ma deve essere un personaggio guida storico italiano come si pone nei confronti della fedeltà alla patria e della fedeltà alla chiesa questo discorso ha rappresentato il cruccio di molte generazioni data l'evoluzione della nostra storia nazionale dato il fatto che l'Italia una veniva a crearsi man mano che si incorporavano i vari ducati e che l'ultimo di questi ducati fu lo stato pontificio io penso che la cultura di De Gasperi lo portava a guardare senza delle difficoltà particolari di Gasperi era un patriota vero era un patriota che aveva sentito il richiamo della unità nazionale che non aveva mai avuto flessioni nei confronti dell'Austria che come abbiamo visto nel momento più difficile quando tutto sembrava perduto nel momento di Caporetto fece il discorso più fiero più coraggioso e ricordò in Parlamento quello che era stato il sacrificio di Cesare Battisti se lo ritrovò poi questo problema da presidente del Consiglio da uomo guida della democrazia cristiana c'era da fronteggiare da un lato un possibile scivolo non forte dal punto di vista quantitativo ma sottile cioè di una certa condiscendenza verso i comunisti vi era il movimento dei comunisti cattolici vi erano giovani a cui lui aveva voluto bene figli di suoi vecchi amici Adriano Sicini è uno di questi però vi era anche la certezza di dover creare un movimento di cattolici che fosse fermo nei confronti dei rapporti internazionali e in modo particolare non avesse i pivoci nei confronti della contrarietà e della resistenza verso il regime sovietico però nello stesso tempo c'era una necessità realistica cioè di affrontare quello che era un modo di lavorare insieme con partiti laici allora far comprendere questo alle autorità religiose non era un compito facile ognuno conosce bene il proprio campo di lavoro e anche grazie di Stato come dicono i teologi uno l'ha per l'assolvimento del proprio compito non per quello di altri gli altri dovete faticare molto a far capire quanto fosse stato e fosse difficile avere nei confronti del mondo laico una apertura reciproca verso i cattolici nel campo politico e nello stesso tempo avere una fermezza sul piano internazionale su quella che era la linea di politica estera tutto questo comportò in alcuni momenti recentemente hanno pubblicato degli appunti dell'allora monsignore poi il cardinale Pietro Pavan che andò a parlare a De Gasperi inviato da Pio XII proprio con una evidente ispirazione di non capire quella che era la necessità di camminare insieme con un mondo per così dire liberale e una spinta a guardare i nemici soltanto a sinistra vorrei dire se c'è un cruccio di De Gasperi fu proprio questo di non aver fatto sufficientemente capire quello che era stato in chiave positiva il superamento di una non comunicabilità tra il mondo laico e il mondo cristiano i tempi che sono passati avrebbero poi dato ragione a De Gasperi ma in quel momento gli dettero anche dell'amarezza compreso un articolo della civiltà cattolica di padre Messineo dopo il crollo del governo ultimo di De Gasperi per il quale fu particolarmente avareggiata anzi mi aveva detto di fare un articolo contro io pro bono pacis poi dissi che era meglio soprassederci e di fatto questo articolo non è venuto mai fuori l'Italia non è una nazione come tutte le altre nel senso cioè che nel suo territorio si ospita anche non solo uno stato la città del Vaticano ma la centrale della chiesa cattolica qui San Pietro venne fu ucciso e instaurò la serie dei papi chi non tiene conto di questo è portato a valutazioni o in un senso o nell'altro non positive quando si trattò di creare un partito di cattolici non dei cattolici e De Gasperi si rendeva bene ragione di non implicare corresponsabilità della chiesa ma nello stesso tempo di poter fare affidamento sul sostegno degli ambienti organizzati cattolici tenendo nel proprio programma punti fermi che coincidevano questo portò a momenti facili ma anche a momenti difficili qui non possiamo per brevità ripercorrere tutta una storia però è importante che la fermezza democratica cioè quello che non è metodo di lavoro ma è sostanza di politica comportasse un rifiuto di principio di qualunque messa fuori gioco di forze rappresentative non è una smentita a questa linea il fatto che in un determinato momento fu presa una decisione nei confronti di un partito di estrema destra che non era poi il partito costituzionale dell'estrema destra ma era una frangia che era anche contro lo stesso movimento sociale questo va detto per inquadrare bene un punto De Gasperi era un anticomunista ma era un anticomunista democratico io penso che quando si ricostruisce la sua fisionomia si inquadra la sua azione e si prescinde da questa specificità si è portati a dare un giudizio o di debolezza o qualche volta anche di giochi non troppo chiari contemporaneamente questo è essenziale nella linea De Gasperiana il rapporto dell'Italia con l'unione sovietica dove a prescindere da quello che era il fatto dell'influsso che il partito comunista dell'unione sovietica aveva sul partito comunista italiano e in periodi non brevi sul partito socialista italiano noi eravamo un governo che trattava con il governo e questo fa sì che tutta la storia di decenni sia durante il periodo di De Gasperi sia dopo vede una serie di relazioni ad esempio con un personaggio storico del governo sovietico Andrei Gromico assolutamente corretto nei confronti dell'Italia questo aspetto che è uno dei capolavori dell'impostazione di De Gasperi è quello che ha consentito di avere una serie di rapporti ripeto stato a stato senza che questo comportasse l'ignorare o addirittura il sottovalutare che cosa significava la dipendenza per un lungo periodo del partito comunista italiano dal partito comunista dell'Unione sovietica ci voleva forse finezza politica per capire questo e non possiamo pretendere che tutti se ne rendessero adeguatamente conto ma quando si parla e io poi non voglio tornarci sopra se sarebbe da scrivere volumi quando si parla delle incomprensioni verso De Gasperi questo è un punto essenziale chi ritiene invece che si trattasse di debolezza o di duplicità non ha capito niente allora e non capisce niente adesso di quello che è stato De Gasperi per la vita politica italiana e anche oltre la vita politica della nostra nazione quando De Gasperi parlava con i giornalisti e diceva sono uno di voi poteva sembrare un modo di attirarsi una certa benevolenza o addirittura una espressione retorica non era così il primo momento decisivo esterno dell'azione di De Gasperi nel settembre del 1905 aveva 24 anni fu proprio la direzione del giornale La Voce che a Trento i cattolici avevano messo in piedi per esprimere il loro punto di vista in un contesto molto turbolento nel senso cioè che la propaganda anche di altri ma dei socialisti questo sul piano politico poi la propaganda direi tedeschizzante su un piano invece della nazionalità rendeva necessario avere delle posizioni piuttosto chiare e De Gasperi fu affascinato e in un certo senso riuscì a dare un tono molto costruttivo molto pugnace ma rispettoso sempre degli avversari chi erano questi avversari poi si trovò a dover competere con Oriundo perché non apparteneva al Trentino ma veniva dalle Romagne un propagandista socialista molto attivo profondamente antiflericale che si chiamava Benito Mussolini la storia personale di De Gasperi ha questa parentesi se vogliamo del momento non lungo della permanenza di Mussolini in Trentino di sono cronache di comizi che finivano poi con contraddittori un comizio di Merano è ricordato nel senso cioè che il cavallo di battaglia di Mussolini era che i cattolici non erano abbastanza nazionali e che quindi avevano accettato una specie di modus vivendi con la realtà austro-ungarica e su questo si svolgeva una polemica in toni che erano toni spessissimo molto vivaci e che trascinavano poi l'uditorio sia quello che era favorevole sia quello che era contrario e c'è una frase che Mussolini aveva spinto forse eccessivamente i ritmi della propria polemica c'è una frase che De Gasperi scrisse quel periodo disse poveraccio ogni giorno poteva rilevare le castronerie le enormità le offese che egli sta stampando contro di noi e possiamo dimostrare che cosa significa veramente se è questo il socialismo il periodo di permanenza di Mussolini da su fu breve ripeto perché fra l'altro esagerava e forse anche i suoi non ritenevano producente questo modo di fare polemia e questo modo di confondere la nazionalità con il socialismo già era difficile per i cattolici isolare quello che era il problema italiano dal problema del rapporto dello stato pontificio o ex stato pontificio con il regno d'Italia ma se poi si voleva dare una coloritura estremista al nazionalismo la strada era completamente sbagliata di qui questa in un certo senso vittoria perché Mussolini fu costretto a tornarsene via dal Trentino attraverso il giornale a Trento in quegli anni di quasi inizio secolo De Gasperi attivava anche il proprio interesse per i giovani che espatriavano dal Trentino in modo particolare andando a studiare a Vienna o a lavorare a Vienna si era sempre occupato molto anche organizzativamente di tenere unita questa famiglia di italiani sia cercando una specie di mutua di sostegno anche materiale ma sia dando agli studenti Trentini in modo specifico una propria fisionomia e non accettando un tipo di internazionalismo che solleticava invece ragazzi di altre nazionalità ma anche qualcuno proveniente dalle province italiane che cosa significava questo era un irredentismo certamente sì ma un irredentismo fatto con due caratteristiche primo rifiuto di qualunque azione di carattere violento questa era una distinzione buona o non buona che fosse qualche volta forse anche le bombe nella storia del risorgimento hanno avuto la loro funzione però la filosofia de gasperiana era invece quella di conseguire una coscienza nazionale e attendere poi che le condizioni esterne dell'Europa permettessero di avere questo ricongiungimento all'Italia l'azione giornalistica e l'azione propagandistica sono di un parallelismo molto chiaro e dimostrano anche un aspetto direi molto moderno di De Gasperi che qualche volta indulgeva anche a un po' di retorica citazioni un po' lunghe citazioni bibliche piuttosto reiterate ma poi quando veniva fuori il meglio del suo carattere invece vi era una grande direi lucentezza di vivacità immediata nel proporre dei temi e nel contrapporsi a quelle che erano le posizioni altrui posizioni che poi avremo ritrovato nel De Gasperi secondo tempo o terzo tempo avremmo ritrovato nella vita pubblica italiana è interessante che nella fase della sua attività parlamentare in Vienna tramite Svizzera riuscì anche a fare un viaggio in Italia parlò con Sonnino in modo particolare storico ministro degli esteri italiano e la spinta era stata data anche da circoli che pensavano ad un qualche accordo con il quale si potesse evitare poi lo scontro ormai la situazione europea era molto tesa si potesse evitare lo scontro cioè poter andare senza combattere alla risoluzione del problema dell'italianità delle terre irredente l'esito di questo convegno non fu positivo però De Gasperi aveva sempre esercitato un momento di grande emozione questo di poter andare a parlare con il ministro degli esteri d'Italia quelle che sono le vicende della guerra in parte le abbiamo viste in parte le dovremo ricapitolare perché anche su questo c'è una continuità nella vita di De Gasperi che altrimenti ci impedisce di ricostruirne la fisionomia la personalità lunedì continueremo questa ricerca storica che certamente io faccio non con l'animo del bibliotecario o del cronista ma con una fortissima nostalgia e senso di presenza di quello che fu De Gasperi quando era vivo dopo la vittoria gli adempimenti di carattere procedurale diplomatico impedirono che i deputati italiani potessero come tali essere partecipi della legislatura che si era iniziata nel 1919 di fatto parteciparono politicamente nelle varie formazioni però poterono entrare nel Parlamento italiano solo con le elezioni del 1921 e qui abbiamo il primo discorso di De Gasperi a cui ho già fatto una volta cenno un discorso di un patriottismo concreto cioè senza retorica che qualche volta invece sarebbe stato possibile utilizzare per un momento che era un momento di storia di passaggio Trento e Trieste che si erano ricongiute alla madrepatria De Gasperi si trova un po' isolato non solo perché conosceva poche persone in fondo l'ambiente romano e l'ambiente romano parlamentare già da un po' di tempo era un ambiente abbastanza amalgamato più di cento deputati che nel 19 erano venuti hanno creato certa comunanza e anche peraltro anche la messa in evidenza di una pluralità di indirizzi De Gasperi vive e questo lo sentirà anche poi negli anni successivi nel senso cioè questa Roma che gli ama ma che è un po' chiusa insomma è un po' a cerchi particolari Mussolini domina e domina utilizzando quello che era il desiderio di ordine quello che era un modo di violenza che ogni domenica le famose domeniche di sangue socialisti e fascisti si scontravano sulle piazze vi era veramente una certa stanchezza e lo storico si trova dinanzi ad un quesito come mai però fu lasciato campo libero a Mussolini Mussolini aveva una trentina di deputati non di più come mai riuscì lui a fare il governo fu veramente una colpa della monarchia fu abdicazione dei poteri costituzionali io credo che c'è un punto su cui non si è mai fatto abbastanza riferimento cioè quando Mussolini però trova con sé a formare un governo e quindi ad imporsi indipendentemente dal numero dei deputati perché prende due figure importanti Armando Diaz che era stato quello che aveva come forza armata condotto il riscatto di Caporetto e la vittoria e l'ammirario Tavondi Reve le persone di grandissimo prestigio nel campo militare in più Giovanni Gentile certamente non si può come filosofo amare o non amare ma era un grande personaggio quindi il governo di Mussolini del 1922 è questo governo che è un governo non fatto soltanto di uomini fedelissimi come Staranzi ma è fatto di questa partecipazione e con l'intesa poi questa era stata ripeto l'opinione di Sturzo che però avendo 30 deputati non era poi un pericolo perché quando lo si voleva mettere in crisi sarebbe stato facile questo era il modo di ragionare di decenni che purtroppo non ci si avvedeva che le cose non solo stavano cambiando ma che potevano cambiare come di fatto poi avvenne in modo radicale Mussolini dopo aver avuto l'investitura nel novembre del 1922 cominciò immediatamente la costruzione di un tipo di ordine costituzionale in Italia completamente diverso da quello che era la tradizione il piccolo manipolo di deputati fascisti si guardò bene dal fare dei conti aritmetici dicendo non siamo pochi e quindi bisogna che consentiamo un alternarsi di coloro che sono molti più di noi d'altra parte vi era anche una incompatibilità di fatto perché i due grandi gruppi il gruppo popolare cattolici e il gruppo socialista non avevano comunicativa tra di loro quindi un'alleanza di cattolici e di socialisti non era possibile di fatto inutile adesso fare delle ricostruzioni un po' così secondo dei calcoli a tavolino di fatto questo non era possibile c'era una filosofia del tutto diverso un modo di avere rapporti con la società che non coincideva quindi è vero che c'era una forte maggioranza numerica ma era una maggioranza divisa che quindi non rappresentava di fatto un'alternativa i popolari avevano capito immediatamente che con Mussolini c'era poco da fare tant'è vero che dopo pochi mesi loro erano muti via loro avevano aderito nel governo del novembre del 22 due ministri e un certo numero di sottosegretari ripeto poco dopo il congresso di Torino dei popolari prende le distanze e se ne vanno però Mussolini intanto fa un calcolo molto preciso bisogna rafforzare la maggioranza e rafforzarla come dando un premio elettorale molto forte la legge che fu con il nome di Ascerbo che era un fascista abruzzese prevedeva che vi era un moltiplicatore eccezionale con un quarto dei voti si andava ai tre quarti dei seggi si poteva impedire certo fu il momento cruciale i popolari ebbero fortissimi contrasti al proprio interno però non se la sentirono di votare contro e astenersi significava lasciar passare questa legge di cui lo scivolo erano e vero suggestionati anche dalle adesioni che questo aveva avuto da parte di personalità del passato Giovanni Gioliti Vittorio Emanuele Orlando che certamente non erano camicie nere però questo non giustificava la situazione immediatamente dopo queste elezioni che i popolari avevano fronteggiato con una lista autonoma e con un piccolo gruppo che era sopravvissuto e avvenne il delitto Matteotti il delitto Matteotti portò alla situazione di spinta dei deputati non fascisti a uscire dalla camera e andare quello che si chiamò laventino però questo non fece che accelerare i tempi sono strinse i freni il 3 gennaio 25 fece un discorso durissimo e comincia allora la vera e propria dittatura con le leggi eccezionali e chi non è con me è contro di me questo era il motto di Mussolini e De Gasperi non era con lui si trovò contro di lui e cominciano i guai di un lungo periodo che lo colpisce in modo durissimo lo Luigi Sturzo fondatore del partito popolare aveva dovuto prendere le vie dell'esilio il Vaticano si era imposto perché non volevano che un sacerdote fosse compromesso nella vita politica e sia pure con una lettera che minutata dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasperi è un capolavoro dal punto di vista diplomatico perché dice io devo partire devo lasciare il mio posto di segretario politico perché con un governo così duro così antidemocratico non si può convivere quindi la demonizzazione del governo c'era però anche la spinta a mandar via Sturzo pur rapida la decisione fascista di non consentire più nemmeno come uffici stralcio che esistessero partiti di opposizione e di Gassi si trovò in questo momento in grave difficoltà perché fra l'altro non aveva una professione altri avevano una professione che sia pure in qualche maniera poteva consentire loro di vivere e di avere come ricordo nostalgico gli anni della milizia parlamentare Gassi non aveva aveva questa buona conoscenza del tedesco però si trova anche isolato forse ne ho accennato altra volta queste sere si trova anche isolato perché era una Roma nella quale non aveva molti rapporti di Gassi non era mai stato e ne lo fu poi dopo quando tornò ad essere momento di gloria un salottiero per dire così non c'è anche di male io stesso che pure sono un popolano romano però dei salotti della principessa colonna di Maria Angiolillo della contessa peci io li ho frequentati i salotti e poi si incontrava anche molta gente interessante molto corpodiplomani allora forse non lo invitavano nemmeno certamente però direi era completamente allergico a questo tipo di relazioni e nello stesso tempo però è considerato un pericolo perché probabilmente Mussolini a parte le vecchie conoscenze trentine però sapeva che era una tempra di combattente molto serio e allora era continuamente vigilato e cercò di venersene via teoricamente il processo fu del tutto infondato dal punto di vista strettamente giuridico perché lui venne via come? Da Roma in macchina se ne andò Ruffo della Schiavette gli prestò la macchina e se ne andò a Orvieto per prendere il treno e nel tratto Orvieto Firenze fu fermato lui e sua moglie e gli fu notificata immediatamente una imputazione di tentato espadrio clandestino forse un momento ancora di riflessione su questo processo credo che sia indispensabile anche per rendersi conto di come era la situazione italiana in quelle terribili frangenti quando rievocava non lo faceva di frequente quel momento di giustizia che si era scagliata contro di lui di Gasperi la ricollegava a Isbruck ma diceva mentre due settimane in prigione a Isbruck non mi turbavano perché in fondo erano frutto di un governo che era contro di noi le manette invece che mi furono messe a Firenze mi turbavano perché era la mia patria che mi dava questa ingiusta e del tutto infondata punizione il processo si svolse al tribunale di Roma e tentato espadrio clandestino ripeto motivato su che cosa perché aveva il passaporto in tasca fra l'altro scaduto quindi non c'era nemmeno un'attualità del passaporto aveva una carta della Venezia Giulia e quindi il sospetto che andando a Trieste che era la destinazione che lui aveva dichiarato potesse poi andarsene sì poteva essere fondato ma non da un punto di vista processuale però non è che si guardasse molto per il sottile i giudici dietro quattro anni di reclusione rimase in prigione e Meda che era un grande popolare e avvocato continuò a difenderlo e riuscì in sede di appello a fargli ridurre a due anni la punizione però la motivazione era così fragile secondo l'opinione di me e secondo l'opinione di tutti perché questo espadrio non era fondato su nessun elemento giuridicamente valido che sembrava che il ricorso in Cassazione fosse una passeggiata e De Castro era convinto e proprio il trauma che invece ebbe quando la Cassazione confermò la condanna dei due anni fu un trauma molto duro lo si desume dalle sue lettere in quel momento e anche quando ne parlava ma non ne parlava poi molto spesso si tentò di far avere un provvedimento di grazia e per agevolarlo un padre gesuita che era in buoni rapporti con Mussolini padre Tachivino eliminato una lettera che avrebbe dovuto rivolgere a Mussolini lui era d'accordo su tutta la lettera salvo una parte quella che era in fondo un riconoscimento positivo del regime e un qualche cosa un po' di pietistico si rifiutò tant'è vero che c'è questa minuta di lettere non è mai partita allora si tentò da parte di qualche amico di utilizzare una via diversa il re andava a visitare Bolzano e l'arcivesco di Trento Monsignor Dendrici che era l'amico vero di De Gattoli quello che anche in quel momento gli aveva mandato anche qualche lira dicendo guarda non è l'emosia so che tu non te la cavi ma allora parlò con il re e il re lo assicurò che sarebbe stata data la grazia fu data questa grazia ma con l'obbligo di rimanere a Roma anche questo allora era un qualche cosa che lo turbava perché a Roma per fare che cosa per vivere come nascono appunto qui tutti i traumi direi di un periodo di onorata miseria e di una impossibilità grave dire così da parte del Vaticano di aiutarlo perché non volevano mettersi in urto con il regime fascista questo fu possibile invece superare dopo che nel 29 c'era stata la pace tra Chiesa e Stato con i trattati del Laterano e allora fu possibile dare a De Gasperi un piccolissimo impiego di amanuenze alla Biblioteca Vaticana sono circostanze storiche che fanno molto riflettere però non ho mai sentito De Gasperi lamentarsene domani vedremo invece quello che dopo un periodo della preparazione quello che è il momento non voglio dire di gloria ma il momento positivo nel quale il deputato Trentino diventa l'espressione più importante della vita politica italiana in un quadro di grande lancio internazionale man mano che la guerra volgeva ad un esito disastroso sorgeva il problema del dopo e uomini politici di diverse estrazioni avevano dei rapporti con una giusta prospettiva cioè di dire in questo momento dobbiamo tener conto che l'Italia avrà bisogno di una risurrezione quando cadranno le strutture attuali della dittatura dopodiché lotteremo tra di noi e vedremo come deve essere instaurato un sistema che sia però un sistema assolutamente democratico questo spiega la collaborazione all'interno di quello che poi divenne anche formalmente il comitato di liberazione nazionale di De Gasperi e in generale dei popolari con comunisti socialisti liberali e con due partiti nuovi che si erano nel frattempo creati il partito d'azione e la democrazia del lavoro rapporti c'erano anche con il partito repubblicano storico che però siccome era del parere che non bisognava assolutamente avere alcun compromesso transitorio con la monarchia non fece parte del comitato di liberazione nazionale la storia abbiamo già in parte percorsa dell'occupazione tedesca di Roma il laterano il ritorno alla vita democratica il governo di coalizione e l'affermazione sempre più forte della personalità di De Gasperi il rispetto anche se nelle polemiche che poi lo insultavano come ahimè usa nella vita politica però il rispetto per questa personalità non veniva meno ma dominava però un contrasto che andava oltre i nostri confini mentre la guerra era stata vinta in una alleanza tattica tra Stati Uniti d'America Francia Inghilterra e Unione Sovietica immediatamente dopo con l'Unione Sovietica si ruppero i ponti l'Unione Sovietica non accettò di partecipare a un programma sostenuto dagli americani per la ricostruzione dell'Europa il piano Marshall e si vide con molta chiarezza che vi era da dover parare il rischio abbiamo già visto con le trattative per il piano di difesa comune il patto atlantico la fermezza con cui De Gasperi sostenne che era un patto esclusivamente di difesa la storia poi ha dato ragione si è visto che così era ma questo messe anche in evidenza un De Gasperi in un certo senso nuovo un De Gasperi battagliero in maniera assoluta anche nelle forme De Gasperi non aveva un'oratoria molto ridondante un'oratoria affascinante come altri Gronchi era stupendo in questa sua caratteristica quasi letteraria però i dibatti di parlamentari sono lì ad avere pagine intere di interruzioni interruzioni violenti e interruzioni a cui rispondeva prontamente non solo a Togliatti o a Nenni ma anche a persone vorrei dire di serie meno che Z questo serve anche a ricostruire la lettura di quegli atti parlamentari a ricostruire il clima e altri lavorava congiuntamente per bloccare quello che era l'espansionismo sovietico attraverso il patatantico e di dare avvio ad una collaborazione europea in modo particolare per quello si torna ancora un momento non abbiamo già parlato che era un suo punto fermo lui conosceva bene nel mondo germanico e continuava a dire attenzione se noi non associamo la Germania ai problemi di nuova Europa e di politica internazionale noi ricacciamo la Germania in un viottolo che sarà un viottolo da cui poi sbocca una nuova dittatura questo è il De Gasperi degli anni 44 e va fino agli anni 1934 53 vediamo in che forma però questa sua personalità incide nella situazione italiana e come si avvia poi purtroppo per quella legge tremenda della vita pubblica anche ad un tramonto che è un tramonto molto deludente e molto doloroso per lui l'essere impegnato fortemente nel governo prima come ministro senza portafogli poi come ministro degli esteri e poi a lungo come presidente del consiglio non impediva a De Gasperi di avere una preoccupazione che era vivissima cioè come i giovani ci vedono come prepariamo i giovani dedicava alla democrazia cristiana certo quantitativo di ore poche al mese ma i giovani anche del suo e del nostro partito dedicava molto tempo ed era poi circondato a parte me stesso ma Giorgio Tupini Edoardo Martino i suoi collaboratori erano prevalentemente dei giovani con i quali si ritrovava molto e faceva molto affidamento appunto sui giovani che cosa si diceva diceva innanzitutto date il buon esempio con la vostra vita personale se non c'è coerenza tra quella che è la vostra vita e il vostro insegnamento voi non avrete nessuna possibilità di costruire la gente capirà che siete falsi anche se le cose non vanno bene ma si vede che l'impegno c'è e che il disinteresse c'è la fiducia nel raddrizzare le strutture ci sarà sempre citava spesso e ce lo dava come libro di lettura molti di noi giovani un volumetto di padre Bevilacqua che era stato un valoroso cappellano della marina e poi degli alpini che poi divenne cardinale fu contemporaneamente cosa unica fu parroco a Brescia era un volumetto che si intitola l'uomo che conosce il soffrire e questo voleva dare un'indicazione di Gasperi non si vantava dei molti momenti di sofferenza della sua vita giovanile e ancora di più dopo ma diceva guardate la sofferenza è indispensabile perché la tentazione di credere che si possa prescindere dalla durezza dei problemi che esiste sempre perché le cose vi danno l'idea di andare bene e che per voi vanno bene questo dovete levarvelo dalla testa e dovete cercare di camminare proprio all'incontrario un'altra caratteristica che le Gasperi insegnava era la obiettività nel giudicare le persone mi colpì quando dovette scegliere il primo suo capo di gabinetto quando andò al Viminale si fece dare l'elenco dei prefetti e si fece spuntare aveva avuto molte lettere di raccomandazione questo è un uso piuttosto antico e forse anche contemporaneo si fece dare l'elenco delle raccomandazioni e fece spuntare tutte le raccomandazioni non capimmo per la verità che cosa stesse facendo se volesse vedere chi era il più raccomandato poi alla fine quando ebbe spuntati tutti i nomi dei raccomandati prese nell'ordine di ruolo il primo che non aveva avuto alcuna segnalazione che era il prefetto di Livorno Francesco Miraglia lo nominò suo capo di gabinetto e ci disse guardate io voglio insegnarvi come si deve amministrare lo Stato questo mi è rimasto profondamente impresso contemporaneamente aveva nei confronti di chi collaborava con lui un grandissimo rigore richiedeva molto e era raro anche che dicesse una parola di compiacimento se vi dava grazie era già un qualche cosa ma non perché fosse freddo fosse distaccato perché sentiva veramente che l'amministrazione dello Stato è qualche cosa che va al di sopra di noi non è un mestiere non è una società non è un affare contemporaneamente era anche un esempio di austerità grazie ti divertiva pochissimo qualche volta veniva a vedere qualche film nella saletta che era stata la saletta della censura della cultura popolare in via Veneto ma lui era veramente di una severità anche nella sua vita personale rimase malissimo una volta che fu costretto a fare un qualcosa di mondano si sposavano a Roma tra grandi riflettori Tyron Powell e Linda Christian allora per ragioni anche di un certo riguardo agli americani l'ambasciata si era mobilitata a tutt'uomo dovette partecipare a ricevimenti dovette partecipare anche a una serata d'onore che ci fu al cinema Barberini ma lo vedi in piccolissima parte incuriosito ma non si trovava al suo posto in questo ora il tempo libero e non ne aveva molto purtroppo lo dedicava a leggere leggeva moltissimo e devo dire questo concetto dell'austerità che è un concetto che non è facile ad essere partecipato e che anche per noi non era facile che fossimo dei mondani ma che eravamo molto giovani però sentivamo giorno per giorno che cosa di positivo poi dava e che modello di politica De Gasperi cercava di instillare una politica fatta di grande respiro una politica fatta di dimensioni internazionali ma una politica fatta prima di tutto di coerenza e anche di grande umiltà nel libro di memorie particolarmente toccante che la figlia Maria Romana ha scritto e vi è più di un accenno a questa freddezza del Papa a quale noi stessi abbiamo fatto riferimento però non vorrei dimenticare che ci sono stati anche momenti invece di grande attenzione ci fu una rappresentazione che era stata organizzata presso Pio XII da Paul Clodel della sua pièce l'annuncio fatto a Maria e con un pubblico di 40 persone non di più Pio XII volle che vi partecipasse dei Gasperi con la Signora e in quella occasione fu particolarmente gentile era strano si aveva la sensazione precisa che tutti e due in fondo fossero colpiti anche dalla novità perché non davano molto tempo il Papa si capisce ancora di più ma dei Gasperi per quello che conosco al teatro o a quella che è la ricreazione però la stima è un conto e le manifestazioni esterne possono essere diverse io credo che dobbiamo riconoscere che la stima ho già parlato di quando ci fu l'udienza del ventennale dei patti del laterano quella frase che il Papa aveva aggiunto di persona al testo che Luis Cresto aveva redatto e forse pensando che fosse troppo freddo quando aveva detto con vivo con piacimento salutiamo vostra eccellenza di cui la dottrina le insigni di qualità di governo e la integrità della vita trascorsa comportano ammirazione in patria e all'estero questo secondo me deve essere considerato nel quadro generale della vita di De Gasperi un uomo che forse il tempo poi avrebbe abituato a considerare adeguatamente ma che nell'immediato forse non tutti capirono quale ruolo straordinario avesse assolto e stesse assolvendo per la nostra nazione quando qualcuno si rivolgeva a De Gasperi per chiedere qualcosa cercava sempre di poter essere di aiuto e mai con finalità direi elettoralistiche in particolare fu di aiuto a persone che nel passato non le avevano certamente fatto del bene e anzi lo avevano deluso si erano dei politici che erano stati estremamente transattivi con il periodo fascista e che nel momento nel quale avrebbero a loro volta potuto dare una mano a De Gasperi invece si erano certamente ben guardati dal farlo De Gasperi ebbe ebbe un crescendo di popolarità anche sul piano internazionale prima accennato più di una volta alla comunità europea del carbone e dell'acciaio alla redazione e alla stipula del patto atlantico al respiro internazionale che finiva ad avere quali furono i cruci del suo momento politico nel quale governava furono sostanzialmente due uno che però guardato poi da un punto di vista storico non so poi se sia stato un danno cioè di non essere riuscito a salvare qualcosa delle colonie le colonie di per sé poi adesso la filosofia politica contemporanea il colonialismo lo guarda negativamente anzi il post colonialismo è liberazione ma allora non era così perché poi doveva essere o una misura valida per tutti o una misura che invece era solo punitiva per noi fu punitiva anche quel minimo che sembrò ad un certo momento si potesse salvaguardare non fu salvaguardato poi fu tutto il dramma di Trieste e della Venezia Giulia questo è stato forse il momento duro più forte per De Gasperi anche perché li si rimproverava da qualcuno che bene o male con fine del Brenner abbiamo parlato in modo dettagliato insomma era stato salvaguardato ma Trieste non era stata salvaguardata e il cammino per recuperare Trieste e certamente non Venezia Giulia nella sua interezza e l'Istria fu un cammino che De Gasperi avviò ma che poi fu portato a conclusione soltanto dopo la sua morte e questo direi fu il suo coschmar fu il suo avvilimento perché in lui erano abbinati Trento e Trieste essere l'espressione direi più forte e più vittoriosa di Trento italiana il Trentino che diventava presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non breve mentre il problema di Trieste bloccò quello che era il rischio di una vittoria definitiva di Tito che avrebbe provocato disastrose conseguenze ma vorrei dire che tra le partite negative che fino all'ultimo momento lui enunciava vi era proprio questa di aver dovuto e non poteva far diversamente Tito era uno dei vincitori Tito aveva tutto l'appoggio in quel momento dell'Unione Sovietica se poi fu possibile fare di più perché le cose poi cambiarono però credo che vada detto questo nel senso cioè che l'insegnamento la mia conclusione l'insegnamento che De Gasperi ci dava era quello non inebriatevi mai nei momenti di successo e di gloria pensate invece se aveste potuto fare di più per evitare delle difficoltà comunque ricordatevi che un uomo politico che non è umile è un truffatore domani continueremo il nostro colloquio e ripercorreremo qualche momento approfondendolo della vita di De Gasperi che incidenza ha sulla politica l'insieme dei problemi economici spesso si giudicano i politici se hanno o no o se mostrano comunque di avere una sensibilità o una conoscenza dei problemi politici e finanziari De Gasperi era un esempio che pur non avendo una preparazione tecnica nell'economia però le scelte politiche nei momenti decisivi sapeva prenderle e sapeva scegliere tra le tesi che gli venivano sottoposte nel giusto mezzo tra quelle che sono strette regole appunto di economia e le regole generali della conduzione dell'uomo della conduzione del popolo l'economia è al servizio dell'uomo detto così può sembrare una predicuccia da quaresimale De Gasperi ne era invece convinto e cioè era convinto che la strettissima adesione ad una sorta di automatismo di regole economiche non comportasse un risultato nel senso che l'uomo e non è un modo di dire ma l'uomo è al centro veramente di ogni attività sia di sviluppo sia invece di freno allo sviluppo l'uomo concepito come un uomo che ha bisogno di sostegno dalla politica l'uomo più povero l'uomo meno dotato deve essere al centro di una linea di sviluppo e questo spiega il De Gasperi il formatore De Gasperi nella maniera più clamorosa devo dire in un certo senso di invertire le marce che spezza il latifondo e che non si rassegna al fatto che il sud debba essere in una posizione disseredata e debba rimanerci la cosa importante era sotto questo aspetto direi avere dei rapporti con il mondo economico e dei rapporti non demagogici ci sono state persone nella vita di De Gasperi che io ho visto avere con lui delle relazioni estremamente corrette il presidente della Confindustria Angelo Costa un personaggio molto rigoroso un personaggio molto per bene di Genova che aveva soggezione di De Gasperi però parlava con lui in un modo estremamente aperto e a sua volta De Gasperi non lo considerava un nemico certo detto così si prestava poi alla propaganda piuttosto dozzinale della sinistra che aver rapporti con la Confindustria significava essere schiavi del capitale o essere succubi essere dei emancipi direi che questo non è assolutamente vero e che De Gasperi ci arriverò poi aveva invece lo stesso tipo di rapporti anzi forse un tipo più marcato ancora con i sindacati di cui valutava l'importanza la politicizzazione del sindacato era un danno ma pensare che in una fase e in generale in una nazione come la nostra così piena di politica il sindacato possa vivere completamente al di fuori di influssi attivi e passivi delle forze politiche delle forze dei partiti sarebbe un'illusione però l'idea di un sindacato unico che potesse tutelare il lavoratore senza alcuna preoccupazione di carattere politico all'inizio era stata partecipata da De Gasperi era favorevole dove avvenne la differenzazione proprio sulle linee di politica estera nella divisione del mondo nella creazione dell'est comunista che cercava di prevalere e nella obbedienza o comunque simpatia se vogliamo dei partiti di sinistra verso l'unione sovietica e si creò anche l'impossibilità a mantenere il sindacato unico De Gasperi non fu contento di questo era inevitabile e ne partecipava appunto la necessità però non fu contento perché pensava che questo creasse da un lato una minore difesa del lavoratore e dell'altro un accentuarsi di una specie di rincorsa delle richieste che rendeva ancora più difficile la vita al governo quindi era un ragionamento anche interessato nel senso migliore di questa espressione però con i sindacalisti anche come persone aveva un atteggiamento di rispetto e quando poteva avere un rapporto con loro ne era lieto ricordava anche se qualche volta che lo disse anche in pubblico erano momenti di grande tensione i comunisti prendevano tutte le occasioni per andare contro a De Gasperi irridevano su questo De Gasperi si gloriava di essere stato un sindacalista come abbiamo già ricordato alcune sere fa quando De Gasperi organizzava gli sciopri di tagliatori di legna nel Trentino e richiedeva dei salari più giusti e delle ore di lavoro meno intollerabili devo dire che perfino con l'uomo più rappresentativo e anche più politicizzato del sindacato di sinistra Giuseppe Di Vittorio De Gasperi mantenne un atteggiamento di grandissimo rispetto sia perché ne conosceva la linearità della sua vita passata sia iniziale sia quella nell'ecilio sia perché questo più volte è ritornato nei suoi discorsi interni quando qualcuno lo accusava di una certa debolezza al riguardo e diceva attenzione non dimenticatevi che a parte il ruolo di carattere generale Di Vittorio viene da una terra che è una terra così povera dove l'agricoltura vive in modo talmente piena di stenti che il prefetto deve fare il decreto per dare ai braccianti tre giorni al mese di lavoro quello che era in quel momento l'imponibile di mano d'opera questi rilievi che De Gasperi ripassiva certo non erano tale di creargli la simpatia in un mondo che invece vede solo o di qua o di là però che invece danno io credo la prova di una sensibilità umana e di una socialità vera non demagogica che contraddistingueva De Gasperi il De Gasperi giovane e il De Gasperi con le massime responsabilità del governo c'è un'espressione ricorrente oggi meno ma nel passato era pane quotidiano i borghesi il mondo si divideva in borghesi e nel resto e vi era una contrapposizione tra socialità e borghesia sotto questo aspetto De Gasperi non partecipò di questo manicheismo anche di nomenclature e altri pensò sempre e la linea ispiratrice delle riforme di tutta la legislazione lo sforzo perché anche nella politica tributaria ci fosse una maggiore giustizia e che si creassero delle condizioni di vita possibili lo sforzo per far sì che i beneficiari della riforma agraria però non si trovassero poi dinanzi ad un pezzo di terra inerte ma avessero tramite gli enti di riforma i sostegni necessari c'è tutto un concetto di evoluzione della società che non porta a delle grandi punte ma porta però alla perequazione fatta in modo da far elevare quelli che erano in una posizione assolutamente al di sotto dei minimi necessari e non era una posizione isolata sia in alcune zone ma in qualche parte anche in zone che nella globalità poi non erano classificate in un modo così negativo De Gasperi devo dire era l'antidemagogia impersonificata spesso diceva guardate il demagogo è un'immediata fortuna perché solletica dei sentimenti che sono dei sentimenti di astio sociale di necessità di rivincita di progresso legittimamente voluto però di fatto poi la conclusione dell'operazione del demagogo è una conclusione negativa anche se il demagogo è scappato ma però i risultati nefasti della sua azione rimangono questo in una fase nella quale ancora adesso si cerca di creare un modello di società che sia un modello adeguato perché molti degli ideali di De Gasperi l'europeismo il fatto che i confini non siano una barriera il fatto che vi sia una cooperazione internazionale si sono poi concretizzati su linee precise tuttora in evoluzione come quella dell'Unione Europea però lo spirito direi è necessario che in qualche maniera si approfondisca allora il richiamarsi a De Gasperi non è una commemorazione di un defunto un atto dovuto una persona per bene che bene o male ha segnato un momento positivo per la nostra nazione no questo non servirebbe a niente io credo che serve proprio invece il cercare di individuare quello che è stato l'insegnamento di De Gasperi quello che è stato un insegnamento di grandissimo rispetto nei confronti anche di chi non condivideva il suo modo di vedere i problemi purché non si arrivasse oltre i limiti della messa in discussione della stessa esistenza di una vita democratica quello era un limite che non consentiva delle forme tenue di comprensione o anche di sopportazione però io penso che se in tutte queste sere abbiamo ricordato De Gasperi se c'è un'utilità è quella di cercare di far emergere quelle che sono state delle caratteristiche che poi non invecchiano nel senso cioè che i problemi non sono mai gli stessi le situazioni esterne sono situazioni che delle volte involvono delle volte evolvono però le linee guida devono essere delle linee guida che se sono buone non invecchiano qualche volta purtroppo se poi si gira attorno e non si rispettano si può anche credere per qualche attimo di aver ottenuto dei risultati ma non è così proprio questo insegnamento di fondo di De Gasperi per cui tutto è al servizio dell'uomo e non ci può essere sopraffazione di un gruppo rispetto ad un altro gruppo io credo che dovrebbe essere l'insegnamento quotidiano e dovremmo cercare di trasmettere ai giovani in modo particolare perché non si lascino attrarre da una politica massimalista noi oggi parliamo molto contro il fondamentalismo islamico ma c'è un fondamentalismo senza aggettivi che è un male sottile che c'è stato e che c'è tuttora dovunque De Gasperi era l'antifondamentalista per eccellenza quando sull'idea di fondo che De Gasperi ha cercato di concretare su un piano di integrazioni di forze armate ma che poi fu sviluppata come cooperazione di carattere economico rimase una linea che all'inizio non era facile capire bene e comunque non c'erano le circostanze esterne per renderla produttiva cioè che la unione di più paesi il mettere a fattore comune il ridurre la rigidità dei confini ha un valore se però la cooperazione su un piano sociale è di aiuto a coloro che sono i meno provveduti per un lungo tempo questo è rimasto estraneo alla vita comunitaria e si faceva riferimento sbagliando al fatto che De Gasperi avesse dato più importanza alle strutture pubbliche nel senso cioè più importanza ad avere un'integrazione di strumenti di difesa che non quella di avere attenzione per far progredire coloro che economicamente erano i meno provveduti questo è durato parecchio c'è stata nella comunità anche la fase un po' rigida la signora Thatcher fu un esempio di questo perché riteneva che ogni paese nel proprio interno debba fronteggiare le disparità di carattere sociale ma che non competesse alla comunità come tale tant'è vero che la carta sociale non fu approvata dalla comunità come tale perché mancava un voto e ci voleva l'unanimità e mancava il voto della Gran Bretagna si badi non che loro non avessero all'interno questa sensibilità perché anzi forse in alcuni settori di previdenza di assistenza sociale avevano posizioni anche più avanzate degli altri ma c'era questa concezione e allora il rifarsi come qualcuno si rifasseva a De Gasperi come questa specie di paratia di una Europa che invece deve lasciare poi che ognuno dei componenti risolva i propri problemi sociali questo era il contrario esatto di quello che si resume da tutto l'insegnamento che era di De Gasperi e che io ritengo debba essere invece rimesso in un certo vigore è un problema difficile ed è un problema possiamo dirlo oggi di grande attualità perché se oggi De Gasperi è europeista e non può che non essere lodato dal mondo europeo che si è dilatato arrivare a quasi tutto il continente quindi tra i padri fondatori certamente De Gasperi c'è però quando noi di fronte a problemi di aree che ancora sono nel sottosviluppo e di aree invece che hanno molto di più del necessario dobbiamo non accettare che questo sia un problema che ognuno deve risolvere per i propri fatti ma che l'europeismo deve aiutare anche in quest'opera di perequazione io credo che questo sarebbe facilissimo documentarlo non solo con i discorsi con scritti di De Gasperi ma con quella che è stata tutta la sua azione un europeismo puramente geografico un europeismo che non fosse un europeismo sociale tutto è fuori che l'Europa di De Gasperi continueremo domani e spero che sia almeno fino ad ora abbastanza chiaro quello che lo sforzo di ricordare De Gasperi non dal punto di vista sentimentale ma dal punto di vista politico e morale nazionale non piaceva a De Gasperi la contrapposizione America Unione Sovietica come giubba che dovesse distinguere gli uomini politici e in generale i cittadini italiani non piaceva perché era un modo grezzo di porre quello che era invece un problema politico vero cioè di tener conto di quelle che erano le necessità di difesa per evitare che il prepotente potesse fare la parte del leone ma nello stesso tempo non abbracciare come una forma quasi di fede un modello rispetto ad un altro modello certamente gli Stati Uniti d'America sono attraenti sotto moltissimi aspetti e prima di tutto su un piano storico non poteva dimenticarsi che nelle due guerre mondiali l'America avesse intervenendo fatto pendere la bilancia dalla parte giusta e quindi dovevamo riconoscerlo De Gasperi era attentissima a questo andava di persona nelle terre anche qui del Lazio dove sono i cimiteri militari alleati che ricordano quello che è stato uno sforzo nella seconda guerra mondiale della prima guerra mondiale vorrei dire era ancora più attento perché aveva significato quello che era stato poi il coronamento del sogno che gli italiani avevano avuto però indubbiamente era seccato quando si cercava di introdurre questa forma di equiparazione cioè che gli italiani fossero in parte soggetti agli americani in parte soggetti ai russi questo non era giusto perché non era giusto e lo diceva in maniera esplicita signori il quattro attento non è il patto di un partito è il parlamento italiano che addirittura ancora prima della firma cosa che lui volle andando oltre le procedure le procedure sono che il governo firma un trattato e il parlamento lo ratifica lui volle il dibattito e l'autorizzazione a firmare e poi l'autorizzazione a ratificare quindi un doppio ordine di valutazione parlamentare quello è il parlamento che esprime la nazione esprime chi lo vota e chi non lo vota quel determinato documento laddove il rapporto tra partiti invece è un rapporto che è un fatto chiamiamo di diritto privato è un rapporto che è istitutivo di una disciplina che nulla ha a che fare con quello che è il rispetto di una legge e di un ingaggio che la nazione ha come tale nell'ambito internazionale personalmente in America andò una sola volta aveva grandissimo rispetto una grandissima ammirazione per gli Stati Uniti però ebbe sempre una netta distinzione tra quello che era il modo direi culturale storico di vedere i problemi e quello che era invece un indirizzo di carattere politico che qualche volta finiva col creare a lui delle difficoltà nel senso cioè che non mancavano in America alcuni che riecheggiando situazioni interne italiane lo consideravano debole e transattivo specie quando la Germania la corte di Karlsruhe dichiarò fuori legge il partito comunista allora sembrava quasi che invece questo sforzo di convivenza e questa fiducia che un giorno si sarebbero invece chiarite le posizioni fosse da un punto di vista democratico meno brillante e quasi da doversi far perdonare questo è un punto molto delicato nel rapporto di De Gasperi con gli Stati Uniti il grande piano che il generale Marshall segretario di Stato in America aveva messo in campo di aiuto alla ripresa di tutta l'Europa era imperniato all'inizio assolutamente su un concetto unitario Marshall che aveva conosciuto Stanley lui era stato capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti durante la guerra aveva conosciuto personalmente Stalin e andò a spiegarlo a Stalin e fu molto deluso perché Stalin invece non accettò pensò che le strade dovessero essere diverse tant'è vero che uno dei paesi satelliti dell'Unione Sovietica la Cecoslovacchia che aveva aderito fu costretta a ritirare questa adessione da allora il piano Marshall prese un indirizzo diverso un indirizzo di sostegno per una parte dell'Europa e la ripresa dell'economia in Europa deve molto a questo sostegno come sotto un altro profilo l'ho già accennato una volta il fatto che nella difesa dal possibile espansionismo militare sovietico vi fosse un ruolo così importante degli Stati Uniti associati a quello dei paesi europei rendeva possibile questa difesa che se avessimo dovuto attrezzarla solo con le forze europee forse sarebbe stato anche impossibile ma comunque avrebbe assorbito talmente tutte le risorse che ogni sviluppo economico dell'Europa non vi sarebbe stato quindi certamente questo è un punto fermo del nostro rapporto e che De Gasperi vedeva con molta limpidità era un po' seccato ripeto quando però qualcuno veniva quasi a rimproverarli di non essere abbastanza duro non essere abbastanza fermo in fondo lui diceva mi rimproverate di essere democratico e poi vivono anche delle persone interessanti uno degli ambasciatori americani Zellerbach un grosso industriale della carta californiano era qui fu molto bravo fra l'altro aiutò moltissimo nella partecipazione nostra ai benefici del piano masce ma continuava a ripetere ah voi non sapete quanto io ci rimetto a fare ambasciatore qui ogni giorno perdo x dollari un bel giorno dei gatti di 60 ma chi l'ha obbligato tanto se va via lei poi ce ne mandano un altro non era abituato il personaggio a sentirsi trattare con questa chiarezza ma l'uscito perché qualche volta allora e anche dopo questo tipo di rapporto non era chiaro un rapporto invece eccellente vi era con il cardinale Spellman Spellman da giovane aveva lavorato qui a Roma in segreteria di stato e aveva molto aiutato gli italiani durante il periodo della guerra cercando di attenuare il legittimo astio che c'era in quanto eravamo dei nemici e subito dopo nella ripresa del contatto con il governo degli Stati Uniti era stato veramente attivissimo e aveva inoltre contribuito molto a quelli che erano stati aiuti economici assistenziali nel dopoguerra specie nei primi anni del dopoguerra ecco con lui il rapporto di De Gasper era un rapporto eccellente un rapporto di grandissima stima reciproca per il resto vorrei dire che qualche volta sentiva specialmente negli ultimi tempi sentiva un po' di freddo nei suoi confronti e di questo ebbe anche a lamentarsene potrò citare poi dopo quando parlo della fine dei gasperi l'ultimo biglietto che ricevetti da lui da Sella mentre era la vigilia di Re Carmi negli Stati Uniti era un personaggio rappresentativo degli italiani del Nord America che aveva dato vita e continuava a far uscire i giornali il progresso italo-americano questo signor Pope che però nel periodo fascista era stato molto favorevole al governo dell'epoca bisognava avere anche delle attenuanti in questo ricordo De Gasperi stesso una volta lo ricordò ad un gruppo che veniva a porre il problema e disse attenzione a non dimenticare anche tutta una serie di cose positive che sono state fatte guai per ragioni di massimalismo politico negare che il fascismo ha fatto anche delle cose buone in particolare proprio parlando degli italiani di america diceva il prestigio che la crociera atlantica la crociera di Balbo sia quella direttamente con il nord america quella di Chicago sia quella con il sud america sia del Brasile ed è un prestigio che va per la nazione non è un prestigio in camicia nera questo era certamente un modo di valutare le cose che era molto giusto però contemporaneamente qualche volta la partecipazione a qualche manifestazione quando arrivavano qui delle rappresentanze degli italiani americani era vista da lui con qualche preoccupazione nel senso che forse vi erano anche personaggi che non rappresentavano proprio loro a 24 carati vorrei però qui dire che se noi prendiamo le cronache di tutta una serie di rapporti che sono stati in quegli anni vediamo che intanto vi era per De Gasper un grandissimo rispetto e se qualche circolo di carattere politico appunto lo considerava eccessivamente democratico nel senso cioè di non aderire mai a stringere i freni in materia di libertà però nell'opinione generale era certamente positivo il giudizio che davano di lui in un'occasione De Gasper ebbe modo di esprimere un concetto molto preciso nei confronti di quelle che erano state le leggi razziali ricevendo un comitato di uomini di scienza che giustamente ricordavano il ruolo di Fermi e il ruolo di altri italiani che avevano lavorato negli Stati Uniti e citando in modo specifico un momento molto difficile a comprendersi dell'adesione italiana alle leggi razziali e gli altri proprio espressi su questo un concetto molto bello cioè disse purtroppo non vi è stata qui la reazione necessaria per le leggi razziali io dalla politica ero fuori anzi ero un perseguitato però torna non ad onore di tutta la nostra classe dirigente di aver accettato e in quell'occasione fece anche un riferimento al re di aver accettato quanto di più disumano si può essere perché se c'è una cosa che è contro la nostra tradizione è proprio il dividere gli uomini per metri di differenze razziali ricordo fu una giornata nella quale lo troviamo particolarmente emozionato e questo fece buona impressione sotto un altro aspetto era molto contento quando dei parlamentari americani di lingua italiana venivano in Italia in visita e lo considerava un punto di progresso per quello che era il modo di valutare la nostra nazione anche se non mancava mai di dire però voi che avete sfondato vi richiamate alla mente anche tanti che non hanno sfondato e specialmente voi avete sfondato ma dopo un periodo nel quale la sofferenza di tanti emigranti ha consentito di avere questa inversione di tendenze e di essere considerati come tutti gli altri cittadini mentre in america parlo non solo dei politici ma in generale nelle università nei centri di opinione non creava alcun problema la democrazia cristiana tedesca o in altri paesi vi era sempre un elemento di confusione e di scarsa comprensione da parte loro per la democrazia cristiana in Italia cos'era la democrazia cristiana rispetto alla gerarchia ecclesiastica Roma in cui c'era il papa ma c'era anche la centrale della democrazia cristiana un democristiano che presedeva il governo fu un certo sforzo che fu messo in campo per chiarire ma del tutto non ci riuscimmo forse mai nel senso che è rimasto un po' un equio più tardi sarebbero stati fatti anche dei convegni per chiarire questo problema ma aveva un riflesso per la netta distinzione che viene negli Stati Uniti proprio tra le confessioni religiose e la vita pubblica noi sappiamo che per esempio quando parlo di epoche più antiche quando subito dopo la creazione degli Stati Uniti il Papa Pio VI aveva chiesto al governo degli Stati Uniti se poteva nominare un vescovo cattolico e la risposta di Washington fu ma noi abbiamo fatto la rivoluzione perché tutti possono fare quello che vogliono ci mancherebbe altro che ci vuole il permesso del governo per nominare un vescovo vorrei dire che su questo fondo di comprensione allora il fatto di non avere netta l'idea della differenza in modo particolare quando nelle elezioni del 48 che erano state seguiti in America con molta attenzione avevamo anche decine di migliaia di lettere di italoamericani che incitavano a votare nel senso giusto e si era visto anche un apparato dell'azione cattolica direttamente schierato nella politica per noi questo era chiarissimo ma forse a rendere ancora meno chiaro il concetto di distinzione tra democrazia cristiana e organizzazioni cattoliche contribuiva non in termini positivi comunque questo però è un problema oggi superato sto qui a insistervi ma vorrei dire che è però importante perché avevamo anche momenti proprio di una certa difficoltà quando uno dei segretari di stato Foster Dallas era fra l'altro seccatissimo perché un suo figlio si era convertito al cattolicismo guarda come sono buffe le cose questo figlio adesso è cardinale è un gesuita che è cardinale e lui era fedele della cosiddetta chiesa di Cristo una setta protestante avevano messo una sede qui a Roma e siccome era contro in quel momento prima della riforma dei concordanti era contro le nostre edi si doveva levare continuamente questa targa al di fuori allora questo ancora di più aggravò in lui e di conseguenza nell'opinione pubblica questa confusione ma come mai il governo impediva che vi fosse questa targa della chiesa di Cristo qui in Roma furono piccolissimi episodi però in realtà poi che alla fine non è che rendevano impossibili dei rapporti però come sottofondo di una certa non totale comprensione credo che debbano essere collocati domani sera chiuderemo questo nostro colloquio e spero che completi la visione di un legato di quali ho conosciuto e che merita davvero di essere tuttora considerato come uno dei punti fermi per il modo di concepire la politica il cruccio di De Gasperi era sempre quello di far capire bene all'opinione pubblica quello che era il fondo dei problemi qual era la scindia di trasmissione tra i problemi e la valutazione che la gente poteva darne certamente i partiti erano uno di questi strumenti e la democrazia cristiana assolveva questo compito per quello che le concerneva più o meno aveva un milione di scritti nel periodo di De Gasperi però De Gasperi aveva sempre la preoccupazione ripeto che non fosse sufficiente questo fosse un elemento attivo un elemento che poteva aiutare ma che occorresse avere le idee guida chiare in modo tale da essere recepite dalla famosa opinione pubblica e vogliamo dire che in quel periodo la stampa parlo della stampa non di partito la stampa di informazioni normalmente era governativa questo forse va detto allora poteva farsi affidamento su le cronache come trasmissione di valutazioni abbastanza obiettive certamente su alcune cose però non avevamo poi l'apporto quando ebbe occasione di accennarne quando noi veramente facciamo una politica di riforma è chiaro che i colpiti non erano lì ad applaudire e se avevano una possibilità di influire su una stampa che a loro faceva riferimento è chiaro che non davano giudizi di carattere favorevole però la preoccupazione di fondo era poi questa di dire come si forma l'opinione pubblica è un documento essenziale che possiamo considerare non è un modo così sentimentale il testamento di De Gasperi De Gasperi che era già in condizioni non buone ma al congresso della democrazia cristiana del giugno del 1954 lui morì il 19 di luglio fece un lunghissimo discorso e questo discorso fa proprio un'esposizione di questa necessità di considerare che il nostro paese è sano se è un paese pluralistico se hanno modo di avere voce anche coloro che non sono robusti dal punto di vista sociale che però deve anche tener conto che c'è un insieme di addendi che devono operare gli addendi si chiamano uomini di cultura si chiamano operatori economici si chiamano sindacati si chiamano organizzazioni religiose si chiamano centri sportivi fece proprio un elenco di questa realtà a cento facce ma cento facce che non si contrappongono l'una all'altra ma devono avere ognuna la possibilità di contare e allora questo concetto del pluralismo proprio in contrasto con quello che era stato l'insegnamento di Mussolini chi non è con noi è contro di noi o un fondamentalismo comunista che esisteva ma credo che sia tra le cose che di De Gasperi devono essere ricordate come insegnamenti tra i più incisivi che cos'è la socialità è un termine che era stato fra l'altro anche usato male la repubblica sociale era stato nel periodo dell'occupazione tedesco e De Gasperi qualche volta ironizzava diceva stiamo attenti che questo aggettivo sociale viene usato un po' in altre maniere parlava delle latterie sociali ironizzava ripeto su questo ma sullo sfondo invece era un concetto essenziale la socialità cioè di dare a ciascuno quello che è uguale ma di dare a chi ha più bisogno di dare un sostegno una spinta per rendere le diseguaglianze meno aspre tutto il programma che De Gasperi tracciò le linee ricostruttive della democrazia cristiana è tutto legato proprio a questo concetto di una elevazione sociale un concetto profondamente cristiano ma anche di cristianesimo naturale nel senso cioè che anche uomini non religiosi ma se sono uomini giusti sentono come deve essere data la possibilità a chi ha avuto meno opportunità e ha meno opportunità di colmare un po' questo divario l'indirizzo globale di questa socialità poi si trasforma in altrettante linee guida compreso se si guarda bene compreso quello che è il concetto di sicurezza militare è uno dei punti fermi di socialità nel senso cioè che ti consente con uno sforzo nel caso specifico mi riferisco a patatanti e alla sua dottrina con uno sforzo di chi è più ricco che viene a sostegno di uno che è meno provveduto per consentire anche adesso di avere la necessaria tutela e non essere sopraffatto c'era poi un punto che ricorreva spesso e che adesso cito il discorso finale del giugno del 54 ma ricorreva spesso l'importanza degli insegnanti partendo proprio dall'influsso del maestro e della maestra elementare degli altri ne faceva spessissimo scendo nei suoi discorsi e nelle sue progettazioni reputando essenziale per la formazione del carattere del cittadino questa istruzione elementare che veniva data da una tradizione di maestri e di maestre che rispettava moltissimo poteva anche essere un certo interessamento politico nel senso che una prevalenza di questi maestri maestre erano cattolici però non era questa la motivazione era la coscienza che se come per una pianta il primo innesto la prima irrorazione non è nel senso giusto è inutile pensare che possa essersi uno sviluppo positivo che vi possa essere una crescita di carattere naturale che consenta quello che deve essere il cammino ulteriore questo concetto di fondo di una democrazia che parte proprio dalla istruzione parte dalle radici della vita dei piccolissimi ragazzi è un concetto importante che contrastava con quello che invece è qualche volta un concetto aristocratico di vita democratica rispettoso solo delle forme e non della sostanza fu un richiamo una volta in uno dei discorsi di De Gasperi alla democrazia cristiana che fece molto pensare disse badate che in una lettera di San Paolo dice che i cristiani debbano essere molto tolleranti tra di loro se ha bisogno di dirlo ai cristiani io penso che ancora di più vi sia un bisogno di dirlo ai democristiani e ne prese lo spunto per parlare della milizia politica come dovere come formazione non come privilegio non come prevaricazione e proprio l'elogio della umiltà la condanna della superbia erano i momenti migliori di De Gasperi erano i momenti nei quali apparentemente non faceva politica e invece faceva politica e come cioè dava delle istruzioni esprimeva delle linee guida che erano essenziali poi le progettazioni i decreti le bozze i regolamenti erano la concretizzazione ma se mancava questo humus se mancava questa radice veramente era qualche cosa di diverso allora la politica diventava un fatto tecnico un fatto quasi esclusivamente professionale non era facile capire questo perché vi era anche la tentazione poi di considerare invece le distinzioni politiche come altrettanti scomparti nei quali ognuno non ha comunicativa con gli altri e nelle analisi della società mi arrivava anche a avere delle curiose specificazioni ricordo una volta che era stato un momento nel quale diciamolo pure chi è un cardinano ottaviani aveva suggerito di non andare alla ripresa dei rotari perché i rotari sono qualche cosa di estremamente laicista forse sono la stessa cosa della massoneria io ero stato l'atore di questo messaggio mi ero ben guardato dal dirlo a De Gasperi e De Gasperi spesso quando aveva modo con stranieri ma anche con italiani parlare dei roti aveva grande rispetto come elementi che aiutavano nella formazione e nell'aggiornamento della conoscenza di problemi fui molto contento poi perché molti anni dopo ahimè De Gasperi era morto mi trovai invitato ad una cerimonia nella quale uno dei rotari di Roma dava un premio proprio al cardinale Ottaviani e non mi perdetti l'occasione poi di dirgli meno male che io non l'avevo obbedito quel giorno ma lo ricordo perché perché questo senza aperto cioè che il partito è una necessità il partito è uno strumento ma guai se si esaurisce il partito nel credersi il centro dell'universo e nel credersi tale da poter soddisfare a tutte le esigenze una delle critiche che faceva spesso al partito fascista era stato proprio quello di avere creato il partito e cioè avere distrutto quelle che sono le regole di convivenza e anche logicamente di pluralismo che in una società sono un po' come l'ossigeno nella vita di ciascuno di noi agli inizi di agosto del 54 dopo il congresso io l'avevo messo in programma e avevo accettato volentieri l'invito ad andare negli Stati Uniti per il viaggio inaugurale dell'Andrea Doria poi un cambiamento di programma mi dette modo e ne fui moralmente molto soddisfatto di essere qui quando Regasperi improvvisamente morì e avevo avuto un biglietto da lui proprio per questo viaggio degli Stati Uniti dicendo quante cose avremmo da dirci con gli Stati Uniti se era stato un po' il momento ne ho fatto riferimento in una di queste puntate con l'ambasciatrice Luce nella quale lui aveva visto qualche critica forse al suo metodo di azione rispetto ad un metodo considerato più robusto di pella partecipai ai funerali del presidente che morì stupendoci tutti perché tutti speravamo che la montagna li restituisse con l'estate un po' di vigore potesse tornare a Roma la manifestazione di popolo e la eco internazionale fu molto forte ma la cosa importante io penso sia quella di dire che cosa resta di De Gasperi nel senso cioè non è un metodo politico si può discutere la proporzionale come legge elettorale si può discutere un modo di concepire le collaborazioni tra diverse forze politiche nella maggioranza governativa ma la grande impostazione di guardare lontano di non contentarsi di vedere che gli orizzonti si dilatano non fece a tempo a sentire parlare di globalizzazione ma di fatto la sua formazione che lo spinse ad essere qui il propagandista più forte dell'Europa il propagandista più forte di una visione della pace in un ampito molto più vasto di quelle che erano le tradizioni il superamento del nazionalismo che eppure era stato un elemento costitutivo delle realtà statali in molte parti dell'Europa io credo che se c'è da riconsiderare proprio anche il modo di far politica ma in modo specifico qualche cosa di più perché De Gasperi dava fiducia perché resta come un esempio per la sua coerenza personale De Gasperi non ebbe mai delle transazioni sui principi e non profittò mai della vita pubblica per avere anche forse quello che poteva essere un giusto compenso dei momenti in cui la società gli aveva tolto anche quello in cui ogni cittadino ha il diritto di esistere De Gasperi è un cristiano io non entro adesso nel problema c'è stata un'iniziativa del processo di beatificazione gli altoatesini non sono favorevoli a questo per ragioni di carattere politico ma io lascerei perdere non penso che questo spero di non essere considerato un eretico accresca o diminuisca la fisionomia di De Gasperi che De Gasperi sia un grande cristiano e che De Gasperi ci abbia anche insegnato nei momenti difficili anche insegnato a pregare questo è fuori discussione ma De Gasperi resta come l'esempio di un concetto di politica con la P maiuscola e io vorrei che questa occasione adesso dei 50 anni dalla morte ma anche oltre ci si soffermasse abbastanza spesso a confrontare quella che è la posizione di De Gasperi con quelle che sono delle esigenze attuali non sono mai le stesse certamente guai a credere alla standardizzazione della vita politica però indubbiamente io credo che sia difficile riavere un personaggio che poter pilotare la rinascita democratica di un paese e poter portare le regole migliori all'attenzione concreta e di farci stimare dal mondo dopo un lungo periodo nel quale eravamo stati separati di un paese 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 Grazie a tutti.